I pensieri sono cose. Come utilizzarli per creare la vita che desideri. Di Prentice Malford. Traduzione dall'inglese ed edizione audiolibro 2021 a cura di David De Angelis. Narrato da Vita Wolf. Tutti i diritti sono riservati. Capitolo 1. La mente materiale e la mente spirituale. Ad ogni essere umano appartiene un sé superiore e un sé inferiore. Un sé o mente dello spirito che sta crescendo da secoli è un sé del corpo, che è solo una cosa di ieri. Il sé superiore è pieno di idee stimolanti, suggerimenti e aspirazioni. Questo lo riceve dal potere supremo. Tutto questo il sé inferiore o animale considera come selvaggio e visionario. Il sé superiore sostiene possibilità e potere per noi più grandi di quelli che gli uomini e le donne ora possiedono e godono. Il sé inferiore dice che possiamo vivere ed esistere solo come gli uomini e le donne hanno vissuto ed esistito prima di noi. Il sé superiore desidera la libertà dalla pesantezza, dalle limitazioni, dai dolori e dalle disabilità del corpo. L'io inferiore dice che siamo nati per loro, nati per essere malati, nati per soffrire, e dobbiamo soffrire come hanno fatto tanti prima di noi. Il sé superiore vuole un proprio standard per il bene e il male. Il sé inferiore dice che dobbiamo accettare uno standard fatto per noi da altri, da opinioni, credenze e pregiudizi generali e di lunga data. Sii fedele a te stesso, è un adagio spesso ripetuto, ma a quale sé? Quello superiore o quello inferiore? Voi avete in un certo senso due menti, la mente del corpo e la mente dello spirito. Lo spirito è una forza e un mistero. Tutto ciò che sappiamo o che potremmo mai sapere di esso è che esiste, ed è sempre all'opera e produce tutti i risultati nelle cose fisiche viste dal senso fisico e molte altre non viste. Ciò che si vede di qualsiasi oggetto, un albero, un animale, una pietra, un uomo, è solo una parte di quell'albero, animale, pietra o uomo. C'è una forza che per un certo tempo lega questi oggetti nella forma in cui li vedi. Questa forza agisce sempre su di loro in misura maggiore o minore. Costruisce il fiore fino alla sua piena maturità. La sua cessazione di agire sul fiore o sull'albero causa ciò che chiamiamo decadenza. Cambia costantemente la forma di tutte le forme, di ciò che si chiama materia organizzata. Un animale, una pianta, un essere umano non sono in forma fisica questo mese o quest'anno come saranno il mese prossimo o l'anno prossimo. Questa forza sempre attiva, sempre variabile, che sta dietro e in un certo senso crea tutte le forme di materia, la chiamiamo spirito. Vedere, ragionare e giudicare della vita e delle cose nella conoscenza di questa forza fa quello che si chiama mente spirituale. Abbiamo attraverso la conoscenza il meraviglioso potere di usare o dirigere questa forza quando la riconosciamo e sappiamo che esiste in modo da portarci salute, felicità e pace eterna della mente. Composti come siamo da questa forza ne attiriamo sempre di più a noi e la facciamo diventare parte del nostro essere. Con più di questa forza deve arrivare sempre più conoscenza. All'inizio, nelle nostre esistenze fisiche, le permettiamo di lavorare alla cieca. Allora siamo nell'ignoranza di quella condizione conosciuta come mente materiale. Ma come la mente attraverso la sua crescita o l'aumento di questo potere diventa sempre più risvegliata, si chiede. Perché c'è così tanto dolore, afflizione e delusione nella vita fisica? Questa domanda è il primo grido di risveglio della mente spirituale ed è una domanda sincera o una richiesta di conoscenza che col tempo deve trovare risposta. La mente materiale è una parte di voi stessi, che è stata appropriata del corpo ed educata dal corpo. È come se si insegnasse a un bambino che le ruote di un battello a vapore fanno muovere la barca e non si dicesse nulla del vapore che dà il vero potere. Cresciuto in tale ignoranza, il bambino, se le ruote smettessero di muoversi, non cercherebbe più lontano la causa del loro arresto che cercare di trovare dove ripararle, proprio come ora tanti dipendono interamente dalla riparazione del corpo fisico per assicurare il suo movimento sano e vigoroso, senza mai sognare che l'imperfezione sta nella vera forza motrice, la mente. La mente del corpo o mente materiale vede, pensa e giudica interamente dal punto di vista materiale o fisico. Vede nel proprio corpo tutto ciò che c'è in te. La mente spirituale vede il corpo come uno strumento che la mente o il vero sé usa per trattare con le cose materiali. La mente materiale vede nella morte del corpo la fine di tutto ciò che c'è di voi. La mente spirituale vede nella morte del corpo solo la caduta dallo spirito di uno strumento logoro. Essa sa che tu esisti come prima, solo invisibile all'occhio fisico. La mente materiale vede la forza fisica come proveniente interamente dai vostri muscoli e tendini e non da una fonte senza il vostro corpo. Vede in tale potere persuasivo, come si può avere con la lingua o la penna, l'unica forza che si possiede per trattare con le persone per ottenere risultati. La mente spirituale saprà in tempo che il vostro pensiero influenza le persone a favore o contro i vostri interessi, anche se i loro corpi sono lontani migliaia di chilometri. La mente materiale non considera il suo pensiero come un elemento reale come l'aria o l'acqua. La mente spirituale sa che ognuno dei suoi mille pensieri segreti quotidiani sono cose reali e che agiscono sulle menti delle persone a cui sono inviati. La mente spirituale sa che la materia o il materiale è solo un'espressione dello spirito o della forza, che tale materia è sempre mutevole in accordo con lo spirito, che si fa o si esteriorizza nella forma che chiamiamo materia. E quindi, se il pensiero di salute, forza e recupero è costantemente tenuto nella mente, tale pensiero di salute, forza e ringiovanimento si esprimerà nel corpo, rendendo la maturità mai cessata, il vigore mai finito e la cutezza di ogni senso fisico sempre crescente. La mente materiale pensa che la materia, o ciò che è conosciuto dai nostri sensi fisici, sia la parte più grande di ciò che esiste. La mente spirituale considera la materia come l'espressione più grossolana o più grezza dello spirito e la parte più piccola di ciò che esiste realmente. La mente materiale è resa triste dalla contemplazione della decadenza. La mente spirituale dà poca importanza alla decadenza, sapendo che in tale decadenza lo spirito, o la forza mobile in tutte le cose, sta semplicemente prendendo il corpo morto o l'albero marcio a pezzi e che li ricostruirà, come prima, temporaneamente, in qualche altra nuova forma fisica di vita e bellezza. La mente del corpo pensa che i suoi sensi fisici di vedere, udire e sentire costituiscano tutti i sensi che possedete. La mente superiore, o mente dello spirito, sa di possedere altri sensi affini a quelli della vista e dell'udito fisici, ma più potenti e di vasta portata. La mente del corpo è stata variamente chiamata mente materiale, mente mortale e mente carnale. Tutti questi termini si riferiscono alla stessa mente, o in altre parole, a quella parte della vostra vendita reale che è stata educata in errore dal corpo. Se foste nati e cresciuti interamente tra persone che credevano che la terra fosse una superficie piatta e non girasse intorno al sole, nei primi anni della vostra crescita fisica credereste come loro. Esattamente in questo modo, nei vostri primi anni, assorbite il pensiero e la credenza di coloro che vi sono più vicini, che pensano che il corpo sia tutto ciò che c'è di loro, e giudicano ogni cosa dalla sua interpretazione fisica per loro. Questo fa la vostra mente materiale. La mente materiale, vedendo ciò che le sembra, profondità, dissoluzione e decadenza in tutta l'organizzazione umana, e ignorando il fatto che il vero sé o intelligenza ha in tale apparente morte solo gettato via un involucro logoro, pensa che la decadenza e la morte siano il fine ultimo di tutta l'umanità. Per questo motivo non si può evitare un'oscurità o una tristezza proveniente da tale errore, che ora pervade tanta parte della vita umana al presente. Un risultato o una reazione di tale tristezza, nata dalla mancanza di speranza, è uno spirito sconsiderato per ottenere ogni possibile gratificazione e piacere, senza tener conto del diritto e della giustizia, finché dura il corpo attuale. Questo è un grande errore. Tutto il piacere così ottenuto non può essere duraturo. Porta inoltre cento volte più miseria e delusione. La mente spirituale insegna che il piacere è il grande scopo dell'esistenza, ma indica modi e mezzi per ottenere una felicità duratura diversi da quelli provenienti dall'insegnamento della mente materiale. La mente spirituale, o mente aperta a forze più alte e nuove della vita, insegna che c'è una legge che regola l'esercizio di ogni senso fisico. Quando impariamo e seguiamo questa legge, le nostre gratificazioni e i nostri possedimenti non si rivelano fonti di maggior dolore che di felicità, come accade a molti. Per mente spirituale si intende una visione mentale più chiara delle cose e delle forze che esistono, sia in noi che nell'universo, e delle quali la razza è stata per la maggior parte nella totale ignoranza. Ora abbiamo solo una visione di queste cose, quelli di alcuni sono relativamente un po' più chiare di quelle di altri, ma è stato mostrato abbastanza per convincere alcuni che le cause reali ed esistenti della malattia, del dolore e della delusione dell'umanità non sono state viste affatto in passato. In altre parole, la razza è stata come i bambini, credendo che il mugnaio all'interno girasse i bracci del mulino a vento, perché qualcuno glielo aveva detto. Così insegnato, sarebbero rimasti nella totale ignoranza che il vento era la forza motrice. Questa illustrazione non è affatto un'immagine esagerata dell'ignoranza esistente, che rifiuta l'idea che il pensiero sia un elemento intorno a noi abbondante come l'aria, e che, come ciecamente diretto da individui e masse di individui nel dominio della mente materiale o dell'ignoranza, sta girando i bracci del mulino a vento, a volte in una direzione, a volte in un'altra, a volte con risultati buoni, a volte cattivi. Un vestito non è il corpo che lo indossa, eppure la mente materiale ragiona molto in questo modo. Non conosce una cosa come un vestito per lo spirito, perché non sa che il corpo e lo spirito sono due cose distinte. Essa ragiona che l'abito, il corpo, è tutto ciò che c'è dell'uomo o della donna. Quando quell'uomo o quella donna cade a pezzi per debolezza, vede solo l'abito che va a pezzi, e tutti i suoi sforzi per rendere quell'uomo o quella donna più forte sono messi sull'abito, invece di fare sforzi per rinforzare il potere interno che ha fatto l'abito. Probabilmente non ci sono due individui esattamente uguali per quanto riguarda la condizione relativa o l'azione su di loro delle loro menti materiali e spirituali. Con alcuni lo spirituale non sembra affatto risvegliato. In altri ha cominciato a stirarsi e a strofinarsi gli occhi, come fa una persona al risveglio fisico, quando tutto appare ancora vago e indistinto. Altri sono più pienamente risvegliati, sentono in misura maggiore o minore che ci sono forze che appartengono a loro prima impensate. È con questi che la lotta per la padronanza tra la mente materiale e quella spirituale è probabile che sia più dura, e tale lotta per un certo tempo è probabile che sia accompagnata da disturbi fisici, dolore o mancanza di agio. La mente materiale è, fino a quando non viene conquistata e convinta delle verità, costantemente ricevuta dalla mente spirituale, in guerra e in opposizione ad essa. La parte ignorante di voi stessi non ama molto abbandonare le sue abitudini di pensiero a lungo abituate. Il suo costa una lotta, in ogni caso, all'inizio, per ammettere che siamo stati sbagliati e rinunciare a opinioni a lungo detenute. La mente materiale vuole continuare in un solco di vita e di idee, come ha sempre fatto e come migliaia di persone stanno facendo ora. Non le piace il cambiamento, sempre di più, man mano che la crosta del vecchio pensiero tenuto di anno in anno cresce più spessa su di essa. Vuole continuare a vivere nella casa che ha abitato per anni, vestire alla moda del passato, andare a lavorare e tornare ogni anno alla stessa ora. Rifiuta e disprezza, dopo una certa età, l'idea di imparare qualsiasi nuova realizzazione, come la pittura o la musica, la cui maggiore utilità è quella di distogliere la mente, di riposarla e di permettervi di vivere in altri dipartimenti dell'essere. Tutto ciò, a parte il piacere che vi viene dato quando la mente e lo spirito insegnano al corpo sempre più abilità ed esperienza nell'arte che perseguite. La mente materiale vede come uso principale di qualsiasi arte solo un mezzo per portare denaro, e non in tale arte un mezzo per dare varietà alla vita, dissipare la stanchezza, riposare quella parte della mente dedicata ad altri affari, migliorare la salute e aumentare il vigore della mente e del corpo. Si aggrappa all'idea di essere troppo vecchi per imparare. Questa è la condizione di tante persone che hanno raggiunto o superato la mezza età. Vogliono sistemarsi, accettano come inevitabile l'idea di invecchiare. La loro mente materiale dice loro che i loro corpi devono gradualmente indebolirsi, ridursi dalla pienezza e dalle proporzioni della giovinezza, decadere e infine morire. Le menti materiali dicono che questo è sempre stato, e quindi sempre deve essere. Accettano completamente l'idea. Dicono abbastanza inconsciamente deve essere. Dire che una cosa deve essere è il potere stesso che la crea. La mente materiale vede allora il corpo sempre come se stesse gradualmente decadendo, anche se non le piace l'immagine, e la mette fuori dalla vista il più possibile. Ma l'idea si ripresenterà di tanto in tanto, come suggerito dalla morte dei loro contemporanei. E mentre lo fa, pensano deve. E quello stato d'animo indicato dalla parola deve porterà inevitabilmente risultati materiali nella decadenza. La mente spirituale, o più illuminata, dice «Se vuoi aiutare a scacciare la malattia, rivolgi il tuo pensiero il più possibile alla salute, alla forza e al vigore, e a cose materiali forti, sane e vigorose, come le nuvole in movimento, le brezze fresche, la cascata, l'impeto dell'oceano, alle scene boschive e agli alberi sani che crescono, agli uccelli pieni di vita e di movimento, perché così facendo rivolgi su te stesso una vera corrente, o questo pensiero sano che dà vita, che ti è suggerito e portato dal pensiero di tali oggetti materiali vigorosi e forti. E soprattutto, cercate di affidarvi e confidare in quel potere supremo che ha formato tutte queste cose e molto di più, e che è la parte infinita e inesauribile del vostro sé superiore o mente spirituale. E come la vostra fede aumenta in questo potere, così aumenterà sempre il vostro potere». «Sciocchezze», dice la mente ultramateriale. «Se il mio corpo è malato, devo fare qualcosa per curare quel corpo, con cose che posso vedere e sentire. Questa è l'unica cosa da fare». Per quanto riguarda il pensare, non fa differenza cosa penso, malato o bene. Attualmente, in un caso simile, una mente il cui senso di queste verità nuove per lei ha appena iniziato a risvegliarsi, in molti casi si lascerà per un certo tempo sopraffare e ridicolizzare da tale idea della sua stessa mente materiale, o da una parte non istruita di se stessa. E in questo è molto probabile che sia assistita da altre menti materiali, che non si sono affatto svegliate a queste verità e che sono temporaneamente tutte più forti attraverso la positività dell'ignoranza. Queste sono come persone che non possono vedere tanto lontano quanto si può vedere con un telescopio, e che possono essere perfettamente oneste nella loro incredulità riguardo a ciò che la persona con il telescopio vede. Anche se tali persone non dicono una parola o discutono contro la credenza della mente parzialmente risvegliata, tuttavia il loro pensiero agisce su tale mente come una barriera, o cieco a questi scorci di verità. Ma quando la mente spirituale ha iniziato a risvegliarsi, niente può fermare il suo ulteriore risveglio, anche se il materiale può ritardarlo per un certo tempo. Il tuo vero io può non essere a volte dove si trova il tuo corpo, dice la mente spirituale. È dove si trova la tua mente, nel negozio, nell'ufficio, nell'officina, o con qualche persona a cui sei fortemente legato. E tutti questi possono essere in paesi o città lontani da quello in cui risiede il tuo corpo. Il tuo vero sé si muove con una rapidità inconcepibile come si muove il tuo pensiero. Sciocchezze, dice la tua mente materiale. Io stesso sono ovunque sia il mio corpo e da nessun'altra parte. Molti pensieri o idee che voi rifiutate, come visionari o come capriccio o fantasia, provengono dal suggerimento della vostra mente spirituale. È la vostra mente materiale che lo rifiuta. Nessuna idea del genere viene se non c'è una verità in essa. Ma questa verità potrebbe non essere in grado di realizzarla immediatamente in una relativa perfezione. Duecento anni fa qualche mente può aver visto l'uso del vapore come forza motrice, ma quella forza motrice non avrebbe potuto allora essere realizzata come lo è oggi. Era necessaria una certa crescita precedente, una crescita e un miglioramento nella fabbricazione del ferro, nella costruzione delle strade e nei bisogni della gente. Ma l'idea era una verità. Sostenuta da varie menti, ha portato il vapore come forza motrice alla sua attuale relativa perfezione. Ha lottato contro e superato ogni argomento e ostacolo posto nella sua strada da menti materiali e ottuse. Quando avete un'idea qualsiasi e vi dite in sostanza, beh, una cosa del genere potrebbe essere, anche se ora non riesco a vederla, rimuovete una grande barriera all'esecuzione e alla realizzazione da parte vostra delle nuove e strane possibilità che avete in serbo per voi. La mente spirituale vede oggi appartenere a se stessa un potere per realizzare ogni qualsiasi risultato nel mondo fisico, più grande di quello che le masse sognano. Vede che per quanto riguarda le possibilità della vita siamo ancora in una densa ignoranza. Vede tuttavia alcune cose, la salute perfetta, la libertà della decadenza, la debolezza della morte del corpo, il potere di transitare, viaggiare e osservare indipendentemente dal corpo e i metodi per ottenere tutte le cose materiali necessarie e desiderabili attraverso l'azione e il lavoro della mente o del pensiero silenzioso, sia da soli che in cooperazione con altri. La condizione della mente da desiderare è l'intero dominio della mente spirituale, ma questo non implica il dominio o il controllo nel senso di una dominazione tirannica della mente materiale da parte della mente spirituale. Implica che la mente materiale sarà spazzata via per quanto riguarda la sua ostinata resistenza e opposizione ai suggerimenti dello spirituale. Implica che il corpo diventerà il servo volontario o piuttosto l'assistente dello spirito. Implica che la mente materiale non si sforzerà di comportarsi come la superiore quando è solo l'inferiore. Implica quello stato in cui il corpo presterà volentieri la sua cooperazione a tutti i desideri della mente spirituale. Allora tutto il potere può essere dato al tuo spirito. Allora non ci sarà bisogno di spendere forza per resistere all'ostilità della mente materiale. Allora tutta questa forza sarà usata per promuovere le nostre imprese, per portarci bene i materiali, per elevarci sempre più in alto in regni di potere, pace e felicità, per compiere quelli che ora sarebbero chiamati miracoli. Né la mente materiale né il corpo materiale devono essere conquistati e fusi nello spirituale attraverso un corso di severa autocensura e autonegazione, né autopunizione e inespiazione dei peccati commessi, né ascetismo. Questo vi renderà solo più duri, severi, bigotti e spietati, sia con voi stessi che con gli altri. È da questa perversione della verità che sono sorti termini come crocifiggere il tempo e soggiogare la mente inferiore o animale. È da questa perversione che sono nati ordini e associazioni di uomini e donne che, andando ad un altro estremo, cercano la sanità nella negazione di sé e nella penitenza. La santità implica interezza o l'azione intera dello spirito sul corpo, o il perfetto controllo del proprio spirito su un corpo, attraverso la conoscenza e la fede nella nostra capacità di attingere sempre di più dal potere supremo. Quando non hai più pazienza con te stesso, attraverso l'aggressività della mente materiale, attraverso i tuoi frequenti slittamenti e cadute nei tuoi peccati più gravi, attraverso periodi di petulanza o malumore o eccessi in qualsiasi direzione, non fai alcun bene e solo male nel chiamare o pensare per te stesso nomi duri. Non dovresti chiamarti un vile peccatore più di quanto non chiameresti qualsiasi altra persona un vile peccatore. Se lo fai, metti fuori nel pensiero il vile peccatore e lo rendi temporaneamente una realtà. Se nella tua visione mentale insegna te stesso che sei completamente depravato e un vile peccatore, stai inconsciamente facendo questo il tuo ideale e crescerai inconsciamente fino adesso finché il dolore e il male derivanti da tale crescita malsana, non ti faranno tornare indietro o distruggeranno il tuo corpo. Perché da questo stato d'animo, che in passato è stato molto inculcato, nasce la durezza, il bigottismo, la mancanza di carità per gli altri, una visione dura, severa e cupa e malsana della vita. E queste condizioni mentali porteranno sicuramente malattie fisiche. Quando la mente materiale viene messa via, o in altre parole, quando ci convinciamo dell'esistenza di queste forze spirituali, sia in noi stessi che al di fuori di noi, e quando impariamo ad usarle correttamente, perché le stiamo usando ora e le abbiamo sempre usate in qualche modo, allora, per usare le parole di Paolo, la fede viene inghiottita nella vittoria e il pungiglione e la paura della morte vengono rimossi. La vita diventa allora un glorioso avanzamento dal piacere di oggi al più grande piacere di domani. E la frase vivere significa solo godere. Capitolo 2 Chi sono le nostre relazioni? L'uomo o la donna che vi assomiglia di più, per gusti, motivi e abitudini di pensiero, e da cui vi sentite più attratti, può non essere fratello, sorella, cugino o parente fisico. Ma tale persona è per te un parente molto vicino. I tuoi fratelli o le tue sorelle possono non essere affatto simili a te nella mente, nei gusti e nelle inclinazioni. Potete frequentarli perché sono membri della famiglia, ma se non li conosceste come fratelli, sorelle o altri parenti, o se vedeste altrove le loro esatte controparti di carattere, tali controparti potrebbero non piacervi affatto. Il rapporto fisico o di sangue ha pochissima influenza sul rapporto reale o mentale. È possibile che un fratello o una sorella, un padre o una madre siano molto vicini a voi nel pensiero e nella simpatia. Ancora, è possibile che un padre o una madre, un fratello o una sorella siano molto lontani da voi nel pensiero e nella simpatia, e che vivano in un regno o in un'atmosfera di pensiero molto diversa dalla vostra. Non potete vivere in modo sano e confortevole se non con coloro la cui atmosfera di pensiero, un'emanazione letterale, è simile alla vostra. Il rapporto fisico può fornire o meno tale atmosfera. Costringete un lavoratore, il cui pensiero va poco oltre il mangiare, il bere e il lavoro quotidiano, a vivere esclusivamente con una compagnia di artisti e filosofi, senza vedere nessuno del suo stesso genere e ordine di pensiero, e lo spirito di quell'uomo si deprimerà col tempo, e la sua salute ne soffrirà. La stessa legge funziona quando la mente superiore è costretta a una costante associazione con quella inferiore. Tale può essere la vostra posizione tra i parenti fisici. I bambini vivono, prosperano e sono esaltati dal pensiero atmosfera che emana dai loro compagni di gioco. Tagliateli completamente fuori da tale associazione ed essi si afflosciano. Da bambino vivevi su questa atmosfera dell'infanzia, cioè vivevi nel rapporto spirituale dell'infanzia, e riguardo ad un certo nutrimento di pensiero giocoso, lo ricevevi e lo davi anche ai tuoi compagni di gioco. Vi chiederete ora perché non riuscite a risvegliare il vecchio sentimento e l'euforia che viene dalle associazioni dell'infanzia o della gioventù. È perché il vostro spirito ha bisogno di un altro cibo o atmosfera di pensiero, che solo un altro e probabilmente più alto ordine di mente può dare, quello ricevuto, e il tempo passerebbe velocemente e piacevolmente come con i soci della vostra precedente esistenza fisica. Coloro che possono fornirlo sono le vostre vere relazioni. Ma tali relazioni non possono esistere se non potete fornire loro o in cambio la stessa qualità di pensiero. Le relazioni reali o spirituali di molti commercianti, meccanici e coloro che svolgono altre attività sono i loro fratelli commercianti, meccanici o coloro che svolgono occupazioni simili. Lo dimostrano con la loro vita. Si sentono più a casa con coloro i cui affari sono simili ai loro, che non nei luoghi che possono chiamare casa, nei quali ricorrono per mangiare, dormire e trascorrere spesso una noiosa domenica, desiderando l'arrivo del lunedì e la vita più gradita del mercato e del negozio. Perché lì sono tra i loro veri parenti e sono letteralmente guidati e stimolati dall'atmosfera di pensiero fornita loro da questi parenti, che anche loro forniscono a loro volta. Ogni ordine di mente o qualità di pensiero deve essere associato a un corrispondente ordine di mente e qualità di pensiero, o ne soffrirà. Ma il rapporto di sangue ha poco a che fare con la fornitura di tale ordine di pensiero. C'è una grande quantità di tirannia inconscia esercitata attraverso i legami di relazione fisica. I bambini spesso, quando sono cresciuti, collocano nella loro mente le madri o i padri in una sfera e in un metodo di vita a cui essi possono o non possono interessare di appartenere. Allora il pensiero, raramente se non mai espresso, corre in sostanza così. La mamma sta diventando troppo vecchia per indossare colori vivaci, deve vestirsi in modo più sobrio. È ridicolo che la mamma, se è vedova, si risposi. In questo sentimento entrano talvolta ragioni di denaro molto forti. La madre, naturalmente, non vuole entrare nella nostra vita più gaia, così può rimanere a casa e prendersi cura dei bambini. O è tempo che il padre si ritiri dagli affari. O l'idea del padre di sposarsi di nuovo è ridicola. Nessuna forza è più sottile nel suo funzionamento, né più potente, nel portare risultati per il bene o per il male, che la produzione costante del pensiero di una o più menti combinate, su una persona, per ottenere qualche risultato desiderato. E se questo è fatto in modo intelligente e cosciente, o alla cieca, la forza opera lo stesso risultato. Ora, un flusso continuo di questo tipo di pensiero, proveniente possibilmente da tre o quattro menti alle quali la madre è stata strumentale nel fornire nuovi corpi e continuamente diretto sulla madre, è una forza molto potente per dirigerla e mantenerla esattamente dove i bambini trovano più conveniente averla. Tutta la corrente convenzionale del pensiero scorre anche come aiuto in questa direzione. La madre, dice questo sentimento inespresso, deve naturalmente invecchiare, ritirarsi gradualmente da una vita più attiva e gaia, e ritirarsi anche in un angolo della casa, per associarsi con altri genitori accantonati e in declino. È utile come infermiera generale superiore in tempi di malattia o altre emergenze familiari. Attraverso l'azione su di lei, su queste menti, molte madri cessano di avere qualsiasi privilegio come individui e alla fine fanno esattamente quello che i loro figli desiderano. Forse qui si osserva o si pensa, ma non dovrei andare da mia madre o da un altro parente vicino con le mie preoccupazioni e prove e ricevere il suo aiuto, come ho sempre avuto l'abitudine di fare? Non dovrebbero quelli della mia famiglia più di tutti gli altri aiutarmi nel momento del bisogno? Certamente, se la madre o qualcuno dei vostri parenti fisici sono contenti e ansiosi di farlo. Certamente, se tale servizio da parte di un parente viene direttamente dal cuore e non è spinto dal sentimento che prende a volte questa forma di espressione non detta, suppongo di doverlo fare perché è mio fratello o mio figlio o un altro parente fisico che lo chiede. Lo chiede? Molti, molti sono i servizi che in questi casi vengono inconsciamente richiesti, piuttosto che chiesti. Si accumulano carichi sui parenti semplicemente perché sono parenti. I favori in denaro, nella girata di banconote, sono in un certo senso richiesti per simpatia dei parenti. Ci si aspetta dai parenti sostegno, cibo, riparo, mantenimento, quando non può essere procurato altrove. Ci si aspetta ospitalità dai parenti, quando aspettarsi ospitalità significa dare di tale intrattenimento il risultato di una richiesta. Ci si aspettano regali dai parenti, quando aspettarsi un regalo lo rende piuttosto un'estorsione. I veri regali sono sempre sorprese. Nessuno si aspetta una sorpresa perché l'aspettativa distrugge la sorpresa. I parenti visitano e accampano altri parenti semplicemente perché sono parenti. E una grande quantità di rancori, pronto lì, ma non detti, esce sempre quando i parenti usano le case degli altri per risparmiare le spese d'albergo. Nessun bene reale o duraturo deriva da qualsiasi dono fatto ad un altro, a meno che il cuore non lo accompagni, e che il suo conferimento sia per il donatore un atto di puro piacere. Perché se c'è qualcos'altro che accompagna il dono materiale, il cibo, l'alloggio, il prestito, che sebbene non sia visto e poco conosciuto, è più importante della forma stessa. Questo è il pensiero che lo accompagna, pensiero che influenza fortemente, nel bene e nel male, la persona che riceve il dono. Se, dando nell'ambito dei vostri mezzi, elargite la più piccola somma di denaro a una persona bisognosa, e il pensiero che lo accompagna non è solo il più sincero desiderio di aiutare quella persona, ma provate un vivo senso di piacere nel dare tale aiuto, allora gettate su quella persona un certo elemento di pensiero che non la lascerà mai, e la beneficerà eternamente e in proporzione alla qualità, al potere e alla forza del vostro pensiero. Allora fai molto di più che alleviare la loro attuale necessità fisica. Date loro una certa quantità di potere spirituale. Il tuo desiderio che il loro potere sia così sviluppato e accresciuto da permettergli di vivere al di sopra della mendicità e di attirare a sé i beni di questa terra, come tutti faranno e dovranno fare quando saranno cresciuti ad una certa statura nel potere spirituale, è un grande aiuto per loro nel tempo di acquisire tale potere. Tu hai mandato e seminato in loro un seme di pensiero, che metterà radici e darà frutti in un certo periodo della loro esistenza reale o spirituale. Ma sedate a malincuore, sedate sotto qualsiasi tipo di costrizione, sedate cibo, riparo, vestiti, denaro, qualsiasi cosa, solo perché le circostanze vi costringono a farlo, o per che la gente potrebbe parlare male di voi per non aver dato, o perché altre persone stanno dando, così allora il vostro dono fa relativamente poco bene. Non importa a chi viene dato, sia esso madre, padre, fratello, sorella, figlio o figlia. Si allevia allora solo una necessità fisica, e solo per un certo tempo. Potete forse nutrire un corpo, ripararlo, vestirlo. Ma non lo fai e non puoi nutrire adeguatamente lo spirito che usa quel corpo se il pensiero che accompagna il tuo dono non è quello della più perfetta disponibilità e del più vivo piacere nell'alleviare le necessità di quel corpo. Il pensiero rancoroso che accompagna il dono, il pensiero comune a quella posizione quando il destinatario del dono, non importa quanto si avvicina alla relazione, è sopportato piuttosto che goduto, il pensiero che accompagna qualsiasi dono a qualsiasi persona o parente, che è dato principalmente perché la consuetudine e l'opinione pubblica lo richiedono, o per l'importunità del destino, è un grande danno, sia per chi dà che per chi prende. È l'invio a colui che riceve di una corrente di pensiero, malvagia nel suo carattere e nel suo risultato. Riporta a chi dà da chi prende una risposta di pensiero di natura simile, e anche questo è dannoso, perché se ricevi un dono che hai estorto in qualche modo, il tuo sentimento per il donatore non è quello di una calda e radiosa gratitudine, ma qualcosa di completamente diverso. Il Cristo di Giudea, quando elogiava la vedova che gettava il suo mite nella tesoriera, lo faceva nella nostra stima. E visto in quella luce, non solo perché dava in proporzione ai suoi mezzi materiali, ma perché vedeva che il suo pensiero di desiderio di aiutare in qualsiasi modo fosse necessario aiutare, andando con quel mite. Era molto più sentito e genuino di quello delle persone più ricche, che gettavano somme più grandi, ma portavano con loro anche un carattere inferiore di pensiero emotivo. Vide inoltre che il pensiero della donna stava effettivamente facendo molto più aiuto di quello degli altri, perché era più puro, meno mescolato con motivi inferiori e quindi molto più forte. Non è forse mio dovere, si chiederanno alcuni. Nutrire, vestire, riparare e sostenere un parente molto vicino o un genitore, se indifeso, nella loro vecchiaia? Il termine, fare per senso del dovere, non sempre implica che la cosa sia fatta, sia che si tratti della persona aiutata o del paziente curato nella malattia, sia fatta dall'impulso di amore per quella persona o dall'amore per il fare. A volte è fatto meccanicamente o con antipatia per il fare. A volte è una prestazione forzata e dolorosa. Per tale ragione si fa poco bene, perché se le necessità fisiche sono temporaneamente alleviate, le necessità spirituali non lo sono. E se la parte spirituale della nostra natura non è nutrita, non ci può essere alcun sollievo permanente o bene fatto al fisico. I genitori che in età avanzata sono sostenuti dai loro figli solo per un senso del dovere, hanno a volte il loro spirito ferito e affamato. Ferito perché si sentono sono sopportati e ingombri. Affamato perché nessun amore reale va con il dono o servizio fatto da questi bambini. I figli che vengono al mondo non accettati dal genitore e che vengono cresciuti solo perché è la consuetudine. La convenzionalità e l'opinione pubblica esigono il loro sostegno da quel genitore, sono più sfortunati e soffrono della rovina e dell'inevia che ne deriva per il loro spirito. L'amore genuino e sincero è letteralmente vivificante e, se ricevuto dal bambino, è per lui una fonte di allegria, salute, forza e attività. C'è una certa coscienza allenata, la cui base educativa è la paura dell'opinione pubblica o privata. Questo a volte spinge attraverso ad atti che si dice siano fatti per senso del dovere. Se l'opinione pubblica cambiasse improvvisamente e non fosse più censurata la persona che si rifiuta di mantenere i parenti più stretti nel bisogno o nella vecchiaia, una parte di questi parenti andrebbe probabilmente all'ospizio dei poveri e il figlio o la figlia che li ha mandati lì starebbe agendo secondo la sua vera natura e non fingendo un sentimento che non possiede. Le madri a volte dicono, non mi importa cosa diventa di me affinché i miei figli siano ben cresciuti ed educati. Una madre dovrebbe preoccuparsi molto della sua stessa coltivazione. Se la sua coltivazione e la sua crescita in saggezza sono controllate, lo sarà anche quella dei suoi figli. Sarà controllata se affonda se stessa nel tentativo di favorire i suoi figli. Una madre genuina costringerà continuamente l'ammirazione e il rispetto, nonché l'amore dei suoi figli. Tale ammirazione e rispetto possono essere costretti solo da una donna che conosce il mondo, ha una posizione in esso e sta sempre spingendo in avanti verso un posto e una posizione più importanti. Tale ammirazione e rispetto da parte del figlio o della figlia non può essere costretta dalla madre che si ritira in un angolo della casa. Diventa un incrocio tra l'infermiera superiore e la governante. Trascura il suo vestito e l'aspetto personale e insegna ai suoi figli che lei è a loro disposizione e utilizzata in tutte le emergenze familiari, reali o immaginarie. Proprio per questo molte madri sono ignorate, snobbate e ridicolizzate dai loro figli adulti. Se le madri si affondano così, come falsamente immaginano, per beneficiare i loro figli, pagano nei casi una pena terribile. Se permettete alla vostra volontà di essere costantemente sopraffatta da un altro, se rinunciate alle vostre preferenze e inclinazioni e diventate solo l'eco di un altro, se vivete solo come gli altri desiderano, perderete sempre di più. Per questa esistenza, il potere di autoaffermazione. Assorbirete così tanto dell'altra mente e del pensiero che vi circonda da diventare una parte di quella mente, e quindi agirete in accordo anche con la sua volontà silenziosa e il suo desiderio non detto. Vi fossilizzerete e sprofonderete in una servitù senza speranza. Perderete sempre più potere sia fisico che mentale, per fare qualsiasi cosa. Diventerete l'ingombro dell'angolo del camino. Il genitore senile, il vecchio o la vecchia impotente, sopportato piuttosto che amato. Questo in molti casi è stato l'effetto delle menti dei bambini cresciuti su un genitore. È la forza silenziosa di queste menti che lavora continuamente su quella del genitore, che aiuta a distruggere fisicamente il genitore, e il decadimento e la debolezza mentale, comunemente addebitati all'avanzare degli anni, sono dovuti in gran parte all'effetto nocivo di una mente o di un gruppo di menti che cercano di usurpare e sopraffare un'altra. Questo male è fatto inconsciamente. Il figlio desidera gestire la fattoria. La sua volontà può essere forte. Ottiene il potere passo dopo passo. prende come diritti ciò che all'inizio aveva preso solo con il permesso del padre, o come privilegi. Va avanti passo dopo passo, facendosi strada in tutte le cose, grandi e piccole, forse aiutato dagli altri figli che usano la loro forza silenziosa nella stessa direzione. E questa può essere una forza combinata quasi impossibile da sopportare per una persona se continuamente esposta ad essa. È una pressione costante, incessante, tutta in una direzione. Funziona notte e giorno. Funziona tanto più efficacemente, perché il genitore così esposto è completamente ignaro di tale forza e del suo funzionamento su di lui. Si ritrova sempre più debole. Diventa inerte. Gli manca il suo vecchio agire e pensa che sia per l'avvicinarsi della vecchiaia. Ho conosciuto un uomo di oltre 70 anni, sano, attivo e vigoroso nella mente e nel corpo, come uno di 40. Aveva organizzato e costruito una grande azienda. I suoi diversi figli, alla fine, si sono messi in testa che era ora che papà si ritirasse dagli affari. D'ora in poi, il pensiero parlato e non detto, che gravava mese dopo mese sul padre da parte dei figli, era questo desiderio e la richiesta che egli si ritrasse dagli affari. Confidando la sua situazione ad un amico, disse, perché dovrei ritirarmi dagli affari? Io ci vivo dentro, mi piace, e per quanto posso vedere, sono in grado di condurlo correttamente. Ma la richiesta insistente e la forza esercitata su di lui da questi nemici del suo stesso sangue e della sua famiglia erano troppo grandi da sopportare. Egli si ritirò. I figli e le figlie furono soddisfatti. Il padre cominciò presto a declinare in salute. Visse circa due anni dopo. E una delle sue ultime osservazioni fu, i miei figli mi hanno ucciso. Non dovrei amare i miei figli, soprattutto gli altri, si chiede uno. Il termine dovrei non ha alcuna applicazione alla natura dell'amore. L'amore va dove vuole, e a chi vuole, e dove è attratto. Non ci si può costringere ad amare qualcosa o qualcuno. Ci sono stati genitori che non avevano un vero amore per i loro figli, e figli che non avevano un vero amore per i loro genitori. Nessuna delle due parti può essere biasimata per questo. Erano privi della capacità di amare. Sono nati così carenti. Non sono da censurare per tale mancanza, di più di quanto non si censuri una persona per essere nata cieca o storpia. Alcuni genitori credono di amare i loro figli, ma non è così. Un padre che perde le staffe e picchia suo figlio non ama veramente suo figlio. Sarebbe meglio dire che amava picchiarlo o tiranneggiare su di lui. Il governo in famiglia è necessario, ma nessun governo sano e amorevole è amministrato su una base di rabbia e irrascibilità. I genitori a volte interferiscono e influenzano seriamente il futuro di un bambino, opponendosi ai suoi desideri nella scelta di una professione. Il genitore può avere dei pregiudizi contro certi percorsi di vita. Il bambino può desiderare di seguire uno di questi percorsi. Incontra un'aspra e intransigente opposizione da parte del genitore. Non c'è alcun ragionamento, discussione o consiglio in materia. Niente se non un severo e positivo no. Tali sentimenti e azioni non sono spinti dall'amore per il bambino da parte del genitore. Sono spinti dall'amore del genitore per la propria opinione e dell'amore per la tirannia. I genitori a volte dimenticano che dopo che il bambino emerge dalla totale impotenza fisica e mentale dell'infanzia, sta diventando sempre più un individuo. Come individuo può mostrare i gusti decisi, preferenze e inclinazioni in qualche direzione. Nessun genitore e nessuna persona può rompere o alterare questi gusti e preferenze. Nessuno può trasformare la mente del bambino in qualcos'altro. Perché la mente del bambino, come la chiamiamo noi, è in realtà una mente o uno spirito, che ha vissuto altre vite fisiche dall'infanzia alla maturità, se non alla vecchiaia. E come entra in possesso del suo nuovo corpo e acquisisce un relativo controllo su quel corpo, comincerà a recitare l'uomo o la donna come era nella sua vita precedente. E questo può essere un uomo o una donna molto strettamente imparentato con il genitore o a malapena imparentato. Ma in ogni caso, il genitore ha a che fare con un individuo che sta crescendo sempre di più in gusti, preferenze e a tratti di carattere che gli appartengono e sono parte di esso. Avranno espressione nella mente o nello spirito, che gli sia permesso fisicamente o meno. Se il ragazzo desidera sempre andare al mare e il genitore glielo proibisce, il ragazzo è al mare nella mente. E se è così nella mente, è molto meglio che il suo corpo lo segua, perché c'è solo danno quando mente e corpo non lavorano insieme in corrispondenza. Se la madre si rifiuta di permettere al ragazzo di andare in mare perché ne teme i pericoli per lui, sta ancora amando le proprie paure e anche la propria strada, più di quanto non faccia con suo figlio. Il genitore a volte usurpa una tirannia completa, non solo sul corpo del bambino, ma sulla sua mente. I gusti, le inclinazioni, le tendenze e le preferenze del bambino sono ritenuti di nessuna importanza. Se il bambino vuole essere un marinaio e il genitore lo vuole qualcos'altro, quel qualcos'altro che il genitore può insistere che egli sia. Ma ci riesce? Che risponda la schiera di mediocri in tutti i mestieri del paese. E la mediocrità significa il seguire meccanicamente una qualsiasi attività in cui non c'è un interesse vivo. Più di questo, quando un corpo è costretto a fare una cosa o a vivere in un certo modo e la mente desidera vivere in un altro, c'è una forza messa in moto che in molti casi separa mente e corpo. E i genitori a volte si addolorano per la perdita di un figlio quando sono responsabili della morte del suo corpo per questa causa. Per quanto tempo dunque il controllo dei genitori dovrebbe continuare sul bambino o piuttosto su uno spirito al quale voi avete fornito un nuovo corpo? È irragionevole dire che tale controllo non dovrebbe continuare dopo che tale corpo, emergendo dall'impotenza dell'infanzia, avrà acquisito un tale controllo della sua organizzazione da permettergli di soddisfare tutte le richieste e necessità fisiche. Andare oltre questo e dare cibo, vestiti, riparo, mantenimento a una persona è farle una grande ingiustizia e persino crudeltà. Così facendo non si concede l'esercizio di quelle facoltà che devono essere utilizzate per affrontare con successo il mondo. Rendete i bambini meno adatti ad essere autosufficienti e a guadagnarsi da vivere da soli. Insegnate loro a stare in un letto morbido e lussuoso, quando dovrebbero essere fuori nel mondo ad esercitare e a rendere più forti e abili le loro forze, sia della mente che del corpo. I genitori a volte si rendono ingiustamente responsabili e si infliggono un'inutile sofferenza mentale per gli errori e le tendenze dei loro figli. Un figlio o una figlia prende una strada sbagliata, o piuttosto, mettiamola così, una strada il cui male è più evidente o più opposto alle idee convenzionali di correttezza, di altre abitudini più tollerate e ritenute rispettabili, ma che possono essere le fonti sottili, per lo più sconosciute, di mali altrettanto grandi di quelli condannati dalla società. Un figlio si dà all'alcol o alle frequentazioni imprudenti e commette qualche crimine. Il genitore si condanna per non aver badato più attentamente a suo figlio. Può accusarsi di essere stata, con la sua negligenza, l'artifice principale dei misfatti del figlio. Signora, lei si rimprovera molto. Non avete fatto voi il carattere di quel figlio o figlia. È stato fatto molto prima che quello spirito avesse l'uso del suo ultimo nuovo corpo. Quali tratti, quali imperfezioni erano molto evidenti nella sua ultima esistenza, appariranno nella prossima. Se quello era uno spirito ladro prima, probabilmente mostrerà tendenze ladre ora. Se ora grossolano, animale e goloso, allora tendenze simili si mostreranno ora. Voi, se cresciuti ad un piano di pensiero più raffinato, potete fare molto per modificare e diminuire queste tendenze. Ma tutto ciò che farete in questo senso sarà fatto attraverso la forza silenziosa e l'azione del vostro pensiero superiore sulla mente del vostro bambino. Non sarà fatto attraverso una grande quantità di consigli verbali o punizioni fisiche o disciplina. Qualunque cosa una mente sia, quando entra in una nuova esperienza fisica, qualunque imperfezione le appartenga, deve apparire ed essere agita e generare dolore e punizione di qualche tipo, finché quello spirito vede chiaramente per sé stesso, come attraverso i suoi errori, porta queste punizioni su di sé. Queste lezioni possono essere imparate solo quando quella persona ha piena libertà, per quanto riguarda il controllo dei genitori, di vivere come vuole. Si può controllare per un certo tempo una tale vita e farla vivere esternamente come si vuole. Ma tale vita esteriore è solo una patina, se la mente è piena di gusti e inclinazioni inferiori. Quanto prima queste vengono vissute, quanto prima quella persona imparerà la vera legge, che infligge pene e castighi per chi infrange le sue regole immutabili. E tanto prima conoscerà la felicità che deriva dal vivere secondo le sue regole. Questo ogni spirito deve fare per sé stesso. Un genitore può plasmare un falso carattere per il figlio. Può insegnare indirettamente, attraverso l'effetto della propria condizione mentale che opera sul bambino. Come fingere di ciò che il mondo chiama bontà, come può sembrare, per quanto riguarda la condotta esteriore, di essere ciò che non è affatto in tendenza e inclinazione segreta. Come, in breve, essere un'ipocrita. Nessuna persona è veramente riformata da un'altra, nel senso in cui tale termine è talvolta usato. La riforma deve venire da dentro. Deve essere autosufficiente. Non deve dipendere interamente dalla presenza o dall'influenza di un altro. Se lo fa, è solo una riforma temporanea. Verrà meno quando l'influenza della persona da cui dipende sarà rimossa. A volte sentiamo l'affermazione «la moglie di questo o quell'altro è stata la sua creazione», intendendo il marito. A proposito, perché non sentiamo mai dire che l'uomo è stato la creazione di sua moglie? Un uomo può essere impedito dall'intemperanza o può essere continuamente rafforzato per andare incontro al mondo grazie all'influenza e alla forza mentale di sua moglie. Ma se in tale riforma egli si affida interamente a lei, se non può sostenersi senza la sua continua presenza e stimolo, la sua non è una riforma duratura ed è anche un carico molto pesante e dannoso da portare per lei. È un affare unilaterale quando una persona deve fornire tutta la forza di sostegno per due. E se si persiste in questo, la moglie o chiunque la fornisca, alla fine sprofonderà sotto questo peso e ci saranno due vite distrutte invece di una. Nessuna persona può farne un'altra, nel senso più alto del termine. Ma una persona che ha la mente superiore può, se in un'associazione molto stretta e continuata a lungo con un più debole, dare temporaneamente al più debole la sua stessa vita e forza, se il suo desiderio è molto forte di aiutare il più debole. Se è il marito che riceve così dalla moglie ed è così dipendente dalla moglie, allora non rappresenta nessun carattere proprio. Egli rappresenta ed è rivestito temporaneamente dal carattere di sua moglie o di quanto può appropriarsene. Se lei muore o viene allontanata da lui, allora lui ricade e sprofonda nel suo vero io, a meno che non sia deciso ad essere autosufficiente ed evolvere la forza da se stesso invece di usare quella di un altro. Se lei continua a rifornirlo, sta solo sostenendo il suo carattere temporaneo, che non può durare quando la sua fonte di rifornimento viene rimossa, e in tale continuazione certamente col tempo si esaurirà. Spesso i genitori insegnano inconsciamente ai loro figli a sdraiarsi su di loro, a dipendere troppo a lungo da loro per il sostegno morale. Il risultato di questo errore è che poi la vita del genitore viene trascinata via. Portando un carico così pesante, il bambino cessa di avere qualsiasi amore genuino per il suo genitore. Si può compatire ciò che è decrepito, debole e distrutto. Amarlo non si può. L'amore si basa sull'ammirazione, e l'ammirazione non è costretta dalla decadenza. La tendenza chiamata istinto, che spinge la madre uccello a far uscire i suoi piccoli dal nido, non appena hanno la forza sufficiente per volare, e l'animale nello svezzamento dei suoi piccoli, a portarli alla deriva e lasciarli a spostarsi da soli, è fondata sulle leggi naturali e divine. Possiamo dire che è l'abitudine dei bruti, ed è quindi brutale. Ma sarebbe una gentilezza per l'uccello incoraggiare il piccolo a rimanere nel nido, dove non potrebbe guadagnare forza? E quando poche settimane porteranno le tempeste e la severità dell'inverno, che l'uccello genitore stesso non può sopportare? Ancora il genitore, sia esso uccello, animale o madre umana, ha bisogno, dopo questi periodi, di mettere al mondo e allevare i suoi piccoli, di una stagione di completo riposo e recupero, e la durata di tale stagione di riposo dovrebbe essere proporzionata alla complessità dell'organizzazione e alla forza spesa da tale organizzazione. Durante questi periodi, il genitore dovrebbe essere liberato da qualsiasi richiesta da parte del bambino. Gli uccelli e gli animali, nella loro vita naturale o selvaggia, prendono tali periodi di riposo, ma migliaia di madri umane non sono mai libere dalle richieste dei loro figli, fino a quando, esauste, cadono nelle loro tombe. Dovrebbero essere libere, per quanto riguarda i loro figli, come lo erano nell'adolescenza e prima di diventare madri. La maternità è una fase dell'esistenza estremamente necessaria e indispensabile per la maturazione e lo sviluppo delle qualità, ma nessuna esperienza dovrebbe essere seguita e approfondita per sempre. La vita, nel suo stato più perfezionato, sarà piena di alterazioni, non un solco in cui, se sei una volta fissato, devi continuamente viaggiare. Se i figli umani rimangono con la madre, anni dopo aver raggiunto quella che può essere definita un'età responsabile, se si rivolgono sempre a lei per aiuto, consiglio, simpatia e assistenza. Se la madre permette a se stessa di diventare il pilastro della famiglia, può anche ripetere l'attività unilaterale di fornire troppa forza agli altri e non riceverne nessuna in cambio. Può praticare una specie di maternità falsa e dannosa, perché viene richiesta, implorata o trascinata da lei. Può derubare se stessa della nuova vita che l'aspetta, quando la nidiata è cresciuta e le loro ali sono autosufficienti. Sta aiutando i bambini a fare di lei una vecchia, debole e senza cervello. Forse uno osserva. Se il tuo suggerimento fosse seguito alla lettera, le strade sarebbero piene di bambini cacciati dai genitori dalle loro case e incapaci di provvedere a se stessi. Così farebbero. Io sostengo qui di non seguire letteralmente l'esempio dato dall'uccello e dalla bestia. Sarebbe una grande ingiustizia. Nessuna usanza, se seguita per secoli, anche se basata sull'errore, può essere improvvisamente cambiata senza turbamento. Ingiustizia è torto. Eppure vale la pena studiare questo principio che troviamo in natura, dall'albero che getta alla deriva la ghianda matura, all'uccello o animale che getta alla deriva il piccolo relativamente maturo. Nella ghianda, nell'uccello, nell'animale, quando vengono scartati o svezzati, tornano mai al genitore per l'autosostentamento. Tale potere in questi casi è dato dal genitore solo fino a quando la nuova organizzazione è abbastanza forte da assorbire e appropriarsi degli elementi che la circondano. Assorbire dalla terra e dal sole, o dalla carne o dal grano, il nutrimento necessario al suo sostegno. Le nostre strade non sono forse oggi piene di bambini e adulti del tutto incapaci di provvedere a se stessi? Non sono forse migliaia quelli che lasciano le case dei genitori senza alcun potere di autosostentamento e che per tutta la vita non sono in grado di nutrirsi, vestirsi e ripararsi, se non con lunghe ore di lavoro faticoso al minimo salario? Questa vita di fatica non li esaurisce e li taglia fuori prematuramente? Non ci sono forse migliaia di figlie in tutto il paese che diventeranno vecchie zitelle e i cui genitori non permetteranno loro, se fossero così disposti, di uscire nel mondo e correre i loro rischi? Questi sono gli uccelli rannicchiati nel nido, finché le loro ali, negate all'esercizio, perdono alla fine ogni potere o spinta al volo, e le loro bocche, anche se diventano uccelli adulti, sono addestrate solo ad aprirsi e a ricevere i bocconi lasciati cadere in esse. Capitolo 3 Correnti di pensiero Dobbiamo stare attenti a ciò che pensiamo e parliamo, perché il pensiero corre in correnti reali come quelle dell'aria e dell'acqua. Di ciò che pensiamo e parliamo attiriamo a noi una simile corrente di pensiero. Questa agisce solamente o sul corpo, nel bene e nel male. Se il pensiero fosse visibile all'occhio fisico, dovremmo vedere le sue correnti che scorrono da e verso le persone. Dovremmo vedere che persone simili per temperamento, carattere e motivi sono nella stessa corrente letterale di pensiero. Dovremmo vedere che la persona di umore avvilito e arrabbiato è nella stessa corrente con altri avviliti o arrabbiati, e che ognuno in tali stati d'animo serve come un'ulteriore batteria o generatore di tale pensiero, e sta rafforzando quella particolare corrente. Dovremmo vedere queste forze lavorare in modo simile e collegare chi è speranzoso, coraggioso e allegro con tutti gli altri speranzosi, coraggiosi e allegri. Quando siete di cattivo umore o blu, avete in azione su di voi la corrente di pensiero che proviene da tutti gli altri di cattivo umore. Siete in sintonia con l'ordine avvilente del pensiero. La mente è allora malata. Può essere curata, ma una cura permanente non può sempre arrivare immediatamente quando si ha l'abitudine di aprire la mente a questa corrente di pensiero. Attirando su di noi la corrente di qualsiasi tipo di male, diventiamo per un certo tempo uno con il male. Nella corrente di pensiero del potere supremo per il bene, possiamo diventare sempre più come uno con quel potere. O, nella frase biblica, uno con Dio. Questa è la corrente di pensiero desiderabile per noi da attrarre. Se un gruppo di persone parla di qualsiasi forma di malattia o di sofferenza, di scene sul letto di morte e di agonie morenti, se coltivano questo gusto morboso per il malsano e dello spettrale, e questo costituisce il loro principale argomento di conversazione, portano in sé una corrente di pensiero simile piena di immagini di malattia, sofferenza e cose rivoltanti per una mente sana. Questa corrente agirà su di loro e alla fine porterà loro malattia e sofferenza in qualche forma. Se parliamo molto di persone malate o siamo molto in mezzo a loro e pensiamo a loro, qualunque sia il nostro motivo, attireremo su di noi una corrente di pensiero malato e i suoi cattivi risultati si materializzeranno col tempo nei nostri corpi. Abbiamo molto più da fare per salvare noi stessi di quanto ci si renda conto ora. Quando gli uomini parlano d'affari insieme, attirano una corrente d'affari di idee e suggerimenti. Più sono d'accordo, più attirano questa corrente di pensiero e più ricevono idee e suggerimenti per migliorare ed estendere i loro affari. In questo modo, la conferenza o la discussione tra i membri principali dell'azienda o della società crea la forza che porta avanti i loro affari. Viaggiate in stile di prima classe, alloggiate in alberghi di prima classe e vestitevi con abiti tanto costosi quanto la vostra borsa può comprare, senza cadere nell'estremo della sciatteria. In queste cose trovate degli aiuti per mettervi in una corrente di relativo potere e successo. Se il vostro borsellino non giustifica ora tali spese o pensate che non lo faccia, potete iniziare a vivere in questo modo. Questo vi farà fare i primi passi in questa direzione. Le persone di successo nel campo della finanza vivono inconsciamente secondo questa legge. Il desiderio di spettacolo influenza alcuni a questo corso. Ma c'è un'altra forza e un altro fattore che li spinge così. Si tratta di una saggezza di cui le loro menti materiali sono a malapena consapevoli. È la saggezza dello spirito che dice loro di entrare nella corrente di pensiero del successo e da tale corrente di essere portati al successo. Non è un successo completo, ma buono per quanto va. Se le nostre menti sono, a causa di ciò che è falsamente chiamato economia, sempre impostate sull'economico, alloggi economici, cibo economico e tariffe economiche, entriamo nella corrente di pensiero dell'economico, dello schiavo e del timoroso. La nostra visione della vita e dei nostri progetti ne saranno influenzati e deformati. Paralizza quel coraggio e quell'intraprendenza impliciti nel vecchio adagio. Non si rischia nulla e non si guadagna nulla. Assorbiti da questa corrente e avendo essa sempre agito su di voi, essa si sente immediatamente quando venite in presenza di persone di successo e li induce ad evitarvi. Essi sentono in voi l'assenza di quell'elemento che porta loro il loro relativo successo. Agisce come una barriera, impedendo il flusso verso di voi della loro simpatia. La simpatia è un fattore molto importante negli affari. Nonostante l'opposizione e la concorrenza, una certa corrente di pensiero di simpatia, lega ai più riusciti. La mania della convenienza sta nella corrente di pensiero della paura e del fallimento. La corrente di pensiero della paura e del fallimento e la corrente di pensiero dell'audacia, del coraggio e del successo non si mescolano né uniscono gli individui che si trovano in queste rispettive correnti di pensiero. Si inimicano e tra le due classi mentali viene costruita una barriera più impenetrabile delle mura di pietra. Vivete interamente in una qualsiasi idea, una qualsiasi riforma e vi trovate nella corrente di pensiero di tutte le altre menti che stanno portando quell'idea all'estremo. Non c'è riforma se non ciò che può essere spinto troppo lontano. Il danno di un tale estremo ricade sulla persona che lo spinge. Deforma la mente, il giudizio e la ragione, tutto da una parte. Rende fanatici, bigotti, eccentrici e pazzi, sia che l'idea riguardi un'arte o uno studio, una scienza, una riforma o un movimento. Collega gli estremisti di tutte le persone in tale ordine e corrente d'animo, non importa quali siano le loro specialità. Queste persone spesso finiscono per diventare furiosi odiatori di tutti coloro che differiscono da loro e così odiando spendono la loro forza nel fare a pezzi se stessi. Il lato sicuro sta nell'invocare ogni giorno la corrente di pensiero della saggezza della mente infinita. Quando questa saggezza sarà più invocata, le nostre riforme e organizzazioni, per il bene del tutto, non incorreranno in dispute interne quasi appena si organizzano. Come ora condotto la corrente di pensiero di odio e antagonismo all'oppressore e monopolista e ammesso alla loro nascita. Questa stessa forza genera liti e dissenzi tra i membri. È una forza usata per abbattere invece di costruire. È come prendere il fuoco usato per generare vapore nelle caldaie e spargerlo in tutto l'edificio. Quando le persone si riuniscono e in qualsiasi modo esprimono il loro malanimo verso gli altri, attirano a sé, con una potenza decuplicata, una corrente di pensiero nociva. Perché più menti sono unite su un qualsiasi scopo, più potere attirano per realizzare quello scopo. La corrente di pensiero così attirata da quei lamentatori cronici, prontoloni e scandalisti, danneggerà i loro corpi. Perché qualsiasi pensiero che viene tenuto maggiormente in mente si materializza maggiormente nel corpo. Se pensiamo e parliamo sempre delle imperfezioni della gente, attiriamo a noi sempre quella corrente di pensiero e quindi incorporiamo in noi stessi quelle stesse imperfezioni. Abbiamo detto nei libri precedenti che parlare crea forza e che più si parla in simpatia e più grande è il volume e la potenza della corrente di pensiero generata e attratta nel bene e nel male. Un gruppo di pettegolezzi, che non riesce mai a mettere insieme le loro teste senza rastrellare i difetti degli assenti, sta inconsciamente operando una legge con risultati terribili per loro stessi. Il pettegolezzo è affascinante, c'è un'euforia nello scandalo e il rastrellamento delle colpe del nostro amico o vicino o nemico è quasi uguale a quello prodotto dallo champagne. Ma alla fine paghiamo caro questo piacere. Se solo due persone si incontrassero a intervalli regolari e parlassero di salute, forza e vigore del corpo e della mente, aprendo nel contempo le loro menti per ricevere dal Supremo l'idea migliore sui modi e sui mezzi per assicurarsi queste benedizioni, attirerebbero a sé una corrente di pensiero di tale idea. Se queste due o più persone continuassero queste conversazioni su questi argomenti in un tempo e in un luogo regolari e trovassero piacere in queste comunioni e non fossero forzate o forzate, se potessero portarle avanti senza controversie ed entrarvi senza idee preconcette e non permettessero ad alcuna ombra di chiacchiere o di racconti o di censure di altri di scivolare nei loro discorsi, sarebbero stupiti alla fine dell'anno dei risultati benefici per la mente e il corpo. Perché così facendo e riunendosi con una silenziosa richiesta al Supremo di ottenere l'idea migliore, attirerebbero a sé una corrente di forza vivificante. Che due inizino così piuttosto che più? Perché non è facile trovare nemmeno due persone in accordo e disaccordo per ottenere i risultati desiderati. Il desiderio di tali incontri deve essere spontaneo e qualsiasi altro motivo escluderà il più alto pensiero corrente per il bene. La riunione di risveglio vecchio stile o la riunione del campo, attraverso l'azione combinata e il desiderio di un certo numero di menti, portava una corrente di pensiero, causando per il tempo l'estasi, il fervore e l'entusiasmo che caratterizzavano quei raduni. L'indiano nordamericano si lavorava nella frenesia della sua danza di guerra con una legge simile. Egli portava a sé con la forza del desiderio congiunto un elemento e una corrente di pensiero che lo stimolava e addirittura lo inebriava. Il suo unico desiderio era di portare su di lui questa ebbrezza mentale. Più menti lavoravano nella stessa vena, più rapidamente arrivava il risultato desiderato. Il vero oratore, nel suo sforzo, attira a sé una corrente di pensiero che, trasmessa di nuovo da lui al suo pubblico, lo entusiasma. Così fa l'attore o l'attrice ispirati. Essi portano prima a sé stessi un elemento di pensiero più alto e più potente. E questo, fluendo attraverso di loro, agisce in seguito sul pubblico. Se vi soffermate molto sui vostri difetti, attirerete per le stesse leggi sempre più della loro corrente di pensiero. E così aumenterete quei difetti. È sufficiente che tu riconosca in te stesso questi difetti. Non dire sempre di te stesso, sono debole o vigliaco o irascibile o imprudente. Attira piuttosto su di te la corrente di pensiero della forza, del coraggio, della calma, della prudenza e di tutte le altre buone qualità. Tieni in mente le immagini di queste qualità e le fai diventare parte di te stesso. A volte, se siete stati assaliti, assorbiti e persino infastiditi per giorni dal pensiero dell'abito che volevate comprare, dal taglio, dal colore e dalla moda di un vestito, dalla scelta di una cuffietta o di una cravatta, finché non eravate altro che vestiti. Cappello, cuffietta, vestito, cravatta o qualche altro dettaglio della vita. Può darsi che non siate stati in grado di decidere cosa comprare e che siate stati sballottolati mentalmente sui flutti dell'indecisione per giorni. Siete quindi entrati nella corrente di pensiero, di migliaia di altre menti, continuamente in questo stato d'animo. Il modo più sicuro per una giovane donna di diventare brutta è quello di essere scontenta, scontrosa, arrabbiata, lamentosa e invidiosa degli altri. Perché in questi stati d'animo attira a sé la sostanza invisibile del pensiero, che agisce sul corpo e lo ferisce, rovina la carnagione, crea linee e pieghe nel viso, affila il naso e trasforma il volto della giovinezza in quello di una bisbetica in pochissimo tempo. Non sto facendo la morale qui o dicendo non dovresti fare così e così. Si tratta semplicemente di causa e risultato. Mettete la vostra faccia nel fuoco e sarà sfregiata e detorpata a causa di un elemento che agisce su di essa. Mettete la vostra mente nel fuoco della cattiva volontà, dell'invidia o della gelosia e anch'essa sarà sfregiata, segnata e detorpata, a causa di un elemento reale come il fuoco, anche se invisibile, che agisce su di essa. Tutte le cose cattive e imperfette, come i tratti sgradevoli del carattere negli altri, le cose sgradevoli da sentire o da guardare, dovrebbero essere eliminate dalla nostra mente il più presto possibile. Altrimenti, se ci si sofferma su di esse, attirano la loro corrente di pensiero. Diventeranno allora dei fissaggi spirituali permanenti e questi, col tempo, si materializzeranno in corrispondenti fissaggi fisici. Se teniamo sempre in mente la persona che ci fa qualcosa di sbagliato, siamo più inclini a fare quella stessa cosa noi stessi. Sforziamoci allora, con l'aiuto del Potere Supremo, di entrare nella corrente di pensiero delle cose sane, naturali, forti e belle. Cerchiamo di evitare i pensieri di malattia, di sofferenza, di deformità, di difettosità. È meglio contemplare un campo di grano ondeggiante o il rollio delle onde, piuttosto che soffermarsi sugli orrori di un incidente ferroviario. Non ci rendiamo conto di quanto siamo depressi fisicamente e mentalmente dall'incessante banchetto di orrori preparato per noi dalla stampa quotidiana. Invochiamo nel loro spoglio una corrente di pensiero, piena di cose e immagini di orrore e sofferenza. Ci portiamo in questo modo in connessione e unità con tutte le altre menti morbose e malate, che vivono e si divertono in questa corrente. Essa non porta alla vita, ma alla malattia e alla morte. Né gli altri, né voi stessi siete aiutati dalla vostra conoscenza di ogni incendio, esplosione, omicidio, furto o crimine che i giornali riportano ogni 24 ore. Se leggiamo stivali scritti da menti ciniche e sarcastiche, che sono così deformate da essere in grado di vedere solo i difetti degli altri, infine incapaci di vedere il bene da qualche parte, portiamo su di noi la loro malsana corrente di pensiero, e siamo uno con essa. La freccia sempre puntata con malanimo e sarcasmo è più letale per colui che la manda. In altre parole, l'uomo che invita e coltiva sempre questa corrente di pensiero sta invitando il disordine, la malattia e la sfortuna che essa gli porterà sicuramente, e quando entriamo troppo nella sua mente, invitiamo risultati simili. Potete essere ordinati, attenti e metodici nelle vostre abitudini, precisi ed elaborati nel vostro lavoro, ma se vi associate strettamente con coloro che sono negligenti e sciatti, potete trovare in voi stessi una tendenza ad essere anche voi negligenti e sciatti, e una difficoltà nel riprendere e portare avanti i vostri precedenti metodi ordinati e metodici. Perché non solo hai assorbito la mente negligente, o la mente che manca di pazienza per fare qualsiasi cosa con calma, ma il frammento di tale mente così assorbito agisce come un magnete nell'attrarre a te la sua corrente di pensiero simile. Quando un male è conosciuto, è curato a metà. Tieni presente, quando sei in un qualsiasi stato d'animo sgradevole, che una corrente di pensiero di tale stato d'animo sgradevole sta agendo su di te. Tieni presente che sei allora uno in una sorta di connessione elettrica con molte altre menti malate e morbose, che generano e si inviano reciprocamente pensieri sgradevoli. La prossima cosa da fare è pregare o chiedere di uscire da questa condizione di pensiero cattivo. Non puoi farlo interamente con il tuo sforzo individuale. Dovete chiedere al potere supremo di distoglierla da voi. Possiamo sempre più invitare la corrente di pensiero delle cose che sono vivaci, allegre e divertenti. La vita dovrebbe essere piena di giocosità. La serietà continua è solo a pochi gradi di distanza dalla tristezza e dalla malinconia. Migliaia di persone vivono troppo nella corrente di pensiero della serietà. I volti che indossano un'espressione sorridente sono rari. Alcuni non sorridono mai. Alcuni hanno dimenticato come sorridere e in realtà fa loro male sorridere o vedere gli altri farlo. Malattia e malattia sono alimentate in attività sempre più fresche dall'umore serio della mente. L'abitudine rafforza continuamente la triste capacità di soffermarsi sulla malattia, che all'inizio può essere un'inizia. La gente entra così tanto in questa corrente che da una banale irritazione in qualche parte del corpo si fabbricano malattie terribili. Molte cose materiali aiutano a deviare una corrente di pensiero che agisce in modo sgradevole su di voi. Puoi avere ogni giorno una serie di sintomi sgradevoli. Può sembrare che vengano come aggiunte alla routine quotidiana della vita. Il tavolo della colazione, i mobili, la conversazione e persino le persone che ti circondano sembrano richiamarli. I viaggi a volte li bandiscono del tutto. La vista di un ambiente diverso distoglie quella particolare corrente di pensiero. I rimedi materiali possono temporaneamente ottenere lo stesso risultato. Così come ogni improvviso cambiamento di vita o di occupazione. Ma tutti questi sono aiuti secondari al potere supremo. La corrente di pensiero della paura è ovunque. Tutta l'umanità teme qualcosa. La malattia, la morte, la perdita della fortuna, la perdita degli amici, la perdita di qualcosa. Ognuno ha la sua paura preferita. Si estende ai dettagli più banali della vita. Le strade sono piene di persone che, se non temono altro, temono di non prendere un treno o il prossimo tram. Quanto più siete sensibili all'impronta del pensiero, tanto più siete suscettibili di essere influenzati da questa corrente di pensiero della paura, finché il vostro spirito, per richiesta costante del potere supremo, si costruisce una corazza di pensiero positiva a questa corrente che le negherà l'accesso. Potete iniziare questa costruzione dicendo, ogni volta che siete colpiti nel modo sopra menzionato o in qualsiasi modo sgradevole, rifiuto di accettare questo pensiero e la condizione mentale che ha portato su di me e che colpisce il mio corpo. Cominciate allora ad allontanare la corrente di pensiero del male. Ognuno ha qualche paura da compagnia, qualche malattia che forse non ha mai avuto, ma sempre teme qualcosa che ha una paura speciale di perdere. Qualche sciocchezza, anche solo una parola o una frase pronunciata da un altro, porta questa paura nella mente. Immediatamente, per lunga abitudine, la mente ritorna a questa paura. Immediatamente si apre ad essa, e tutto il pensiero, il volume e la corrente si precipita e agisce su di essa. Agisce e vibra su quella particolare corda della vostra natura, che per anni ha suonato la vostra debolezza personale. Poi, in qualche modo, il corpo viene colpito in modo sgradevole. Ci sono miriadi di sintomi diversi. Il corpo può diventare debole e tremante. Ci può essere perdita di appetito, tremore, una lingua secca, un cattivo sapore in bocca, debolezza nelle articolazioni, sonnolenza, difficoltà a concentrare la mente sui propri affari e molte altre sensazioni sgradevoli. Tali sintomi sono spesso classificati come malaria. In un certo senso, il nome è corretto, solo che in moltissimi di questi casi è una cattiva atmosfera o una corrente di pensiero che agisce sulle nostre menti, invece della presunta cattiva atmosfera materiale. Senza dubbio, l'atmosfera piena di decomposizione vegetale o animale influenzerà molte persone, ma alcuni vivono per anni in mezzo a stagni e paludi e non hanno mai la malaria. Altri, lontani da tali luoghi, su terreni alti e asciutti, ce l'hanno. Hanno preso una corrente di pensiero di paura. Mettetevi in una casa dove recentemente c'è stato un panico o uno spavento, anche se voi non ne sapete nulla. Il giorno prima stavate bene ed eravate forti. Vi alzate al mattino e presto tutto questo treno di sensazioni sgradevoli vi colpisce, perché la casa o il luogo sono saturi di una corrente di pensiero di paura. Mettete su una città, un paese o una nazione la paura di qualche epidemia mortale o di qualche grande calamità. E centinaia di persone più sensibili, che magari non hanno paura di quell'epidemia o calamità, ne sono comunque affetti in modo sgradevole. Quella corrente di pensiero li colpisce nel loro particolare punto debole. Un fanatico predice qualche grande catastrofe. I giornali sensazionali riprendono l'argomento, lo ventilano, lo ridicolizzano, ma ne scrivono ancora. Questo porta più menti a pensare e più persone a parlare. Più si parla e più si genera questa forza nociva. Di conseguenza migliaia di persone ne sono colpite in modo spiacevole. Alcune in un modo, altre in un altro, perché tutta la forza di quel volume di paura si scatena su di loro. Alcuni vengono uccisi del tutto. Completamente ignari della causa, aprono sempre più la loro mente ad essa. Si soffermano su di essa in segreto. Non emettono alcun pensiero di resistenza. Finché alla fine lo spirito, non potendo più portare un tale carico, spezza il legame che lo unisce al corpo. Più sei impressionabile al pensiero su di te, più sei suscettibile di essere influenzato in questo modo. Ma puoi allenare la tua mente a chiudere fuori questo pensiero. Puoi addestrarla gradualmente a sbarrare strettamente questa porta della debolezza e a tenere aperta solo quella della forza. Puoi farlo coltivando lo stato d'animo di attirare a te stesso e mantenendo lo stato d'animo e la corrente di pensiero che viene da Dio o dal potere supremo per il bene. L'impressionabilità o capacità di ricevere il pensiero è fonte o di forza o di debolezza. Le menti fini, sensibili e altamente sviluppate oggi sono spesso portatrici dei corpi più deboli, perché per ignoranza invitano sempre alcune di queste correnti del male senza alcuna conoscenza della loro esistenza o dei mezzi per allontanarle. Ignorantemente corteggiano o si espongono a tali correnti. L'associazione individuale impropria è una delle principali fonti di tale esposizione. L'organizzazione femminile più fine è più sensibile ad ogni sfumatura e raggio di pensiero su di essa, buono o cattivo. Gli uomini assorti nei loro affari generano per un certo tempo una certa positività che allontana la corrente della paura. Ma questa positività non può sempre durare. Le donne per questa causa spesso soffrono mille volte di più nell'intimità delle loro case, di quanto gli uomini siano consapevoli. L'uomo medio la definisce la via della donna e si chiede perché sia così piena di nervosismo, vapori, nozioni e cattiva salute. Quando vi affidate alla mente infinita perché vi porti fuori da tutte queste agenzie di malattia, quella mente in qualche modo porterà molti aiuti materiali per aiutarvi. Quella mente vi suggerirà medicine e cibi ed intorni e cambiamenti, non solo per aiutarvi temporaneamente, ma in modo permanente, così che quando sarete guariti lo sarete per sempre. Una mente allegra, vivace e speranzosa, e nessuna mente è allegra, speranzosa e vivace senza essere più vicina all'infinito di una mente depressa, acida e cupa, sia essa la mente del vostro medico o del vostro amico vi aiuterà ad uscire dalla corrente di pensiero dannosa. Considerate tale mente come un aiuto dall'infinito, ma non riponete tutta la vostra fiducia in quell'individuo. Riponi la grande fiducia nel potere supremo che ti ha inviato l'individuo come aiuto temporaneo o stampella, fino a quando le tue membra spirituali saranno abbastanza forti da sostenerti. Più entri nella corrente di pensiero proveniente dalla mente infinita, facendoti sempre più parte di quella mente, esattamente come puoi diventare parte di qualsiasi vena di mente bassa, morbosa e malsana, aprendoti a quella corrente, più velocemente ti rinfreschi e ti rinnovi fisicamente e mentalmente. Diventi continuamente un essere più nuovo. I cambiamenti in meglio arrivano sempre più rapidamente. Il tuo potere aumenta per portare risultati. Perdi gradualmente ogni paura, perché ti viene mostrato sempre più che quando sei nella corrente di pensiero del bene infinito non c'è nulla da temere. Vi rendete conto sempre più chiaramente che c'è un grande potere e una grande forza che si preoccupa per voi. Vi stupite del fatto che quando la vostra mente è impostata nella giusta direzione, tutte le cose materiali vengono a voi con pochissimo sforzo fisico o esterno. Vi meravigliate allora del fatto che l'uomo si affanni e si sforzi, affaticandosi letteralmente fino alla morte, quando attraverso tale eccesso di sforzo in realtà allontana da sé il bene arrotondato dalla salute, dalla felicità e dalla prosperità materiale tutti assieme. Vedrete in questa richiesta del bene più alto che state crescendo verso un potere più grande di quanto abbiate mai sognato. Vi accorgerete che la vera vita destinata ai pochi risvegliati ora e ai molti in futuro è un sogno abbagliante, una realizzazione permanente che è una felicità a esistere, una serenità e una contentezza senza diminuzione, una transizione da piacere a piacere e dal grande al più grande piacere. Scoprite, entrando sempre più nella corrente della mente infinita, che non vi è richiesta una fatica estenuante, ma che quando vi affidate con fiducia a questa corrente e lasciate che vi porti dove vuole, tutto il necessario vi verrà incontro. Quando state entrando nella giusta corrente di pensiero, potete per un certo tempo sperimentare più che mai un'inquietudine, fisica e mentale. Questo perché il nuovo elemento che agisce su di voi vi rende più sensibili alla presenza del male. Il nuovo scaccia il vecchio. La nuova corrente di pensiero cerca e rileva ogni piccolo errore nella vostra mente prima inosservato e lo respinge. Questo provoca una lotta e la mente e il corpo ne sono per un certo tempo spiacevolmente colpiti. È come la pulizia della casa, un processo che di solito comporta una buona dose di polvere e disturbo. Il nuovo spirito che chiamate a voi sta pulendo la vostra casa spirituale. Non c'è limite al potere della corrente di pensiero che potete attirare a voi, né limite alle cose che possono essere fatte attraverso l'individuo da essa. In futuro alcune persone attireranno verso di loro così tanta corrente di pensiero di qualità superiore che per mezzo di essa compiranno ciò che alcuni chiamerebbero miracoli. In questa capacità della mente umana di attirare una corrente di pensiero sempre maggiore in finezza di qualità e potenza sta il segreto di ciò che è chiamato magia. Capitolo 4. Un modo per coltivare il coraggio. Coraggio e presenza di spirito significano la stessa cosa. La presenza di mente implica il comando della mente. Codardia e mancanza di controllo mentale significano più o meno la stessa cosa. La codardia è radicata nella fretta, l'abitudine alla fretta e la mancanza di riposo. Tutti i gradi di successo sono basati sul coraggio, mentale o fisico. Tutti i gradi di fallimento sono basati sulla timidezza. Si può coltivare il coraggio e aumentarlo in ogni minuto e ora del giorno. Puoi avere la soddisfazione di sapere che in ogni cosa che fai hai realizzato due cose. Vale a dire il fare la cosa stessa e con il modo in cui la fai aggiungendo eternamente a te stesso un altro atomo della qualità del coraggio. Puoi fare questo coltivando la deliberazione. Deliberazione nel parlare, nel camminare, nello scrivere, nel mangiare. Deliberazione in tutto. C'è sempre un po' di paura dove c'è un po' di fretta. Quando ci si affretta a prendere il treno si ha paura di essere lasciati e con questo viene la paura di altre possibilità conseguenti al fatto di essere lasciati. Quando ci si affretta alla festa, all'incontro di una persona su appuntamento, si ha paura di qualche male o danno derivante dal non essere in tempo. Questa abitudine di pensiero può, attraverso un addestramento inconscio, crescere a tal punto da pervadere la mente di una persona, in ogni momento e luogo, e portare a una paura di perdita di qualche tipo, quando non c'è assolutamente nessuna perdita da sostenere. Per esempio, una persona può affrettarsi a prendere un tram e agire e sentirsi come se si verificasse una grande perdita se non salisse su quel particolare mezzo, quando ce ne può essere un altro vicino, o al massimo due o tre minuti di attesa lo porteranno. Eppure, la paura di aspettare quei tre minuti cresce fino a diventare una montagna di dimensioni, ed è nella mente di quella persona una possibilità molto sgradevole. Per mera abitudine, una simile condizione di fretta può caratterizzare il camminare, il mangiare, lo scrivere. In breve, tutto ciò che fa, e renderà sempre più difficile per questa persona agire con freddezza e deliberazione. La qualità della mente o emozione, che sta alla base di tutta questa condizione mentale affrettata e del conseguente atto affrettato, è la paura. La paura non è altro che un nome per la mancanza di potere di controllare la nostra mente, o in altre parole, di controllare il tipo di pensiero che pensiamo o emettiamo. È questo tipo di allenamento mentale inconscio, che è molto comune, che genera una condizione permanente della mente, sempre più soggetta a grandi e piccoli panici, alla minima interruzione o banale delusione. Crea delusioni quando non sono necessarie. È il cuneo sempre aperto che fa entrare sempre più la corrente di pensiero della paura. Perché se coltivi così la paura di una cosa, stai coltivando e aumentando la passività alla paura in tutte le cose. Se ti permetti di sederti per mezz'ora nella paura, che la carrozza possa non chiamarti in tempo per arrivare alla nave o al treno, sei molto più suscettibile di essere colto da una serie di attacchi di panico per ogni banale evento o ostacolo che si verifica in quel particolare viaggio. In questo modo, questa abitudine mentale entra e viene coltivata nel fare le cosiddette piccole cose. Stai scrivendo o cucendo, o sei impegnato nell'esecuzione di qualche lavoro che ti interessa intensamente e nel quale non ti piace essere interrotto. Se stai cucendo, prendi le tue forbici che sono cadute sul pavimento. Lo fai in uno stato d'animo momentaneamente impaziente e con un'azione spasmodica a scatti. La tua mente, come si dice, è sul tuo lavoro. Non la toglierete dal vostro lavoro mentre prendete le forbici. State cercando nella mente di continuare il vostro lavoro e di raggiungere le forbici nello stesso momento. Rendi il movimento dei muscoli e l'azione del corpo momentaneamente sgradevole e fastidioso, perché rifiuti per un secondo di mettere in quell'atto la forza che richiede. Quando inconsciamente si rifiuta di fare questo, qualsiasi atto diventerà sgradevole e spiacevole, perché non c'è abbastanza forza per fare l'atto con facilità. È lo sforzo di farlo con un corpo debole. Avete il potere di gettare la vostra forza istantaneamente in qualsiasi muscolo, rendendo così l'atto facile e piacevole. Questa capacità di attivare la forza su qualsiasi parte che vuoi aumenta attraverso la sua coltivazione. E puoi fare molto di più e meglio attraverso questa coltivazione della deliberazione, perché la deliberazione può essere rapida come il pensiero, quanto più la mente è allenata in quella direzione. Se raccogliete uno spillo o annodate una stringa di scarpe in fretta, lo fate non solo perché tale atto vi dà fastidio, ma perché temete che possa privarvi momentaneamente di un po' di piacere. Ecco che hai di nuovo aperto la tua mente alla corrente di pensiero della paura, la paura di perdere qualcosa. La coltivazione del coraggio inizia con la coltivazione della deliberazione, nei cosiddetti piccoli atti come questi. Deliberazione e coraggio sono strettamente legati come la paura e la fretta. Se non impariamo a governare correttamente la nostra forza nel fare il più piccolo atto, troveremo tale governo molto meno facile nel fare tutti gli atti. Se analizziamo ciò che temiamo, scopriremo che nella nostra mente stiamo cercando di occuparci di troppe cose in una volta sola della cosa temuta. C'è solo una quantità relativamente piccola da affrontare ora. In qualsiasi transazione, nel fare qualsiasi cosa, c'è solo un passo da fare alla volta. Dobbiamo mettere la forza necessaria e non di più su quell'unico passo. Quando questo è stato fatto, possiamo prendere il successivo. Quanto più alleniamo la nostra mente a concentrarsi su un solo passo, tanto più aumentiamo la capacità di inviare la nostra forza tutta in una determinata direzione contemporaneamente. Tale forza si estende, dovrebbe essere così utilizzata nei cosiddetti dettagli più minuti della vita quotidiana. In questo modo la deliberazione e l'azione deliberata diventano abituali e noi siamo in un certo senso inconsapevoli di renderci deliberati. Così come dopo un lungo addestramento nella direzione opposta è sbagliata, siamo inconsapevoli di mettere in atto lo stato d'animo frettoloso. La timidezza è spesso il risultato del guardare troppe difficoltà o terrori in una volta sola. Nella realtà materiale abbiamo a che fare con uno solo alla volta. Se stiamo andando a quello che temiamo sarà un colloquio sgradevole con una persona dura, irascibile e prepotente, siamo incline ad andare, occupando la nostra mente con l'intero colloquio, mettendoci nel bel mezzo di esso e vedendolo in mente come necessariamente difficile o sgradevole. Forse ci stavamo pensando questa mattina mentre ci stavamo vestendo. Ma era allora il nostro dovere di vestirci. Vestirsi era un passo necessario per il colloquio e vestirsi bene anche. Forse occupava i nostri pensieri mentre mangiavamo. Ma era poi il nostro dovere mangiare e trarre tutto il piacere possibile dal nostro cibo. Questo era un altro passo. Più riposante è il nostro mangiare, più vigoroso sarà il nostro gusto e più forza darà il nostro cibo al nostro corpo. Forse il timore di questo colloquio era su di noi mentre camminavamo verso il luogo stabilito per esso. Ma era allora il nostro giusto compito di camminare e ottenere dal nostro camminare tutto il piacere che poteva. Questo era un altro passo. Il piacere è il risultato certo del porre il pensiero o la forza sulla cosa che stiamo facendo ora. E il dolore di qualche tipo, sia nel presente che nel futuro, è il risultato certo del mandare il pensiero o la forza lontano dall'atto che deve essere fatto in questo momento. Quando ci vestiamo, mangiamo, camminiamo o facciamo qualsiasi cosa con la mente posta su qualcos'altro, stiamo rendendo l'atto presente sgradevole. Ci stiamo allenando a rendere ogni atto sgradevole e fastidioso. Stiamo rendendo la cosa temuta una certezza, poiché ciò che poniamo nel pensiero come sgradevole è una cosa effettiva, una realtà. E più a lungo continuiamo a metterlo fuori, più forza gli aggiungiamo e più è probabile che si realizzi nel mondo fisico. Per ottenere ciò che tutti vogliono e cercano, cioè la felicità, dobbiamo avere un perfetto controllo della nostra mente e del nostro pensiero, in ogni momento e luogo. Uno dei mezzi più importanti e necessari per ottenerlo sta in questa disciplina, riguardo alle cosiddette cose piccole o banali. Proprio come la disciplina e il movimento di un esercito, inizia con l'allenamento delle gambe e delle braccia dei soldati privati. Se ci si affretta e si farfuglia su questi cosiddetti dettagli insignificanti, è più facile che si venga sballottati dalla guardia o confusi di fronte agli imprevisti. E nella vita è l'imprevisto che accade sempre. Abbiamo bisogno di tenere la nostra mente sempre presente con noi. La vogliamo sempre sul posto, pronta per essere usata in qualsiasi direzione. Il nostro pensiero non è sul posto quando leghiamo una stringa di scarpe e pensiamo a un miglio da quella stringa, quando ripariamo una matita e ci soffermiamo su una delle preoccupazioni di domani. È allora lontano. E se per tutta la vita ha avuto l'abitudine di allontanarsi così dall'atto in mano all'atto lontano, diventa sempre più difficile riportarlo all'uso e più difficile usarlo prontamente quando viene riportato. Il nostro pensiero si muove da una cosa all'altra con una velocità più che elettrica e possiamo inconsciamente allenare questa rapidità per essere sempre in balzo da una cosa all'altra, fino a che diventa quasi impossibile tenerlo su una cosa per dieci secondi consecutivi. Al contrario, attraverso la coltivazione del riposo e della deliberazione in tutte le cose, possiamo allenarci a massificare e fissare il nostro pensiero su qualsiasi cosa per tutto il tempo che vogliamo, a gettarci in qualsiasi stato d'animo che vogliamo e a gettarci a volontà nel sonno o in uno stato di semicoscienza e di sogno riposante come il sonno. Queste sono solo una piccola parte delle possibilità della mente umana. Non c'è limite alla sua crescita o all'aumento del suo potere e nessuna cosa che rientra nei limiti della nostra immaginazione può essere compiuta da essa. I passi verso queste conquiste sono molto piccoli, molto semplici e relativamente facili. Così semplici e facili che alcuni li rifiutano per questo motivo. Indubbiamente, questi poteri e molti risultati derivanti dal loro esercizio erano noti secoli fa a un numero relativamente ristretto di persone. Ma qualsiasi potere o qualsiasi condizione mentale che ne consegue può essere reso più chiaro ad un popolo di lingua inglese, attraverso l'uso di una parola o di una forma di espressione inglese, che con termini presi da altre lingue. L'indiano del Nord America e l'Orientale avevano in alcuni casi il potere di allontanare tutti i pensieri e di rendere le loro menti in un certo senso vuote, in modo da diventare non solo insensibili alla paura, ma questa condizione mentale rendeva i loro corpi quasi insensibili alla sofferenza fisica. Era il potere di indurre questa condizione mentale, che permetteva all'indiano, quando veniva fatto prigioniero, di resistere ad ogni strumento di tortura inflitto dai suoi rapitori e di cantare il suo canto di morte sotto l'inflizione del fuoco e un lento processo di mutilazione corporea troppo orribile per essere descritto e che pochissimi della nostra razza potevano sopportare senza passare nella frenesia dell'agonia. L'indiano è molto più riposato e deliberato della maggioranza della nostra razza, sia nel movimento mentale che fisico. Coltivando inconsciamente questo riposo e vivendo una vita meno artificiale della nostra, egli ha aumentato il suo potere spirituale, un risultato sicuro del quale è quella padronanza della mente sul corpo che può diminuire il dolore fisico e, come ultima possibilità, bandirlo del tutto. La deliberazione del movimento, o in parole povere, il movimento del muscolo così lento che la nostra mente ha il tempo di eseguirlo, dà il tempo di pensare nelle grandi e piccole emergenze. Ma la mancanza di un tale allenamento provoca un'azione fisica inconsapevole. Così confermata diventa questa abitudine che il corpo si muove senza che ce ne rendiamo conto. La goffaggine, la mancanza di indirizzo, la mancanza di tatto, sono tutte dovute a questa mancanza di comando della mente causata dalla mancanza di deliberazione, o in altre parole, un'incapacità allenata a prendere tempo per pensare o pianificare la cosa giusta da fare. La persona terrorizzata, se la nave sembra in pericolo improvviso, corre su e giù per il ponte senza alcuno scopo, e questa azione fisica è un'esatta corrispondenza della condizione della sua mente, il cui pensiero è stato sempre così guizzante da una cosa all'altra, proprio come il capricciolo accolto. La persona più deliberata, la cui mente è allenata a prendere tempo per pensare e trattenere o concentrare il suo pensiero, si tiene ferma, e così si dà il tempo di vedere quali possono essere le opportunità di fuga. E queste due persone prenderebbero uno spillo in modo molto diverso e con un'azione mentale e un metodo molto diversi. Allenarsi allora al coraggio è allenarsi al movimento deliberato in tutte le cose, perché questo è semplicemente allenarsi a mettere in massa e tenere la forza in riserva, e a non far uscire più di quanto sia necessario per il momento. Nessuna qualità materiale è più necessaria al successo in tutte le imprese del coraggio, e per coraggio intendo non solo il coraggio di agire, ma il coraggio di pensare. Negli affari quotidiani migliaia di persone non osano pensare di fare un passo che comporti un esborso di denaro superiore alla media delle loro spese. Sono inorriditi alla menzione di una somma così grande. Per pura paura, non accarezzano l'idea abbastanza a lungo per familiarizzare con essa. Ora, se invertissero questa azione mentale e invece di cedere immediatamente, per abitudine, a questa paura, prendessero tempo e lasciassero riposare il pensiero nella loro mente invece di scacciarlo, col tempo avrebbero loro delle idee sui modi e sui mezzi per far fronte alla spesa aggiuntiva, e quindi guadagnare una somma maggiore nello stesso tempo impiegato per fare la piccola somma. Per esempio, si dice alla donna che va a lavare di giorno e non ha mai fatto altro. Signora A, perché non inizia una lavanderia? Così facendo può guadagnare molto di più. Avvio una lavanderia. Da dove viene il denaro per avviare una lavanderia? È la sua risposta. Qui la donna, invece di prendere in considerazione la tua idea, si spaventa immediatamente per quella che le sembra l'immensa somma richiesta, e seguendo lo stesso stile di pensiero irragionevole a capofitto, in preda al panico, si oppone in un attimo alla tua proposta. Osa pensare solo a lavorare per il salario giornaliero, come le viene richiesto da coloro che la assumono. E migliaia di persone per questa ragione non osano pensare, o trovano sgradevole pensare, di entrare in qualche sfera d'affari più ampia, più responsabile e più redditizia, perché raggruppano subito tutte le sue possibili difficoltà in una massa, e per semplice abitudine guardano solo a quel terribile e immaginario mucchio. Ma la signora C, la lavandaia più deliberata, ascolta la tua proposta e la prende in considerazione. Col tempo si dice, perché non dovrei aprire una lavanderia? Altre persone l'hanno fatto e ci sono riuscite. Vive nell'idea, ne parla con uno e con un altro, e scopre come hanno iniziato. Più a lungo si mantiene in questa corrente di pensiero, e più chiaramente vede i modi e i mezzi con cui altre persone si sono sistemate. Alla fine, l'idea cresce così tanto in lei che fa qualche passo verso quel fine, e poi un altro e un altro ancora, e così per gradi entra nel business. Una persona è fredda e raccolta di fronte a qualsiasi grande pericolo, perché ha il potere di tenere la sua mente sulla cosa da fare all'istante. La codardia non ha tale potere, e può vedere nella mente non solo la fonte del pericolo, ma una ventina di possibili risultati che possono o non possono accadere a lui. In battaglia, un uomo può occuparsi del suo dovere, con una condizione mentale vivida e per nulla piacevole, mentre vede uomini colpiti e maciullati intorno a lui. Ma la forza o il pensiero che può portare allo svolgimento del suo dovere è più grande in quantità di quello che viene dalla realizzazione del massacro intorno a lui, e comanda e tiene il suo corpo al suo posto. L'uomo che corre, o che lo farebbe se ne avesse la possibilità, non può fissare la sua mente su nient'altro che le spaventose possibilità del momento. Nel cosiddetto atto banale di prendere uno spillo, o infilare un ago, o aprire una porta, non sostengo che tutta la forza o il pensiero debbano essere posti sull'atto, ma solo abbastanza per eseguire bene l'atto mentre il resto è tenuto in riserva. È in sostanza lo stesso che nel sollevare un peso. Non si cerca di spendere la forza nel sollevare una libra che nel sollevare 50 libre. Si spende molta più forza nell'atto di prendere uno spillo quando la mente è preoccupata per qualcos'altro, perché allora si sta cercando di fare due cose o di sollevare due pesi contemporaneamente. Vi ricorderete che tutto ciò che viene fatto con la mente spende abbastanza forza come se fosse fatto con il corpo, così che le persone che si attardano al mattino e pensano con timore alle colazioni da cucinare o alle stanze da spazzare, per quanto riguarda il dispendio di forza, faranno quegli atti in quel momento e lì mentre sono sdraiati sulla schiena. Spendendo solo la forza sufficiente per eseguire qualsiasi atto, una capacità che crescerà gradualmente su di voi man mano che familiarizzerete con questa idea e impostate il vostro desiderio o richiesta su di essa, coltivate e aumentate continuamente quello stato mentale desiderabile, che nel linguaggio comune è conosciuto come avere il vostro ingegno intorno a voi. Ciò significa, in altre parole, avere sempre, qualunque cosa stiate facendo, i vostri occhi mentali aperti in ogni direzione. E mentre esteriormente sembrate tutti intenti e occupati in un atto, la vostra mente, o spirito, come una sentinella vigile, è continuamente allerta, in modo da darvi notizia in una frazione di istante di tutto ciò che sta accadendo intorno a voi, e anche per indirizzarvi su come affrontare l'evento qualunque esso sia. Questa non è solo la caratteristica del coraggio, ma anche del tatto e dell'indirizzo. Furono questa vigilanza elettrica e questa attenzione mentale, che diedero a un ufficiale americano durante la rivoluzione, che nella confusione della battaglia si trovò improvvisamente di fronte a un reggimento britannico, la decisione di chiedere, che truppe sono queste? I Royal Scots, fu la risposta. Gli scozzesi reali rimangono come siete, fu la sua risposta, e cavalcò verso le proprie linee. Quell'uomo aveva una mente allenata a dargli il tempo di pensare. In un'occasione, la signora Ferran, la celebre attrice inglese, scoprì, quando la sua parte richiedeva di urlare un fazzoletto, che il proprietario aveva dimenticato di disporre l'ago, il filo, eccetera, del fazzoletto. Senza un attimo di esitazione, si sedette, e imitò in modo così naturale il movimento e il modo di cucire di una signora, che la maggior parte del suo pubblico non sospettò mai l'omissione. Quell'atto implicava possesso di sé, freddezza, deliberazione, presenza di spirito, coraggio. Tutti questi termini non implicano forse uno stato d'animo simile? Una donna abitualmente affrettata e frettolosa non avrebbe potuto fare questo. E credo che quando la signora Ferran ha ritenuto opportuno prendere uno spillo, lo ha fatto in modo molto più deliberato di quanto farebbe un uomo o una donna abitualmente affrettati e frettolosi. Coltivate l'atto deliberato e il movimento in tutte le cose, e porrete sempre più le solide basi del coraggio, sia morale che fisico. Ma l'atto deliberato non implica sempre la lentezza. Proprio come il pensiero si muove con rapidità elettrica, così può muovere il corpo quando l'occasione lo richiede. Ma il pensiero deve essere chiaramente pianificato, visto e delineato nella mente, prima che gli sia permesso di agire sul corpo. È così visto o pianificato, e così agisce per usare i muscoli nella rapida spinta e parata dell'abile schermidore, e similmente con la ballerina professionista. In effetti, in tutte le realizzazioni superiori, siano esse di pittore, musicista o altro artista. Questi, tuttavia, in molti casi, non sono che controlli parziali della mente. Al di fuori della sua arte, l'artista può avere poco controllo mentale o deliberazione, e di conseguenza essere nervoso, vacillante, facilmente disturbato, capriccioso e timido. La mente è la nostra guarnigione da armare in tutti i punti, e disciplinata per affrontare qualsiasi emergenza. Abbiamo a che fare con la creazione, o autocreazione, di uomini e donne interi, le cui menti non sono coltivate tutte in una direzione e trascurate in ogni altra. Alla fine è molto meglio crescere simmetricamente ed essere finiti per quanto siamo cresciuti tutto intorno, piuttosto che avere in nostro potere tutto concentrato su un talento o capacità, e diventare quello che il mondo chiama un genio. La storia interna del genio è spesso triste, e mostra che ha portato poca felicità al suo possessore. Decine e centinaia di piccoli atti della vita quotidiana, come raccogliere gli articoli caduti dal pavimento, aprire e chiudere i cassetti, posare o raggiungere gli articoli sul tavolo della toilette, e occuparsi di piccoli dettagli del vestire, sono fatti inconsciamente in questa condizione mentale affrettata, specialmente quando qualche oggetto più importante impegna la nostra attenzione. Noi afferriamo, stringiamo, guidiamo in modo sconsiderato nel fare queste cose, e indebuliamo i nostri corpi e diventiamo stanchi, e infine in preda al panico, e facilmente spaventati a causa di questa abitudine mentale, perché la paura e la codardia si insinuano molto più facilmente quando il corpo è debole. Questa abitudine non può essere cambiata in un giorno o in un anno quando ha pervaso tutta una vita. Nei mali mentali e fisici, derivanti da tale abitudine, possono essere curati immediatamente. Ci può essere solo una crescita graduale per allontanarsi da essi. Se leggendo questo vi sentite convinti che c'è qualcosa in esso, e sentite che la convinzione che qualche parte di esso si adatta al vostro caso, allora la vostra cura è iniziata. La vera convinzione, la convinzione che viene dall'interno, non lascia mai uno o smette di lavorare per tirarci fuori dalla vita del male e metterci in quella del bene. Può sembrare sepolta e dimenticata per stagioni, e le nostre abitudini erronee possono sembrare più forti che mai. Non è così. Ma man mano che le convinzioni mettono radici, vediamo sempre più chiaramente i nostri errori. Dimentichiamo che un tempo eravamo ciechi e non li vedavamo affatto. Se questo libro vi porta a una convinzione di un errore stabilito da tempo, non sono io individualmente che porto o convinco. È solo che io metto fuori più o meno di una verità, che si impadronisce di voi, e la corda della verità in voi la percepisce. Se applico la torcia al getto di gas e lo accendo, non ne consegue che io faccia o il fuoco o il gas. Io sono solo un mezzo o un agente per accendere quei gas. Nessun uomo crea o inventa una verità. La verità è tanto generale e diffusa e appartiene ad ogni individuo quanto l'aria che respiriamo. E c'è abbastanza piacere nell'essere il suo portatore di fiaccole, senza presumere di rivendicare il potere del suo creatore. Soprattutto esigere sempre più coraggio dal potere supremo. Capitolo 5. Guardare avanti. La tendenza di molte persone che sono un po' avanti negli anni è di guardare indietro e con rimpianto. Il guardare dovrebbe essere nell'altro senso, in avanti. Se vuoi tornare indietro in ogni senso, mentale e fisico, continua a coltivare lo stato d'animo di vivere con rimpianto la tua vita passata. Una delle caratteristiche principali della mente materiale è quella di aggrapparsi tenacemente al passato. Le piace ricordare il passato e piangerci sopra. La mente materiale ha una serie infinita di solenni divertimenti nel ricordare le gioie passate e nel sentirsi triste perché non torneranno mai più. Ma il vero sé, lo spirito, si preoccupa relativamente poco del suo passato. Corteggia il cambiamento. Si aspetta di essere un individuo diverso nel pensiero tra un anno da quello che è oggi. È disposto, tra mille anni, a dimenticare chi o cosa è oggi, perché sa che questo intenso desiderio di ricordare se stesso per ciò che è stato ritarda la sua avanzata verso un maggiore potere e un maggiore piacere. Che ti importa di ciò che eri mille o cinquemila anni fa? Eppure allora eravate qualcosa, e qualcosa di molto meno di quello che siete oggi. Siete curiosi, potreste rispondere, di sapere cosa eravate. Sì, ma vale la pena pagare la curiosità se per tale appagamento dovete pagare il prezzo di trascinarvi dietro cento cadaveri dei vostri sé morti. Quei sé, quelle esistenze, hanno fatto il loro lavoro per voi. Nel fare quel lavoro vi hanno portato forse più dolore che piacere. Volete mai portare con voi il ricordo e il peso di quel dolore? Specialmente quando tale fardello porta altro dolore e vi priva del piacere. È come l'uccello che dovrebbe insistere a portare sempre con sé il guscio da cui è stato partorito. Se hai un ricordo triste, buttalo via. Se non puoi liberartene, chiedi al potere supremo di aiutarti a farlo e tale aiuto arriverà. Se vuoi diventare vecchio, debole, grigio e avvizzito, vai subito a vivere nel tuo passato e rimpiangi la tua giovinezza. Andate a rivisitare i luoghi e le case dove avete vissuto 20, 30, 40 anni fa. Richiamate i morti, piangete su di loro, vivete nel ricordo delle gioie che avete vissuto lì e dite che sono andate e fuggite e non torneranno più. Così facendo, fissate dei sé morti su di voi. Se entrassimo in un'altra vita fisica con il ricordo dell'ultima, dovremmo venire al mondo fisicamente come vecchi uomini e donne in miniatura, decrepiti e brizzolati. La giovinezza fisica è fresca e rigogliosa perché non porta con sé nessun triste ricordo materiale del passato. Una ragazza è bella perché il suo spirito si è liberato del passato e dei tristi ricordi della sua vita precedente e ha quindi la possibilità di affermarsi per un periodo. Una donna comincia ad invecchiare ed allora comincia a caricarsi di rimpianti per un passato che non ha più vent'anni. Il vostro spirito esige per il corpo che usa, grazia, agilità di movimento e bellezza personale perché è fatto a immagine di Dio e la mente e la vita infinite, la bellezza, la grazia e l'agilità sono le caratteristiche di quella mente. In quella fase dell'esistenza che chiamiamo infanzia e gioventù, lo spirito ha la possibilità di affermare il suo desiderio di bellezza e agilità perché non si è ancora caricato di false credenze e rimpianti. La vivacità, l'allegria e l'instancabile giocosità del ragazzo o della ragazza di dieci o anni, è dovuta alla gioia di spirito sollevata dal peso che si portava in un'esistenza passata. Quel fardello era uno dei pensieri non redditizi da portare. Avreste fisicamente l'agilità che avevate a quindici anni se poteste liberarvi del fardello del triste ricordo e della credenza nell'errore che avete caricato in questi venti o trent'anni passati. Puoi iniziare il processo di scarico ora, decidendo, con l'aiuto del potere supremo, di buttare via il ricordo di tutto ciò che nel passato ti ha infastidito, tutto ciò che rimpiangi e tutto ciò per cui ti sei addolorato. Dio non piange e non si pente mai. Tu, come spirito, sei fatto a sua immagine e somiglianza. Dio è vita eterna, gioia e serenità. Più di queste caratteristiche rifletti, più sei vicino allo spirito infinito del bene. Hai sepolto i tuoi cari sulla terra? Non fai loro alcun bene con i tuoi tristi pensieri su di loro. Mettete una barra tra il loro spirito e il vostro, pensando a loro come perduti. Così facendo, potresti non solo aumentare e incoraggiare in loro una triste condizione mentale, ma portare la loro cupa condizione mentale su te stesso, come molti fanno nel lutto. Il più grande bene che possiamo fare loro è pensare a loro come vivi, come noi stessi, e scacciare dalla nostra mente le loro tombe, le pietre tombali, le bare, i sudari e l'orrore. Se non possiamo farlo da noi stessi, chiediamo aiuto al potere supremo per farlo. Spesso facciamo sentire morti coloro che hanno perso il loro corpo quando pensiamo a loro come tali. Se lo facciamo, essi rigetteranno su di noi i loro pensieri di morte. State lontani dai cimiteri. Può sembrare ad alcuni che io sia freddo e insensibile a dire questo, ma la verità, come mi presenta, dice che il cimitero dove i vostri cari non giacciono è spiritualmente un luogo malsano da visitare. Sono pieni del pensiero del rimpianto, della morte e della decadenza. Quando li visitate, incorporate tale pensiero in voi stessi. È ostile e uccide la giovinezza, il vigore, l'elasticità, l'allegria e la vita. I nostri cimiteri sono pieni di bugie. Mettiamo una pietra sul corpo smembrato di un amico. Su quella pietra mettiamo la parola «morto». Questo non è vero. Il tuo amico non è morto. È solo il corpo che ha usato che giace lì. Ma quella tomba è piantata nella vostra memoria. E il vostro amico, nella vostra mente, giace in essa. Fate quello che volete. Provate a credere quello che potete dell'eterno prolungamento della vita e dell'impossibilità di qualcosa di simile alla morte nell'universo. Non possiamo fare a meno di crederci, quando pensiamo a quella tomba o la rivisitiamo, un'immagine di quell'amico come morto è in decomposizione nella sua vara. Questa immagine la fissiamo nella nostra mente. E così facendo, fissiamo su noi stessi il pensiero del buio, della morte e della decadenza. I pensieri di decadenza e morte sono cose e forze. Quando li teniamo così tanto in mente, aggiungiamo elementi di decadenza al corpo. Abbiamo bisogno, per quanto possibile, di fissare il nostro pensiero sulla vita e sulla vita crescente. Una vita più grande nella sua attività di qualsiasi altra che abbiamo mai realizzato. Questo non si ottiene guardando indietro. Guarda avanti. Ogni rimpianto, ogni pensiero luttuoso toglie così tanto alla tua vita. È una forza usata per accumulare più infelicità. È una forza usata per rafforzare l'abitudine a rimpiangere. È una forza usata per far sì che la mente colori tutto con una sfumatura di tristezza. E più a lungo si usa la forza in questo modo, più oscura diventerà la sfumatura. Inoltre, quando torniamo sempre con la memoria al passato e viviamo in esso, preferendolo al presente, riportiamo su noi stessi i vecchi stati d'animo e le condizioni mentali appartenenti a quel passato. Questo sentimento, costantemente assecondato, porterà a qualche forma di malessere fisico. Il malessere appartiene a una condizione mentale con la quale dovremmo aver chiuso per sempre. Se guardiamo avanti, ce lo scrolleremo di dosso e saremo più sani che mai. Se l'umore predominante della nostra mente è quello di guardare indietro, il risultato finale sarà grave per il corpo. Negli affari del mondo, il vostro uomo d'affari attivo e intraprendente trascorre poco tempo nel triste ricordo. Se lo facesse, i suoi affari ne soffrirebbero. Il suo pensiero è in avanti. Questo pensiero è la vera forza che spinge avanti i suoi affari. Se lo passasse in tristi ricordi del passato, i suoi affari andrebbero indietro. Egli opera il suo successo, nella misura in cui ha davvero successo, con questa legge spirituale, anche se non lo sa. Forse state dicendo, ho fallito nella vita e sarò sempre un fallimento. Questo perché state sempre tornando indietro, vivendo nel vostro fallimento e portando così a voi altro fallimento. Invertite questo atteggiamento mentale, lavorate nell'altro senso e vivete nel successo futuro. Perché dite, sono sempre malato? Perché state guardando indietro, rivivendo i vostri malanni passati e quindi portando bene altri su di voi. Ho sentito usare l'espressione «quando la Terra era giovane», come se questo pianeta fosse ora nel suo decadimento e andasse in rovina. Nel senso di freschezza, aumento della vita, raffinatezza e purezza in ogni forma di vita, sia quella umana, animale, vegetale e così via, questa Terra non è mai stata così giovane come oggi. La giovinezza è la vita che cresce e aumenta in bellezza e potenza. Non è l'inizio più crudo della vita. La cosiddetta roccia sterile contiene elementi che contribuiranno a formare il futuro albero e fiore. La parte della roccia che entra nell'albero e nel fiore aumenta o diminuisce la vita? Cambia solo in un'espressione di vita più alta e più bella. Così facciamo noi di età in età. La roccia si sgretola per poter vivere in questa forma superiore. La vecchia mente deve sgretolarsi e passare via per dare posto alla nuova e fare di noi l'essere spirituale più nuovo. Come la vecchia mente si sgretola, così sarà il vecchio corpo, perché il cambiamento spirituale deve essere accompagnato dal cambiamento fisico. Ma se vivete nella comprensione e nello spirito di questa legge, non avete bisogno di perdere un corpo fisico, ma di averne uno che cambia sempre in meglio. Vivendo nella legge spirituale, come la vecchia vita se ne va, la nuova entra. Niente è in natura, niente nell'universo è fermo, niente va indietro. Una gigantesca forza e saggezza incomprensibile muove tutte le cose in avanti, verso poteri e possibilità più grandi e più elevati. Voi siete inclusi e fate parte di questa forza. C'è in voi, in embrione, il potere di impedire che il corpo fisico che il vostro spirito usa si decomponga. È il potere anche di usarlo in modi che persino la narrativa di oggi scarterebbe, come troppo selvaggi, per le pagine del romanzo. Per il vostro spirito, la giovinezza e la sempre crescente giovinezza sono un'eredità eterna. Se il vostro corpo è invecchiato, non è segno che il vostro spirito sia invecchiato. Lo spirito non può invecchiare in senso materiale, più di quanto la luce del sole possa invecchiare. Se il vostro corpo è invecchiato, è perché quel corpo è diventato l'aspetto materiale e l'espressione di un falso sé o guscio che si è formato sul vostro spirito. Quel falso sé è fatto di pensieri prevalenti fin dalla prima età fisica, e quei pensieri sono pensieri falsi. Una gran parte di quel pensiero è il rimpianto. Il rimpianto è una forza inversa. Unvolgere la mente a guardare indietro quando il suo stato naturale è sano è quello di guardare avanti, e vivere nelle gioie che sono certe di venire quando guardiamo avanti. Nella nuova vita che verrà alla nostra razza, quando avremo imparato a guardare sempre in avanti verso le più grandi gioie a venire, e smetteremo di guardare indietro e di trascinare il passato morto con noi, gli uomini e le donne avranno corpi molto più belli e graziosi di quelli di oggi, perché i loro corpi immagineranno o rifletteranno i loro pensieri, e i loro pensieri saranno sempre fissati su ciò che è bello e simmetrico. Essi sapranno che ciò che verrà è ciò che è in serbo per loro dalla ricchezza della mente infinita deve superare qualsiasi cosa abbiano realizzato in passato. Oggi, nella grande maggioranza delle persone, il loro atteggiamento mentale è esattamente il contrario. A causa della poca fiducia che hanno in quella potenza che il teologo chiama Dio, hanno sempre in mente di dire, non ci sono gioie a venire per noi come le nostre gioie passate. La nostra giovinezza è fuggita. Il nostro futuro sulla Terra è addomesticato e monotono. È come polvere e cenere. La verità, che la vita non finisce con la morte del corpo, progredisce lentamente nel fissarsi saldamente nella nostra mente. Il tipo di vita che un uomo può vivere qui a 70 anni non finisce nella tomba. Continua direttamente. Il vecchio, come lo chiamiamo qui, si sveglia nell'altro lato della vita, dopo aver perso il suo corpo, ancora vecchio. Se è uno di quei vecchi che hanno superato i loro giorni e la loro generazione, che vivono nel loro passato fisico e lo guardano indietro con rimpianto, che sono diventati troppo vecchi per imparare e pensano di aver finito tutto, egli sarà proprio un vecchio del genere nel mondo dello spirito. Non c'è un'improvvisa trasformazione in giovinezza alla morte di un corpo logoro e decrepito. Come l'albero cade, così giace per un periodo, anche nell'aldilà. Ma in questo stato non può rimanere per sempre, deve crescere, non in età, ma in giovinezza. Per fare questo è necessario non solo che lasci il vecchio corpo, ma anche la vecchia mente materiale che ha fatto quel corpo. Il suo spirito getta via quella mente quando ottiene un nuovo corpo o si rincarna. E la getta via perché perde il ricordo di tutti i tristi ricordi e rimpianti passati. L'uomo dovrebbe nella mente essere sempre un ragazzo, la donna la ragazza. Si può, come uomo o donna, essere sempre ragazzo o ragazza nello spirito, senza essere sciocchi o perdere la vera dignità. Si può avere tutta la giocosità della gioventù con la saggezza della maturità. Per avere una mente chiara e potente non è necessario essere un gufo. Ci può essere per un certo periodo una certa utilità per noi nel tornare alle nostre vite passate più recenti, per un certo tempo vivere in esse. A volte siamo spinti indietro temporaneamente, in qualche vecchia condizione mentale, in qualche vecchia esperienza, per renderci più vivi che mai agli stracci e ai brandelli di errori di credenza che ancora si aggrappano a noi. Questo può derivare dalla rivisitazione di luoghi e persone da cui siamo stati separati a lungo. Per un certo tempo, durante tale visita, le vecchie associazioni, gli stati d'animo ad esse collegati e forse le vecchie abitudini, che pensavamo di aver abbandonato da tempo, riprendono il loro dominio. Possiamo essere per un certo tempo assorbiti e inghiuttiti dalla vecchia vita. Riprendiamo temporaneamente una vecchia mente o condizione mentale che prima era la nostra permanente in quel luogo o associazione. Ma dopo un po' che la nuova mente, il nuovo sé in cui siamo cresciuti durante la lunga assenza, si oppone al vecchio. Prova avversione e disgusto per la vita ristretta, le false credenze e le vite monotone senza scopo che lo circondano. Esso, lo spirito, rifiuta di avere a che fare con il vecchio. Poi arriva un conflitto tra le nostre due menti, la vecchia e la nuova, che può risultare in una temporanea malattia fisica. La nostra vecchia vita, o il nostro sé, risorge, per così dire, dalla sua tomba e cerca di attaccarsi al nuovo e persino di governare il nuovo. Il nuovo sé respinge il cadavere con orrore. Ma vedendo così il cadavere, vede anche i frammenti del vecchio sé, che non percepiti hanno sempre aderito al nuovo. Non ci liberiamo dall'errore di credenza tutto in una volta, e spesso conserviamo inconsciamente brandelli di tale credenza, quando ci immaginiamo di liberarcene completamente. Questi brandelli sono i resti dei vecchi pensieri e precedenti condizioni mentali. La vostra nuova mente, così risvegliata, sorge e spinge via ciò che le rimane del vecchio. Questo spingere via è accompagnato da un disturbo fisico, perché il vostro spirito mette tutta la sua forza nel respingere questi frammenti del vecchio sé, come potreste mettere tutta la vostra forza fisica nello spingere via un serpente. I nostri vecchi errori di credenza devono essere così spinti via prima che i nuovi pensieri, che entrano mentre i vecchi escono, possono avere pieno potere. Se il vostro spirito si accontentasse e portasse ciecamente uno scorpione di false credenze, alla fine cadreste nella fossa, come molti stanno facendo ora. Quando si vive diversi anni in una certa casa o città o località, si crea un sé spirituale che appartiene a quella località. Ogni casa, albero, strada o altro oggetto che sei stato a lungo abituato a vedere lì, ha una parte di quel sé nel pensiero attaccato ad esso. Ogni persona che ti conosce in quel luogo ha nella sua mente il sé che ti crei lì e lo mette fuori quando ti incontra o parla di te. Se avete avuto anni prima in quel luogo la reputazione di essere deboli o vacillanti o impraticabili o intemperanti, e siete tornati dalle persone che vi conoscevano come tali, anche se siete cambiati in meglio, siete molto suscettibili nel loro pensiero e ricordo di voi di avere questo vecchio sé respinto su di voi, e come risultato potete per un periodo sentirvi molto simili al vostro vecchio sé. Ritornate in questo luogo dopo una lunga assenza. Durante questa assenza avete cambiato radicalmente le vostre convinzioni. Portate con voi una mente diversa. Siete in realtà una persona diversa. Ma il vecchio tu, il vecchio sé degli anni passati, si alzerà da ogni oggetto familiare per incontrarti. Uscirà dalle case un tempo abitate dai tuoi amici, anche se ora affittate dai stranei. Lo troverai nella chiesa del villaggio, nella vecchia scuola, nelle stesse rotaie e nei pali di recinzione che ti erano familiari molti anni prima. Più di tutto verrà fuori dal ricordo di persone che ti conoscevano solo per quello che eri, diciamo vent'anni prima. Ogni persona di questo tipo rafforza con te questa immagine del tuo vecchio io. Tu parli con loro sul piano di quella vita o di quel sé precedente. Per il momento ignori te stesso come pensa e crede ora. Metti da parte il tuo nuovo sé, non volendo invadere le opinioni dei tuoi amici, che per loro possono essere sgradevoli o sembrare selvagge e visionarie. Incontri forse 25 o 30 persone che ti conoscono solo come il tuo vecchio sé e con tutti loro reciti il vecchio sé e reprimi il nuovo. Questo per un certo tempo rende il vecchio sé molto molto forte. Ma non puoi continuare così, non puoi scaldare il vecchio cadavere di te stesso nella vita. Se cercate di essere e vivere il vostro vecchio io, diventereste depressi mentalmente e molto probabilmente malati fisicamente. Potreste trovarvi ad entrare in stati d'animo caratteristici della vostra vita precedente, che pensavate fosse andata per sempre. Potreste trovarvi afflitti da disturbi fisici, anch'essi caratteristici di quel periodo, di cui non avete sofferto per anni. Tali disturbi non sono reali, non sono altro che i pensieri e le credenze sbagliate che il vostro vecchio voi sta cercando di fissare su di voi. Ho visitato recentemente un luogo dal quale ero stato assente per 25 anni. Vi avevo trascorso una parte della mia giovinezza fisica e vi avevo vissuto con una mente o una convinzione molto diversa da quella che ho ora. Sono tornato e ho trovato il posto morto in più di un senso. La maggior parte delle mie vecchie conoscenze era morta, i loro resti giacevano nei cimiteri, ma mi resi conto di questa morte ancora di più tra i miei contemporanei che si diceva fossero vivi. Avevano perso lo stimolo e l'attività della loro ambizione giovanile. Si erano rassegnati a ricchiare. Vivevano soprattutto nel passato. Parlavano dei bei tempi andati e paragonavano il presente e il futuro in modo sfavorevole al passato. Avevano in mente dove li avevo lasciati 25 anni prima e dove io avevo in mente quando li avevo lasciati. Trascinato temporaneamente dalla loro corrente di pensiero per amore della vecchia conoscenza, ho parlato con loro del passato e per alcuni giorni ho vissuto in esso. Ad ogni giro incontravo qualcosa di animato o inanimato che mi riportava alla vita passata. Poi andavo ai cimiteri e col pensiero rinnovavo la conoscenza di coloro i cui resti giacevano lì. Così vivevo per giorni inconsapevole che in questi stati d'animo di triste reminescenza attiravo a me elementi di tristezza da decadenza. Prima divenni molto depresso, poi fui preso da una strana malattia e divenni così debole che riuscivo a malapena a stare in piedi. Ero continuamente in un tremore nervoso e pieno di vaghi timori. Perché questo? Perché tornando nella mia vita passata avevo attirato su di me le mie vecchie condizioni mentali, la mia vecchia mente, il mio io di quel periodo. Ma da allora avevo sviluppato una nuova mente, un nuovo sé, che pensava e credeva in modo molto diverso dal vecchio. Il nuovo sé in cui ero cresciuto da quando avevo lasciato quella località non avrebbe accettato il vecchio. Lo scuoteva via. Fu il processo di scuotimento che mi causò il disturbo fisico. C'era un conflitto tra queste due forze. Una cercava di entrare, l'altra di tenerla fuori. Il mio corpo era il campo di battaglia tra le due. Nessun campo di battaglia è un posto sereno in cui vivere quando la battaglia è in corso. Era necessario in questo caso che io guardassi indietro e vivessi all'indietro per una stagione, per mostrarmi più chiaramente il male di farlo. Perché nessuna lezione può essere veramente imparata senza un'esperienza. Non fu solo il male di vivere all'indietro in quella particolare località che arrivai a vedere chiaramente. Vedi anche, per la prima volta, dove avevo inconsciamente vissuto nel passato e vissuto all'indietro in innumerevoli modi e quindi inconsciamente, consumando forza, che mi avrebbe spinto in avanti in ogni senso. Capii anche, dopo aver attraversato questo processo, perché settimane prima di visitare quel luogo mi ero sentito depresso. Esperimentai anche un ritorno di certi stati d'animo che non provavo da anni. Era perché il mio spirito era già in quel luogo e stava lavorando attraverso questo cambiamento. Il punto culminante fu raggiunto quando il mio sé materiale toccò quel luogo. Tutti i cambiamenti avvengono nello spirito, spesso prima che i nostri sensi materiali ne siano minimamente consapevoli. Che nessuno immagini che, poiché scrivo di queste leggi spirituali, io sia in grado di vivere pienamente in accordo con esse. Non sono al di sopra dell'errore o dello sbaglio. Ogni tanto cado nei box, esco dalla pista principale e risalgo. Il potere viene dal guardare avanti con la speranza di aspettarsi ed esigere le cose migliori che verranno. Questa è la legge della mente infinita, e quando la seguiamo viviamo in quella mente. La natura seppellisce i suoi morti il più rapidamente possibile e li fa sparire dalla vista. È meglio però dire che la natura cambia ciò che non le serve più in altri termini di vita. L'albero vivo produce la nuova foglia ad ogni ritorno di primavera. Non avrà niente a che fare con quelle morte. Non fa tesoro delle foglie di rosa appassite per portarle un triste ricordo. Quando l'albero stesso cessa di produrre foglie e fiori, si trasforma in un'altra forma ed entra in altre forme di vegetazione. Non voglio dire che dovremmo cercare di bandire tutti i ricordi del passato. Bandite solo la parte triste. Vivete quanto volete in qualsiasi cosa del vostro passato che vi abbia dato un sano godimento. Ci sono ricordi di scene di bosco, di campi di pioggia ondeggiante, di cieli azzurri e di bianche cime che si arricciano, e molte altre espressioni della natura collegate alla tua vita individuale, che possono essere ricordate con piacere e profitto. Queste non sono del passato decadente, sono pieni di vita, freschezza e bellezza, e sono di oggi. Ma se con esse si insinua una qualsiasi ombra di tristezza, rifiutala immediatamente. Rifiutatevi di accettarla. Non fa parte del ricordo allegro e vivificante. È la nuvola che se le si dà la minima possibilità, oscura il tutto e lo trasforma in tenebra. La scienza della felicità sta nel controllare il nostro pensiero e ottenere il pensiero da fonti di vita sana. Quando la vostra mente viene distolta dalla lunga abitudine di pensare e vivere nel lato cupo delle cose e di ammettere un pensiero cupo, scoprirete con vostra sorpresa che proprio il luogo la cui vista vi dava orrore vi darà piacere, perché avete bandito una certa condizione mentale malsana, nella quale prima vi eravate lasciati andare alla deriva. Potrai allora rivisitare i luoghi legati al tuo passato, ricordare e vivere solo nella parte luminosa e vivace di quel passato, e rifiutare ogni pensiero sui tristi cambiamenti e quelli che sono passati per non tornare mai più, eccetera. Ho provato questo a me stesso. C'è un'utilità o un senso nell'ammettere l'accesso a cose che ti fanno solo male e ti feriscono? Dio raccomanda forse un atto autodistruttivo e suicida? Il dolore non fa altro che distruggere il corpo. Capitolo 6 Dio negli alberi o la mente infinita della natura Siete fortunati se amate gli alberi, e specialmente quelli selvatici che crescono dove la grande forza creativa li ha posti, e indipendenti dalle cure dell'uomo. Perché tutte le cose che chiamiamo selvatiche o naturali sono più vicine alla mente infinita di quelle che sono state schiavizzate, artificializzate e ostacolate dall'uomo. Essendo più vicine all'infinito, hanno in loro la più perfetta forza e pensiero infinito. Ecco perché, quando sei in mezzo a tutto ciò che è selvaggio e naturale, nella foresta o sulle montagne, dove ogni traccia delle opere dell'uomo è lasciata alle spalle, senti un'euforia e una libertà indescrivibili che non realizzi altrove. Respiri un elemento che non viene mai scacciato dagli alberi, dalle rocce, dagli uccelli e dagli animali, e da ogni espressione della mente infinita intorno a te. È salubremente esaltante. È qualcosa di più dell'aria. È la forza e la mente infinita, espressa da tutte queste cose naturali, che agisce su di voi. Non puoi avere questa forza in città, e nemmeno in un giardino accuratamente coltivato, perché lì le piante e gli alberi hanno troppo della mente inferiore dell'uomo, la mente che crede di poter migliorare l'universo. L'uomo è incline a pensare che l'infinito abbia fatto questo mondo in modo grezzo, e poi l'abbia lasciato tutto per lui da migliorare. Stiamo davvero facendo questo, distruggendo le foreste native, così come gli uccelli e gli animali, che una volta abitavano in esse? I nostri fiumi, molti dei quali sono carichi della sporcizia dei liquami e delle fabbriche, e le nostre città e i nostri paesi in continua espansione, che coprono chilometri con mucchi di mattoni e malta, i loro abitanti stipati nei piccoli alloggi, alveolati di fogne sotto e risuonanti di rumore e pericolo sopra? Sono davvero miglioramenti dell'ordine divino e naturale delle cose? Siete fortunati quando crescete fino a un amore vivo, tenero e sincero per gli alberi selvatici, gli animali e gli uccelli, e riconoscete tutti come provenienti e costruiti dalla stessa mente e spirito del vostro, e capaci anche di dirvi qualcosa di molto prezioso in cambio dell'amore che date loro. L'albero selvatico non è irresponsabile o incurante di un amore del genere. Tale amore non è un mito o un semplice sentimento, è un elemento e una forza letterale che va da voi all'albero. È sentito dallo spirito dell'albero. Voi rappresentate una parte e un'appartenenza della mente infinita. L'albero rappresenta un'altra parte e un'altra appartenenza della mente infinita. Ha la sua parte di vita, di pensiero e di intelligenza. Voi avete una parte molto più grande, che deve essere ancora più grande, e poi ancora più grande. L'amore è un elemento che, sebbene fisicamente invisibile, è reale come l'aria o l'acqua. È una forza che agisce, che vive, che si muove. E in quel mondo, molto più grande della vita intorno a noi, di cui il senso fisico non è consapevole, si muove in onde e correnti come quelle dell'oceano. C'è un senso nell'albero che sente il tuo amore e risponde ad esso. Non risponde o mostra il suo piacere a modo nostro o in qualsiasi modo che possiamo ora capire. Il suo modo di fare è il modo della mente infinita, di cui fa parte. Le vie di Dio sono imperscrutabili e non possono essere scoperte. Non sono per noi da scandagliare. Sono per noi solo da scoprire e vivere, nella misura in cui ci rendono più felici. C'è per tutti nel tempo una serenità e una pace dell'anima che supera ogni comprensione. Ma questa pace non può essere messa attraverso un'analisi chimica o l'operazione della sala di dissezione. Come il grande spirito ha fatto su tutte le cose, non è forse la mente onnipervadente e la saggezza in tutte le cose? Se dunque amiamo gli alberi, le rocce e tutte le cose come le ha fatte l'infinito, non ci daranno, forse, in risposta al nostro amore, ciascuno dei loro pensieri e della loro saggezza? Non ci avvicineremo forse a Dio attraverso l'amore per queste espressioni di Dio nelle rocce e negli alberi, negli uccelli e negli animali? Ci aspettiamo di trovare Dio, di realizzarlo ogni giorno di più, di apprezzare ogni giorno di più la mente possente e incommensurabile e di ottenere ogni giorno di più la sua potenza in noi, solo soffermandoci sulla parola di tre lettere, D-I-O. Ridete, forse, all'idea che un albero abbia una mente, un albero che pensa, ma l'albero ha un'organizzazione simile alla vostra per molti aspetti. Ha per sangue la sua linfa. Ha una circolazione. Ha per pelle la sua corteccia. Ha per polmoni le sue foglie. Deve avere il suo cibo. Trae nutrimento dalla terra, dall'aria e dal sole. Si adatta alle circostanze. La quercia che cresce in situazioni esposte si radica più saldamente nel suolo per resistere alla tempesta. I pini che crescono fittamente e insieme hanno poche radici, perché dipendono dal numero per spezzare la forza del vento. La pianta sensibile indietreggia all'avvicinarsi della mano dell'uomo. Molte piante selvatiche, come gli indiani, non cresceranno o prospereranno in condizioni artificiali. Eppure, con tutte queste somiglianze fisiche con il vostro corpo, voi negate all'albero o alla pianta quella parte di mente che l'infinito gli dà? No, non è così. L'albero è una parte della mente infinita, proprio come voi. È una delle miriadi di pensieri della mente onnipervadente. Noi vediamo solo quella parte o forma di quel pensiero che si esprime in tronco, radice, ramo e foglia. Così come con noi stessi vediamo solo il nostro corpo fisico. Non vediamo la nostra parte spirituale, né vediamo nell'albero la sua parte spirituale. L'albero è quindi letteralmente uno dei pensieri di Dio. Questo pensiero merita il nostro studio. Contiene una saggezza che non abbiamo ancora afferrato. Noi vogliamo questa saggezza. Vogliamo renderla parte di noi stessi. La vogliamo perché la vera saggezza o verità ci porta potere. Vogliamo il potere di darci corpi migliori, corpi più sani. Vogliamo l'intera libertà dalla malattia. Vogliamo cuori più leggeri e menti più felici. Vogliamo una nuova vita e un nuovo piacere di vivere per ogni giorno. Vogliamo che i nostri corpi diventino più leggeri e non più pesanti con l'avanzare degli anni. Vogliamo una religione che ci dia certezza invece di speranze e teorie. Vogliamo una divinità di cui sia semplicemente impossibile dubitare. Vogliamo sentire la mente infinita in ogni atomo del nostro essere. Vogliamo sentire ogni giorno un nuovo piacere di vivere e, cominciando da dove abbiamo lasciato ieri, trovare qualcosa di nuovo in ciò che ieri avremmo potuto ritenere vecchio e logoro. Quando entriamo nel dominio della mente infinita e attiriamo sempre più di quella mente a noi e la facciamo diventare parte di noi, niente può sembrare piatto, stantio e non redditizio. Vogliamo poteri ora negati al mortale. Vogliamo essere sollevati al di sopra della pesantezza del corpo mortale, al di sopra dei dolori del corpo mortale, al di sopra della morte del corpo mortale. Possono gli alberi darci tutto questo? Possono aiutare molto a farlo quando entriamo nel loro spirito, quando riconosciamo e realizziamo sempre più la realtà di quella parte dell'infinito che essi esprimono e quando possiamo smettere di guardarli come creature inanimate. Se riuscite a guardare gli alberi come adatti solo per il legname e la legna da ardere, otterrete ben poca vita da loro. Essi si sentono allora verso di voi come vi sentireste verso una persona che vi considerasse come una cosa senza mente o senso e adatta solo ad essere segata per farne legname o legna da ardere. Quando arriveremo ad amare veramente Dio e lo spirito infinito del bene, ameremo ogni parte di Dio. Un albero è una parte di Dio. Quando arriviamo ad inviare il nostro amore ad esso, esso ci rimanderà il suo amore e quell'amore, quella mente ed elemento letterale che viene dall'albero a noi entrerà nei nostri esseri, si aggiungerà ad essi e ci darà la sua conoscenza e il suo potere. Ci dirà che la mente e la forza che rappresenta dell'infinito ha usi molto migliori per l'uomo che essere trasformato in combustibile o legname. Il loro amore ci dirà che le foreste che perforano l'aria come fanno i loro miliardi di rami, ramoscelli e foglie, sono conduttori letterali di un elemento letterale che portano alla terra. Questo elemento dà vita all'uomo, in proporzione alla sua capacità di riceverlo. Più ci avviciniamo a una concezione della mente infinita, più ci è chiaro che questa mente pervade tutte le cose. Più sentiamo che la nostra relazione con l'albero, l'uccello o l'animale come una creatura simile, più possiamo assorbire l'elemento vitalizzante emesso da tutte queste espressioni della mente. La persona che guarda gli alberi come adatti solo per il combustibile e il legname può ottenere poco da questo elemento, che per la mente è più fine, è un elisir di vita. La mente che vede nell'albero, nell'uccello, nell'animale, nel pesce o nell'insetto solo una cosa priva di intelligenza e adatta solo a distruggere o a schiavizzare per divertimento, respinge da tutti questi uno spirito o un elemento che, se riconosciuto, sarebbe ricevuto o assorbito, e, se assorbito, porterebbe una nuova vita e potere alla mente e al corpo. Noi riceviamo l'elemento dell'amore solo in proporzione a quanto lo abbiamo in noi. Possiamo attingere questo elemento solo dal potere supremo. Lo attingiamo in proporzione a come ammiriamo ogni espressione dell'infinito. Che sia un albero, un arbusto, un insetto, un uccello o un'altra forma del naturale, non possiamo distruggere o mutilare ciò che amiamo veramente. E più cose amiamo veramente, più il loro elemento d'amore fluisce verso di noi. Quell'elemento è per noi vita, come reale è l'albero stesso. Più di quella vita riceviamo e assorbiamo, più realizziamo un potere nella vita che può essere espresso solo come miracoloso. Distruggete le foreste e diminuite temporaneamente la quantità di questo elemento da esse emesso. Sostituite l'albero selvatico con varietà esotiche o coltivate e tale elemento viene adulterato e il vigore che può dare viene diminuito. Copriamo tutta la terra con città, paesi, villaggi e campi coltivati e interferiamo con una fornitura di elemento vitale che le foreste nel loro stato naturale possono solo fornire. Manteniamoci morti al riconoscimento dell'albero come parte dello spirito infinito e siamo morti e incapaci di assorbire lo spirito infinito che opera in e attraverso l'albero. Gli alberi danno sempre un elemento di vita necessario all'uomo come l'aria che respira. Le opere dell'uomo, appena finite, emettono polvere e decadenza. Nelle nostre grandi città prendiamo polvere ad ogni respiro. Niente di questo universo è fermo o in assoluto riposo. I nostri chilometri di pietra, mattoni e malta sono sempre in movimento, lentamente e impercettibilmente si riducono a una polvere impalpabile. La stoffa, il cuoio, il ferro e ogni materiale indossato e usato dall'uomo si sta sempre consumando in polvere. Guardate la polvere che in un sol giorno si accumula nella vostra stanza, sullo scaffale e sul tavolo, o su un bel vestito, anche quando le finestre non sono aperte. Una gigantesca forza in continuo movimento è all'opera e fa a pezzi tutto ciò che vi trova. Lasciate che un raggio di sole entri attraverso la fessura di una persiana e vedete gli innumerevoli granelli che vi galleggiano dentro. Pensate alle miriadi di questi, troppo minuti per essere classificati anche come atomi che non potete vedere. Tutto questo è un elemento di seconda mano che viene respirato e assorbito nel corpo e nello spirito. Ma gli alberi e tutte le cose naturali mandano elementi pieni di vita. Anche i nostri corpi gettano sempre attraverso la pelle materia che non possono più utilizzare. Nella grande città migliaia e migliaia di corpi buttano fuori elementi in disuso, troppo fini per essere classificati come polvere. Viene gettato dai corpi malati e molti sono malati in piedi. Questo lo respiriamo. Ci respiriamo a vicenda più e più volte. Questa nube invisibile di materia che pervade le città affollate non sostiene la vita. Ha in sé una certa vita come tutte le cose hanno vita, ma non è adatta alla vita crescente dell'uomo. Quando otterremo la vita eterna, la salute e la felicità incondizionata, l'atteggiamento della nostra mente sarà completamente cambiata verso l'albero, l'uccello, l'animale e tutto ciò che si trova in natura. Vedremo che quando ameremo veramente tutte queste espressioni della mente infinita, albero, pianta, uccello e animale, e li lasceremo completamente soli, essi ci invieranno in amore la loro parte e qualità dell'infinito. Scorrerà verso di noi una nuova vita, e la fonte di una vita di gran lunga più potente e felice di quella attuale. Ma come potremmo vivere, si chiede, se non abbattiamo l'albero per il combustibile e il legname, se non uccidiamo uccelli e bestie per il cibo? Pensate che non ci sia un'altra vita o un altro modo di vivere, oltre a quello che viviamo ora? Pensate che nella condizione mentale esaltata e raffinata, che chiamiamo paradiso, ci sarà l'uccisione di animali, la mutilazione di alberi e la distruzione di qualsiasi espressione materiale della saggezza suprema? Pensate che possiamo crescere in quello stato mentale più alto e più felice senza la conoscenza delle leggi con cui solo esso può essere raggiunto? Come aspettarsi di navigare su una nave intorno al mondo senza la conoscenza della marineria o della navigazione? Non dobbiamo andare alla deriva verso il cielo come una botte che rotola giù dalla collina. Non possiamo cessare immediatamente dalla schiavitù o dal massacro di alberi, uccelli o animali, né dal mangiare cibo animale. Finché il corpo desidera e assapora tale cibo, dovrebbe farlo. Quando il corpo viene cambiato dal nostro spirito e dalla nostra fede in elementi più fini, lo stomaco e il palato rifiuteranno la carne di ogni descrizione. Non sopporterà il sapore o l'odore delle creature macellate. Quindi lo spirito risolve queste questioni, lo fa definitivamente e per sempre. L'orrore dell'uomo nel passato è stato spesso quello di tentare di spiritualizzarsi o di cambiarsi di sua volontà individuale in condizioni più alte e più raffinate. A questo scopo ha imposto a se stesso e agli altri digiuni e penitenze e l'astinenza dai piaceri che la sua natura desiderava. Non si è mai salvato con tali metodi dalla malattia, dalla decadenza e dalla morte fisica. Non ha mai rigenerato o rinnovato il suo corpo con questo metodo. Alla fine ha perso il suo corpo come il mangione e l'ubriacone hanno perso il loro. La sceta non ha confidato nel Supremo per elevarlo nella scala dell'essere, ma in se stesso e nel proprio sforzo. Questo è uno dei più grandi peccati, perché taglia temporaneamente fuori una tale persona dal Supremo e dalla vita, che il Supremo manderà quando avrà fiducia. Non c'è via d'uscita da nessun peccato, da nessun eccesso, da nessuna abitudine dannosa, se non attraverso un'intera dipendenza dal Potere Supremo che porti via il tormento, la brama, il desiderio caratteristico di quell'abitudine. Altrimenti l'uomo può sembrare riformato esteriormente. Non è mai riformato interiormente. La repressione non è una riforma. Il bigotto di ogni epoca e credo è stato la persona che pensava di potersi fare da solo un angelo. Tale convinzione fa sì che l'uomo rimanga fermo sui suoi passi. Il Supremo dice sempre, vieni da me, chiedi di me. Trovatemi in tutte le cose create e allora vi manderò sempre nuovi pensieri, nuove cose, nuove idee, nuovi elementi che cambieranno i vostri gusti, i vostri appetiti, che gradualmente toglieranno la volgarità, elimineranno gradualmente il desiderio feroce, insaziabile, senza legge e l'uragano della passione, e vi porteranno piaceri che ora non potete realizzare. Col tempo vedremo sempre più chiaramente che quando otterremo la vita più alta, più fine e più duratura, alla quale tutti devono crescere, avremo il più grande incentivo possibile per dare agli alberi, alle piante, agli uccelli, agli animali e a tutte le altre espressioni dell'infinito, la loro vita è la loro più piena libertà. Saremo costretti ad amarli. Ciò che amiamo veramente non possiamo abusare, uccidere o schiavizzare. Ingabbiamo un uccello per il nostro piacere, non ingabbiamo l'uccello per il suo piacere. Questo non è il più alto amore per l'uccello. L'amore più elevato per tutte le cose è per noi una fonte letterale di vita. Più cose nel mondo della natura a cui possiamo dare l'amore superiore, più del loro amore naturale e della loro vita avremo in cambio. Così, man mano che cresciamo, affiniamo e aumentiamo questo potere di riconoscere e amare l'uccello, l'animale, l'insetto, o in altre parole, l'infinito in tutte le cose. Riceveremo un amore, una vita rinnovata, forza, vigore, allegria e ispirazione, non solo da questi, ma dal fiocco di neve che cade, dalla pioggia battente, dalla nuvola, dal mare, dalla montagna. E questo non sarà un semplice sentimento, ma un grande mezzo per recuperare e rafforzare il corpo. Perché questo rafforza lo spirito con una forza che viene per restare. E ciò che rafforza lo spirito deve rafforzare il corpo. Non possiamo fare di noi stessi questa capacità di amare così tanto e di trarre forza da tutte le cose. Ci appartiene, ma deve essere richiesta al potere supremo. È naturale chiedersi, ma perché il potere supremo non ha impiantato all'inizio questo amore superiore in noi? Perché quel potere ha permesso così a lungo all'uomo di continuare a massacrare e rovinare la natura? Perché le tempeste e i terremoti e le guerre, e così tanto nelle forze della natura e delle forze dell'uomo, permettono di andare avanti e portare così tanta catastrofe e miseria? Non ci impegniamo a rispondere al posto della saggezza infinita. Ci basta sapere che c'è una strada che porta lontano da tutto ciò che chiamiamo male. Ci basta sapere che verrà il tempo in cui, come esseri nuovi con la mente cambiata, dimenticheremo assolutamente che tali mali siano mai esistiti. Vedremo nelle forze della natura, siano esse fuoco, tempesta o altro, solo ciò che è buono e che può portarci felicità. Non dobbiamo essere sempre della materia che può essere ferita dal fuoco o dalla tempesta. La fornace ardente non colpì i tre bambini ebrei che la attraversarono. Nella tempesta fu di alcun disturbo al Cristo di Giudea quando camminò sulle acque. Ciò che la storia ha dimostrato essere possibile per alcuni è possibile per tutti. La comunione con la natura è qualcosa che va ben oltre il sentimento. È un'unione letterale con l'essere infinito. L'elemento ricevuto in tali unione e che agisce sulla mente e sul corpo è tanto reale quanto qualsiasi cosa che vediamo o sentiamo. La capacità di unirci a Dio attraverso le sue espressioni, nella nuvola, nell'albero, nella montagna e nel mare, nell'uccello e nell'animale, non è posseduta da tutti in uguale misura. Alcuni sono infelici quando sono soli nella foresta, nella pianura o nella montagna. Questi sono letteralmente fuori dal loro elemento o corrente di pensiero. Possono vivere con comodità solo nel trambusto della città o nelle chiacchiere della famiglia. Possono trovare la vita solo in ambienti artificiali. I loro spiriti sono coperti da una crescita parassitaria di artificiosità. Questo li taglia fuori da qualsiasi senso delle espressioni di Dio nella solitudine della natura. Così tagliati fuori si sentono soli nei boschi. La natura sembra loro selvaggia e tetra. Chi può ritirarsi per periodi nelle solitudini della natura e godere di quella solitudine, non sentendo affatto la solitudine, ma un gioioso senso di euforia, ritornerà tra gli uomini con più potere e con un nuovo potere. Perché lui o lei ha letteralmente camminato con Dio o con lo spirito infinito del bene. Il veggente, il profeta, i miracolati della storia biblica hanno così acquisito il loro potere. Il Cristo della Giudea si ritirò sulle montagne per essere rinforzato dall'infinito. L'orientale e l'indiano, attraverso i quali sono stati espressi i poteri superiori, amavano le solitudini della natura. Potevano viverci con piacere. Potevano riflettere per ore sulla roccia, sul ruscello o sull'oceano. Quasi inconsapevoli dell'ambiente circostante, perché i loro spiriti si erano allontanati dai loro corpi e stavano assorbendo oniricamente nuove idee dell'infinito. Raramente troverete una persona che come sovrano, soldato, inventore, scopritore, poeta o scrittore ha lasciato la sua impronta sulla razza, ma ha amato la comunione dove Dio si trova più facilmente. Lì nasce l'ispirazione. Il poeta non può cantare della città disposta ad angolo retto, con la fogna sotto e la strada sopraelevata, come può cantare dell'aspra montagna avvolta come iura nel suo nebbioso sudario. Non possiamo allenarci a questa capacità di godere delle cose naturali della terra o di trarre forza da esse. Assumere una virtù quando non l'abbiamo è essere forzati, gommosi e sentimentalmente sciocchi. Ma quando chiediamo persistentemente all'infinito la nuova mente, che può trovare e sentire Dio nella foresta o sul mare, nella tempesta e nel temporale, e sentire non solo la sicurezza, ma assorbire potere e forza, quando le forze della natura sembrano nel loro umore più arrabbiato, quella mente con quella capacità prenderà gradualmente il posto di quella vecchia. E con la mente nuova tutte le cose diventeranno nuove. Capitolo 7 Alcune leggi della salute e della bellezza I tuoi pensieri modellano il tuo viso e gli danno la sua particolare espressione. I tuoi pensieri determinano l'atteggiamento, il portamento e la forma di tutto il tuo corpo. La legge della bellezza e quella della salute perfetta sono le stesse. Entrambe dipendono interamente dallo stato della tua mente, o in altre parole, dal tipo di pensieri che più metti e ricevi. La bruttezza dell'espressione deriva da trasgressioni inconsce di una legge, sia la bruttezza nei giovani che nei vecchi. Qualsiasi forma di decadenza in un corpo umano, qualsiasi forma di debolezza, qualsiasi cosa nell'aspetto personale di un uomo o di una donna che li rende repellenti per voi, è perché il loro stato d'animo prevalente li ha resi tali. La natura pianta in noi quello che alcuni chiamano istinto, quello che noi chiamiamo la ragione superiore, perché deriva dall'esercizio di una serie di sensi più fini dei nostri sensi esterni o fisici, per disprezzare tutto ciò che è ripugnante o deforme, o che mostra segni di decadenza. Questa è la tendenza innata della natura umana a rifuggire l'imperfetto e a cercare e amare il relativamente perfetto. La vostra ragione superiore ha ragione nel disprezzare le rughe o la decrepitezza, o qualsiasi forma o segno di decadenza del corpo, per la stessa ragione per cui avete ragione nel disprezzare un indumento sporco o strappato. Il vostro corpo è l'abito vero e proprio, così come lo strumento usato dalla vostra mente o spirito. È lo stesso istinto, o ragione superiore, che vi fa apprezzare un corpo ben formato e bello, che vi fa apprezzare un vestito nuovo e di buon gusto. A voi e alle generazioni prima di voi, età dopo età, è stato detto che era una necessità inevitabile, che era la legge e l'ordine della natura per tutti i tempi e tutte le età, che dopo un certo periodo della vita, il nostro corpo dovesse appassire e diventare poco attraente, e anche che le vostre menti devono fallire con il passare degli anni. Vi è stato detto che la vostra mente non ha il potere di riparare e recuperare il vostro corpo, di rifarlo e renderlo sempre più nuovo e fresco. Non è più nell'ordine inevitabile della natura che i corpi umani debbano decadere come i corpi dei popoli sono decaduti in passato, di quanto l'uomo debba viaggiare solo in diligenza come 60 anni fa, o che i messaggi possano essere inviati solo per lettera come 50 anni fa, prima dell'uso del telegrafo elettrico, o che i vostri ritratti possano essere presi solo dal pennello del pittore, come mezzo secolo fa, prima della scoperta che il sole può imprimere un'immagine di voi stessi, una parte reale di voi, su una superficie sensibile preparata per essa. È l'impertinenza di una densa ignoranza per chiunque di noi dire cosa c'è o cosa ci sarà nell'ordine della natura. È uno stupido errore guardare indietro al poco che sappiamo del passato e dire che è l'indice infallibile che ci dice cosa sarà nel futuro. Se questo pianeta è stato quello che la geologia insegna che sia stato, un pianeta pieno di forze più grossolane, più crude e più violente di adesso, ricco di forme di vita e di organizzazione vegetale e animale, e persino umana, più grossolane di adesso, di cui la sua condizione attuale è un perfezionamento e un miglioramento per quanto riguarda il vegetale, l'animale e l'uomo. Non è questo il suggerimento, l'indizio, la prova di un perfezionamento e un miglioramento ancora maggiore per il futuro? Un perfezionamento e un miglioramento in corso ora? La raffinatezza non implica forse una maggiore potenza, come la maggiore potenza del ferro grezzo viene fuori nell'acciaio. E non sono forse queste maggiori e ancora quasi sconosciute potenze, a venire fuori dalla forma più alta e complessa di organizzazione sconosciuta, l'uomo. E sono tutte le potenze dell'uomo ancora sconosciute? Internamente, segretamente, tra le migliaia pensanti di questa e di altre terre, si pone ora questa e molte altre domande. Perché dobbiamo così appassire e decadere, e perdere il meglio per cui vale la pena vivere, proprio quando abbiamo acquisito quell'esperienza e quella saggezza che meglio si addice per vivere? La voce del popolo è sempre all'inizio una voce sussurrata. La preghiera o la richiesta o il desiderio delle masse è sempre all'inizio una preghiera, una richiesta, un desiderio o una volontà segreta, che un uomo all'inizio osa appena sussurrare al suo vicino per paura del ridicolo. Ma è una legge della natura che ogni richiesta, silenziosa o parlata, porta alla sua fornitura della cosa desiderata in proporzione all'intensità del desiderio e al numero crescente di persone che lo desiderano, le quali, con l'azione delle loro menti su qualche oggetto, mettono in moto quella forza silenziosa del pensiero, non ancora ascoltata nelle scuole di filosofia del mondo, che porta alla fornitura necessaria. Milioni di persone desideravano così, in silenzio, mezzi per viaggiare più rapidamente, per inviare più rapidamente informazioni, e questo ha portato il vapore e il telegrafo elettrico. Presto si dovrà rispondere ad altre domande e richieste, domande che escono sempre in silenzio da moltitudini, e nel rispondere ad esse, nel tentare all'inizio di eseguire e provare le risposte e i mezzi mostrati per compiere o realizzare molte cose ritenute impossibili o visionarie, ci saranno errori e stupidità, e gaffe e sciocchezze, e guasti e fallimenti, e conseguente ridicolo, così come ci furono dieci incidenti sulle ferrovie, e dieci caldaie scoppiate nella prima epoca dell'uso del vapore, per una di oggi. Ma una verità va sempre dritta, nonostante l'errore e l'abbaglio, e alla fine si dimostra. Ci sono due tipi di età, l'età del tuo corpo e l'età della tua mente. Il vostro corpo, in un certo senso, non è che una crescita, una costituzione, di oggi e per l'uso di oggi. La vostra mente è un'altra crescita o costituzione vecchia di milioni di anni. Ha usato molti corpi nella sua crescita. È cresciuta da inizi molto piccoli fino alla sua attuale condizione, potenza e capacità nell'uso di questi molti corpi. Voi siete stati, nell'uso di questi corpi, molto più rozzi e grossolani di quanto non siate ora. Avete vissuto come ora non potreste vivere affatto, e in forme di vita o di espressione molto diverse dalla forma che state usando ora. E ogni nuovo corpo o giovane corpo che avete indossato è stato un nuovo vestito per la vostra mente, morte. E ciò che chiamate morte è stato ed è solo l'usura di questo vestito per ignoranza dei mezzi. Non tanto di mantenerlo in riparazione, quanto di costruirlo continuamente in una sempre più nuova freschezza e vitalità. Non siete giovani relativamente. La vostra giovinezza attuale significa che il vostro corpo è giovane. Più vecchio è il vostro spirito, meglio potete conservare la giovinezza, il vigore e l'elasticità del vostro corpo. Perché più vecchio è il tuo spirito, più potere ha raccolto dalle sue numerose esistenze. Puoi usare questo potere per conservare la bellezza, la salute e il vigore, tutto ciò che può renderti attraente per gli altri. Puoi anche usare inconsciamente lo stesso potere per renderti brutto, malsano, debole, malato e poco attraente. Più usate questo potere nell'una o nell'altra direzione, più vi renderà brutti o belli, sani o malsani, attraenti o non attraenti. Cioè, per quanto riguarda la non attrattiva per questa esistenza. Alla fine dovrete, se non in questa, in qualche altra esistenza, essere simmetrici, perché l'evoluzione della mente, di cui l'evoluzione dei nostri corpi da forme più grossolane, a forme più alte, non è che una rozza controparte. È sempre verso l'alto, più fine, migliore e più felice. Questo potere è il tuo pensiero. Ogni vostro pensiero è una cosa altrettanto reale, anche se non potete vederla con l'occhio fisico o esterno, come un albero, un fiore, un frutto. I tuoi pensieri modellano continuamente i tuoi muscoli in forme e modi di movimento in accordo con il loro carattere. Se il tuo pensiero è sempre determinato e deciso, il tuo passo nel camminare sarà deciso. Se il tuo pensiero è permanentemente deciso, tutto il tuo portamento, il tuo portamento e il tuo indirizzo mostreranno che se dici una cosa, la pensi davvero. Se i vostri pensieri sono permanentemente indecisi, avrete un gesto, un indirizzo, un portamento o un modo di usare il vostro corpo permanentemente indeciso. E questo, se continuato a lungo, farà crescere il corpo decisamente deforme in qualche modo, esattamente come quando scrivete in uno stato d'animo affrettato. Il vostro pensiero affrettato produce lettere deformi e talvolta idee deformi, mentre il vostro stato d'animo o pensiero riposante produce lettere ben formate e curve aggraziate, così come idee ben formate e aggraziate. Ogni giorno stai pensando a te stesso in qualche fase del carattere e dell'espressione del viso, buona o cattiva. Se i tuoi pensieri sono permanentemente allegri, il tuo viso avrà un aspetto allegro. Se per la maggior parte del tempo sei in uno stato lamentoso, irritabile, litigioso, questo tipo di pensiero metterà delle brutte linee sul tuo viso. Ti avveleneranno il sangue, ti renderanno dispeptico e rovineranno la tua carnagione, perché allora sei nel tuo laboratorio mentale invisibile, generando un elemento velenoso invisibile, il tuo pensiero. E come lo metti fuori o lo pensi, per la legge inevitabile della natura, attira a sé lo stesso tipo di elemento pensiero dagli altri. Pensate o aprite la vostra mente allo stato d'animo di sconforto o irritabilità, e attirate più o meno lo stesso elemento pensiero da ogni uomo o donna scoraggiato o irritabile nella vostra città. State quindi caricando il vostro magnete, la vostra mente, con la sua corrente elettrica di pensiero di tendenza distruttiva. E la legge e la proprietà del pensiero collegano tutte le altre correnti di pensiero di scoraggiamento o irritabilità con la vostra batteria mentale, la vostra mente. Se pensiamo all'omicidio o al furto, ci portiamo per questa legge in relazione spirituale e in rapporto con ogni ladro o assassino nel mondo. La vostra mente può rendere il vostro corpo malato o sano, forte o debole, secondo il pensiero che emette, e l'azione su di esso del pensiero degli altri. Grida fuoco in un teatro affollato, e decine di persone sono rese tremanti, deboli, paralizzate dalla paura. Forse era un falso allarme. È stato solo il pensiero del fuoco, un orrore che agisce sul corpo a toglierti la forza. Il pensiero o lo stato d'animo della paura ha in alcuni agito sul corpo in modo tale da far diventare i capelli bianchi in poche ore. Un pensiero arrabbiato, preoccupato o irritabile ha effetti dannosi sulla digestione. Uno shock mentale improvviso può far perdere tutto l'appetito per un pasto, o far sì che lo stomaco rifiuti tale pasto quando viene consumato. Il danno così fatto al corpo improvvisamente, in relativamente pochi casi, dalla paura o da altri stati d'animo malvagi, opera il danno più gradualmente su milioni di corpi in tutto il pianeta. La dispepsia non deriva tanto dal cibo che mangiamo, quanto dai pensieri che pensiamo mentre mangiamo. Possiamo mangiare il pane più sano del mondo e se lo mangiamo con un'indole acida metteremo acidità nel nostro sangue e acidità nel nostro stomaco e acidità sulla nostra faccia. O se mangiamo in uno stato d'animo ansioso e ci preoccupiamo tutto il tempo di quanto dovremmo o non dovremmo mangiare e se dopo tutto non ci può far male, stiamo consumando un elemento di pensiero ansioso, preoccupato e agitato con il nostro cibo. E questo ci avvelenerà. Se siamo allegri e chiacchieroni e vivaci mentre mangiamo, stiamo mettendo vivacità e allegria in noi stessi e stiamo rendendo tali qualità sempre più parte di noi stessi. E se il nostro gruppo familiare mangia in silenzio o viene a tavola con una specie di aria forzata e rassegnata, come se dicesse ognuno a se stesso. Bene, tutto questo deve essere rivisto. E il capo famiglia si seppellisce nelle sue preoccupazioni lavorative o nel suo giornale e legge tutti gli omicidi e i suicidi e i furti e gli scandali delle ultime 24 ore. E la regina della famiglia si seppellisce nella rassegnazione cupa o nelle preoccupazioni domestiche. Allora a quella tavola si consuma letteralmente, insieme al cibo, l'elemento pensiero di preoccupazione e omicidio e suicidio e l'elemento morboso, che ama soffermarsi sull'orribile spettrale. E di conseguenza la dispepsia, in alcune delle sue molte forme, sarà prodotta lungo tutta la linea, da un capo all'altro della tavola. Se l'espressione abituale della faccia è un cipiglio, è perché i pensieri dietro a quella faccia sono per lo più cipigli. Se gli angoli di una bocca sono girati verso il basso, è perché il più delle volte i pensieri che governano e modellano quella bocca sono cupi e scoraggianti. Se un volto non invita le persone e non le fa desiderare di fare conoscenza con chi lo indossa, è perché quel volto è un segno che pubblicizza pensieri dietro di esso, che chi lo indossa forse non osa parlare agli altri, forse non osa sussurrare a se stesso. Il continuo stato d'animo di fretta, cioè l'essere nella mente o nello spirito in un certo luogo, molto prima che il corpo sia lì, farà sì che le spalle si abbassino in avanti, perché in tale stato d'animo voi mandate letteralmente il vostro pensiero, il vostro spirito, il vostro vero anche se invisibile sé, nel luogo verso il quale il vostro potere, il vostro pensiero, sta trascinando il vostro corpo a testa alta e attraverso tale abitudine mentale che dura tutta la vita, il corpo cresce come il pensiero lo plasma. Un uomo autocontenuto non ha mai fretta e un uomo autocontenuto mantiene o contiene il suo pensiero, il suo spirito, il suo potere, principalmente sull'atto o sull'uso che sta facendo al momento presente con lo strumento che il suo spirito usa, il suo corpo. E la donna abitualmente autoposseduta sarà aggraziata in ogni movimento, per la ragione che il suo spirito ha il completo possesso e comando del suo strumento, il corpo, e non è lontano un miglio o dieci miglia da quel corpo nel pensiero. E preoccupandosi o affrettandosi o soffermandosi su qualcosa a quella stessa distanza dal suo corpo. Quando formiamo un piano per qualsiasi affare, qualsiasi invenzione, qualsiasi impresa, stiamo facendo qualcosa di quell'elemento invisibile. Il nostro pensiero, tanto reale, anche se invisibile, quanto qualsiasi macchina di ferro o legno. Quel piano o pensiero comincia, appena fatto, ad attirare a sé, in più elementi non visti, il potere di realizzarsi, il potere di materializzarsi in sostanza fisica o visibile. Quando temiamo una disgrazia o viviamo nel timore di qualsiasi male o ci aspettiamo la sfortuna, facciamo anche una costruzione di elemento invisibile, il pensiero che per la stessa legge di attrazione attira a sé forze o elementi distruttivi e dannosi. Così la legge del successo è anche una legge della sfortuna, secondo l'uso che se ne fa. Così come la forza del braccio di un uomo può salvare un altro nell'annegamento o colpirgli un pugnale al cuore. Di qualsiasi cosa possibile che pensiamo, stiamo costruendo, nella sostanza invisibile, una costruzione che attirerà verso di noi forze o elementi per aiutarci o farci del male, secondo il carattere del pensiero che pensiamo o mettiamo fuori. Se ti aspetti di invecchiare e tieni sempre in mente un'immagine o una costruzione di te stesso come vecchio decrepito, lo sarai sicuramente. Ti stai quindi rendendo tale. Se fai un piano nel pensiero, nell'elemento invisibile, per te stesso, come impotente e decrepito, tale piano attirerà a te, di pensiero elemento invisibile, ciò che ti renderà debole, impotente e decrepito. Se al contrario fai per te un piano per essere sempre sano, attivo e vigoroso, e ti attieni a questo piano, e rifiuti di diventare decrepito, e rifiuti di credere alle legioni di persone che ti diranno che devi invecchiare, non invecchierai. È il fatto che se voi pensiate che debba essere così, come la gente vi dice, che lo rende tale. Se nella vostra mente costruite sempre un ideale di voi stessi, come forti, sani e vigorosi, state costruendo per voi stessi un elemento invisibile che attirerà sempre più salute, forza e vigore. Puoi fare della tua mente un magnete per attrarre salute o debolezza. Se amate pensare alle cose forti della natura, alle montagne di granito e ai flutti ondeggianti, e alle tempeste senza resistenza, attirate a voi i loro elementi di forza. Se oggi ti costruisci in salute e forza, e domani ti scoraggi e rinunci a tale pensiero o costruzione, non distruggi ciò che in spirito e di spirito hai costruito. Quella quantità di elemento così aggiunta al vostro spirito non può mai essere persa. Ma voi, per il tempo, nell'avvilirvi, cioè nel pensare la debolezza, fermate la costruzione della vostra struttura di salute. E sebbene il vostro spirito sia tanto più forte per quell'aggiunta di elemento, può non essere abbastanza forte per dare rapidamente al corpo ciò che potete avergli tolto attraverso tale pensiero avvilente. La persistenza nel pensare la salute, nell'immaginare o idealizzare se stessi come sani, vigorosi e simmetrici, è la pietra angolare della salute e della bellezza. Di ciò che si pensa di più, che si sarà, che si avrà di più. Tu dici no, ma il vostro paziente costretto a letto non sta pensando, sono forte. Lui o lei sta pensando, sono così debole. Il vostro uomo o donna di speptico non sta pensando, avrò uno stomaco forte. Stanno sempre dicendo, non posso digerire nulla. E non possono, proprio per questo motivo. Siamo inclini a curare i nostri malanni piuttosto che curare noi stessi. Vogliamo che i nostri malanni siano accarezzati e simpatizzati più che con noi stessi. Quando abbiamo un brutto raffreddore, la nostra stessa tosse a volte dice agli altri inconsciamente. Sono questa mattina un oggetto della vostra compassione. Sono così afflitto. È il raffreddore, quindi, che chiede compassione. Se il corpo fosse trattato correttamente, la tua mente e tutte le menti intorno a te direbbero a quell'elemento debole in te. Esci da quel corpo. E la forza silenziosa di alcune menti così dirette scaccierebbe quella debolezza. Se ne andrebbe come fece Satana quando l'uomo di Nazareth glielo ordinò imperiosamente. Il raffreddore e tutte le altre forme di malattia sono solo forme di Satana e prosperano anche attraverso l'allattamento. Il vigore e la salute sono catturabili anche come il morbillo. Cosa darebbero molte persone adulte per un arto o due arti che avessero in loro la molla e l'elasticità di quelli posseduti da un ragazzo di dodici anni? E per due arti che potessero arrampicarsi sugli alberi, camminare sulle staccionate e correre perché amavano correre e non potevano fare a meno di correre? Se si potessero fabbricare e vendere arti così pieni di vita, non ne farebbero richiesta quelle signore e quei signori corpulenti che salgono e scendono dalle loro carrozze come se il loro corpo pesasse una tonnellata? Perché l'umanità si rassegna, senza quasi protestare, alla crescente pesantezza, pigrizia e rigidità che viene anche con la mezza età? Credo tuttavia che scendiamo a compromessi con questa inerzia e la chiamiamo dignità. Naturalmente un uomo e un padre e un cittadino e un elettore e un pilastro dello Stato di inerzia non dovrebbe correre e tagliare e scalciare come un ragazzo, perché non può. Né una signora che è cresciuta fino alla dignità di un trampoliere dovrebbe correre come quando era una ragazza di 12 anni, perché neanche lei può. In realtà ci mettiamo le nostre infermità come una maschera e ci zoppichiamo dentro dicendo «questa è la cosa da fare, perché non possiamo fare altro». A volte abbiamo persino fretta di indossarli, come il giovane gentiluomo che si attacca a un occhiale all'occhio e così facendo rovina prima la vista di un organo sano, per sembrare tonico e libresco. Ci sono sempre più possibilità nella natura, negli elementi, nell'uomo e fuori dall'uomo, e vengono tanto più velocemente quanto più l'uomo vede e sa come usare queste forze nella natura e in se stesso. Possibilità e miracoli significano la stessa cosa. Il telefono sorto improvvisamente sulla nostra gente di 200 anni fa sarebbe stato un miracolo e avrebbe potuto consegnare la persona che lo usava alla prigione o al rogo. Tutte le manifestazioni insolite dei poteri della natura venivano allora attribuite al diavolo, perché la gente di quel periodo aveva così tanto del diavolo o dell'elemento più crudo in loro da insistere che l'universo non dovesse continuamente mostrare e dimostrare espressioni sempre più alte della mente superiore, per il comfort e il piacere dell'uomo. Capitolo 8. Orrori da museo e da serraglio Una menagerie di bestie e uccelli significa una collezione di creature catturate che camminano e volano, prese dai loro modi di vita naturali, private permanentemente di tali modi e che soffrono più o meno di conseguenza. L'uccello, abituato alla libertà della foresta e dell'aria, è imprigionato nei quartieri più limitati. Il suo piumaggio non è mai così fresco e lucido come nel suo stato naturale. Non vive così a lungo. La vita in cattività delle molte specie portate dai tropici è molto breve, specialmente delle specie più piccole e delicate. Orsi, leoni, tigri, cervi, lupi e tutti gli altri animali amano la libertà e la libertà di movimento come l'uomo. Nel serraglio ne sono privati. L'aria che respirano è spesso fetida e impura. Per l'animale datana, la terra è una necessità e una comodità, come lo è per noi un letto comodo. Lo scavatore catturato è spesso tenuto su un duro pavimento di assi, che nella sua irrequieta miseria di entrare nella sua terra nativa graffia e consuma in cavità profonde pochi centimetri. Migliaia di scimmie muoiono prematuramente di tisi, perché costrette a vivere in un clima troppo freddo e umido per loro. E nessuna quantità di calore artificiale può fornire l'elemento a cui sono state abituate nell'aria dei loro nativi boschetti tropicali e giungle. Le foche sono tenute in vasche di acqua dolce, quando l'acqua salata è il loro elemento naturale. La loro vita in cattività è sempre breve. Non c'è una forma di vita organizzata, ma è una parte e un'appartenenza della località e della latitudine in cui è nato allo stato selvaggio. L'orso polare è un'appartenenza naturale delle regioni artiche. La scimmia è un'appartenenza e un'escrescenza delle condizioni tropicali. Quando l'uno o l'altro di questi viene portato via da climi a loro nativi e dai quali non si allontanano volontariamente, gli viene inflitto un dolore. Andate al museo economico, ora così abbondante, e guardate il piumaggio trasandato e l'apparente condizione malaticcia di molti degli uccelli, nativi dei climi lontani, imprigionati lì. Li vedi solo per un'ora. Tornate tra qualche mese e non li troverete più. Cosa ne è stato di loro? Sono morti e i loro posti sono occupati da altri che muoiono lentamente. La processione di prigionieri che soffrono e muoiono prematuramente non cessa di muoversi in questi luoghi. Le navi li portano costantemente qui. Un esercito di uomini distribuiti in tutto il mondo e che percorrono le foreste di ogni clima è costantemente impegnato a catturarli. Per quale motivo tutte queste concentrazioni di miseria catturata si trovano ora in ogni grande città del nostro paese? Semplicemente per gratificare la curiosità umana. Semplicemente per poter stare qualche minuto a guardarli dietro le loro sbarre. Cosa impariamo allora della loro vera natura e delle loro abitudini in queste prigioni? Cosa si imparerebbe dei vostri veri gusti, inclinazioni e abitudini se foste tenuti costantemente in una gabbia? La gratificazione di questa curiosità vale la miseria che costa? Se un uccello corteggiato dalla vostra gentilezza viene a costruire il suo nido su un albero vicino alla vostra finestra e lì alleva la sua nidiata, la vista che offre di giorno in giorno non vale cento volte di più di quella dello stesso uccello privato del suo compagno e chiuso in una gabbia? Non vi sentirete se nella sua libertà studiate le sue vere abitudini e vedete la sua vita reale e naturale sempre più attratti da un legame di simpatia comune quando vedrete evidenziate in quella vita tante cose che appartengono alla vostra? Come voi costruisce una casa? Come voi ha affetto e cura per il suo compagno? Come voi provvede alla sua famiglia? Come voi si allarma all'avvicinarsi del pericolo? Come voi si annida nel pensiero della sicurezza. Eppure l'istinto è ancora così rozzo e crudele nella nostra razza che la rovina della casa dell'uccello selvatico o il suo abbattimento o la sua cattura è il desiderio dominante di 19 ragazzi su 20 mentre vagano per i boschi e i genitori colti vedranno i loro figli lasciare la casa equipaggiati con i mezzi per questa distruzione senza nemmeno il pensiero di protestare. Capitolo 8. Orrori da museo e da serraglio Una menagerie di bestie e uccelli significa una collezione di creature catturate che camminano e volano, prese dai loro modi di vita naturali, private permanentemente di tali modi e che soffrono più o meno di conseguenza. L'uccello, abituato alla libertà della foresta e dell'aria, è imprigionato nei quartieri più limitati. Il suo piumaggio non è mai così fresco e lucido come nel suo stato naturale. Non vive così a lungo. La vita in cattività delle molte specie portate dai tropici è molto breve, specialmente delle specie più piccole e delicate. Orsi, leoni, tigri, cervi, lupi e tutti gli altri animali amano la libertà e la libertà di movimento come l'uomo. Nel serraglio ne sono privati. L'aria che respirano è spesso fetida e impura. Per l'animale datana, la terra è una necessità e una comodità, come lo è per noi un letto comodo. Lo scavatore catturato è spesso tenuto su un duro pavimento di assi, che nella sua irrequieta miseria di entrare nella sua terra nativa graffia e consuma in cavità profonde pochi centimetri. Migliaia di scimmie muoiono prematuramente di tisi, perché costrette a vivere in un clima troppo freddo e umido per loro. E nessuna quantità di calore artificiale può fornire l'elemento a cui sono state abituate nell'aria dei loro nativi boschetti tropicali e giungle. Le foche sono tenute in vasche di acqua dolce, quando l'acqua salata è il loro elemento naturale. La loro vita in cattività è sempre breve. Non c'è una forma di vita organizzata, ma è una parte e un'appartenenza della località e della latitudine in cui è nato allo stato selvaggio. L'orso polare è un'appartenenza naturale delle regioni artiche. La scimmia è un'appartenenza e un'escrescenza delle condizioni tropicali. Quando l'uno o l'altro di questi viene portato via da climi a loro nativi e dai quali non si allontanano volontariamente, gli viene inflitto un dolore. Andate al museo economico, ora così abbondante, e guardate il piumaggio trasandato e l'apparente condizione malaticcia di molti degli uccelli, nativi dei climi lontani, imprigionati lì. Li vedi solo per un'ora. Tornate tra qualche mese e non li troverete più. Cosa ne è stato di loro? Sono morti e i loro posti sono occupati da altri che muoiono lentamente. La processione di prigionieri che soffrono e muoiono prematuramente non cessa di muoversi in questi luoghi. Le navi li portano costantemente qui. Un esercito di uomini distribuiti in tutto il mondo e che percorrono le foreste di ogni clima, è costantemente impegnato a catturarli. Per quale motivo tutte queste concentrazioni di miseria catturata si trovano ora in ogni grande città del nostro paese? Semplicemente per gratificare la curiosità umana. Semplicemente per poter stare qualche minuto a guardarli dietro le loro sbarre. Cosa impariamo allora della loro vera natura e delle loro abitudini in queste prigioni? Cosa si imparerebbe dei vostri veri gusti, inclinazioni e abitudini se foste tenuti costantemente in una gabbia? La gratificazione di questa curiosità vale la miseria che costa? Se un uccello corteggiato dalla vostra gentilezza viene a costruire il suo nido su un albero vicino alla vostra finestra e lì alleva la sua nidiata, la vista che offre di giorno in giorno non vale cento volte di più di quella dello stesso uccello privato del suo compagno e chiuso in una gabbia? Non vi sentirete se nella sua libertà studiate le sue vere abitudini e vedete la sua vita reale e naturale sempre più attratti da un legame di simpatia comune quando vedrete evidenziate in quella vita tante cose che appartengono alla vostra? Come voi costruisce una casa? Come voi ha affetto e cura per il suo compagno? Come voi provvede alla sua famiglia? Come voi si allarma all'avvicinarsi del pericolo? Come voi si annida nel pensiero della sicurezza? Eppure l'istinto è ancora così rozzo e crudele nella nostra razza che la rovina della casa dell'uccello selvatico o il suo abbattimento o la sua cattura è il desiderio dominante di 19 ragazzi su 20 mentre vagano per i boschi e i genitori colti vedranno i loro figli lasciare la casa equipaggiati con i mezzi per questa distruzione senza nemmeno il pensiero di protestare. Capitolo 10 la forza guaritrice e rinnovatrice della primavera. Il tuo corpo è spinto nella sua crescita e nei suoi cambiamenti dalle stesse leggi ed elementi che governano la crescita ed entrano in tutti gli altri corpi organizzati come alberi piante uccelli e animali. All'inizio della primavera di ogni anno arriva e agisce su questo pianeta una forza dal sole che colpisce tutte le forme organizzate di vita alberi uccelli animali e soprattutto l'uomo. Essendo l'uomo l'organismo mentale più alto più complicato e più potente del pianeta assorbe la maggior parte di questa forza e ne assorbirà molta di più in futuro e con molto più vantaggio di adesso, man mano che imparerà a porsi negli stati migliori per riceverla. La scienza materiale chiama questa forza calore, ma la qualità conosciuta come calore è solo la sua manifestazione esteriore o fisica. La qualità conosciuta come calore, che viene dal sole, non si converte in calore fino a quando non raggiunge il nostro pianeta e agisce sugli elementi della terra. C'è poco o nessun calore a pochi chilometri sopra la superficie terrestre. Se questa forza fosse sotto forma di calore all'uscita del sole o durante il suo passaggio, l'aria sulle cime delle montagne sarebbe calda come quella delle valli. Come sappiamo, sulle cime più alte la neve e il ghiaccio sono perpetui, perché la forza del sole a tale altezza non è sufficientemente mescolata con gli elementi della terra per convertirla in quel grado di calore che si sente nelle valli e nelle pianure. Questa forza causa l'aumento del movimento e della circolazione della linfa negli alberi, che inizia non appena il sole del nuovo anno agisce su di loro. La linfa è una nuova vita per l'albero, da cui più tardi vengono le sue gemme, i fiori e la fruttificazione. L'afflusso di questa forza solare invisibile dà all'albero il potere di attingere nuove forniture di elementi nutritivi attraverso le sue radici, dalla terra. Gli dà anche il potere di gettare via le foglie morte rimaste del raccolto dell'anno precedente, che sono rimaste attaccate durante l'inverno, come si può vedere nelle foreste di querce o di noccioli. Questa forza agisce anche alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera, su animali e uccelli, specialmente se nel loro stato selvaggio o naturale, facendoli spogliare dei loro cappotti di pelliccia o piume dell'ultimo anno. Ma questo gettare via la vecchia materia visibile non è che una parte relativamente piccola del cambiamento che avviene al loro interno. C'è anche un getto fuori o uno spargimento di vecchia materia invisibile in tutto il corpo dell'uccello o dell'animale. Essa se ne va attraverso i pori o altri passaggi in varie forme, alcune visibili, altre invisibili, e viene sostituita da nuovi elementi all'interno, come la nuova pelliccia, il pelo o le piume crescono all'esterno. Il vostro corpo è governato dalla stessa legge. Durante l'ultimo inverno e l'inizio della primavera state facendo la muta, state gettando via la vecchia materia morta e ne ricevete di nuova, sempre che diate a questa forza l'opportunità di agire su di voi al meglio, cessando di essere attivi sia con la mente che con il corpo quando richiedono riposo, come fanno gli uccelli e gli animali durante il loro periodo di muta, o processo di gettare via i vecchi elementi e ricevere il nuovo. Questo elemento o forza ricevuta in questo momento da voi e da loro è invisibile all'occhio fisico, come ogni forza è invisibile. La nuova pelliccia, il nuovo piumaggio dell'uccello, la nuova pelle e i nuovi tessuti all'interno e all'esterno del vostro corpo, se ricevuti, i nuovi germogli, foglie e ramoscelli sono tutte espressioni materializzate di questa forza. Sono nuove cristallizzazioni, provenienti da una nuova soluzione di sostanze chimiche invisibili, in cui l'uccello, l'animale, l'albero e il vostro corpo sono immersi. Tutta la soluzione dell'anno scorso o gli elementi così assorbiti sono stati esauriti. L'albero o l'altra organizzazione visibile dell'uccello, dell'animale o del vostro corpo si trova nella stessa relazione con questa soluzione di rivestizione, come lo scivolo di metallo nella soluzione di minerale che attira fuori da tale soluzione le cristallizzazioni che si formano su di esso. Non c'è una grande linea di demarcazione tra ciò che chiamiamo materia e spirito. La materia non è che una forma di spirito o di pensiero vista dall'occhio fisico. La materia è una forza temporaneamente materializzata, come nel pezzo di carbone che, quando viene dato alle fiamme, manda la forza in esso contenuta a muovere il motore. Il grumo passa poi per lo più nell'elemento invisibile. Così intorno a noi troviamo la forza che passa sempre dalla visibilità fisica all'invisibilità e viceversa. Milioni su milioni di tonnellate di materia invisibile possono essere in una giornata limpida sospese sopra le nostre teste un'ora. La prossima, cadere sotto forma invisibile di pioggia o di neve, che poche ore dopo possono essere tirate di nuovo verso l'alto, ma invisibili. L'indiano chiamava febbraio e marzo i mesi deboli, riconoscendo come faceva, essendo un osservatore della natura più vicino di noi, la tendenza alla pigrizia e all'inattività negli animali e negli uomini, che prevale sempre quando questo potere sta recuperando e rinnovando qualsiasi corpo organizzato. Le cristallizzazioni più perfette dell'elemento minerale vengono dalla soluzione mantenuta più libera dall'agitazione. Il vostro corpo è governato dalla stessa legge in questo rinnovamento e ricristallizzazione primaverile dei suoi elementi. Per ricevere il massimo beneficio dall'elemento riscaldante e rinnovatore della primavera, dovreste riposare ogni volta che avete voglia di riposare, che sia a metà del giorno o a metà della notte. Se tenete il corpo o la mente al lavoro contro la loro inclinazione, se costringete i muscoli allo sforzo con la sola forza di volontà, se lavorate con la mente o con il corpo fino al limite dell'esaurimento totale, senza sapere quanto siete privi di forze finché il vostro lavoro non è finito, come fanno e sono costretti a fare migliaia e migliaia di persone, a causa del nostro innaturale sistema di vita e delle richieste arbitrarie degli affari, impedite a questo potere curativo e di recupero di agire nella sua misura massima sul corpo. Impedite al nuovo elemento, che rinnova l'albero e fa gonfiare le gemme, di assimilarsi al vostro corpo. Vi aggrappate all'elemento logoro che dovrebbe essere gettato via come la quercia getta tutte le sue foglie morte prima che l'inverno sia finito. Portate quindi con voi questo elemento morto, un peso morto, invece della nuova e crescente vita. È questa, tra le altre cause, che fa abbassare le spalle, sbianca i capelli e solca il viso con le rughe, a causa del restringimento dei tessuti. Il decadimento del corpo fisico, che chiamiamo vecchiaia, è dovuto interamente al fatto che l'uomo non crede né sa di potersi mettere nelle condizioni adeguate per ricevere un apporto incessante di forza, che rivestirebbe lo spirito costantemente di nuovo materiale. La mera forza muscolare e la costante attività del corpo non sono sempre segni della più perfetta salute. Nel delirio della febbre, un uomo relativamente debole può aver bisogno di due o tre persone che lo sorregano. Quando questo delirio è passato, egli è debole come un bambino, ma spesso, essendo passata la crisi, viene dichiarato fuori pericolo. In un modo un po' simile, nel mondo degli affari, nella concorrenza acuta, quasi feroce del commercio, migliaia di persone conducono una vita febbrile, eccitata. Sono sempre in tensione. Esigono di essere in questo stato. Non possono lavorare se non sono incatenati ad un certo livello. Se a volte, attraverso la richiesta di riposo della natura, i loro nervi si rilassano e si sentono languidi, scambiano questo segnale amichevole per qualche forma di malattia e lo trattano di conseguenza. Anche in questi casi, quando giacciono per settimane o mesi su letti malati e vengono curati attraverso quella che viene chiamata una malattia pericolosa, e credendo che sia tale, a volte ne escono alla fine migliori e più forti di quanto non fossero stati per un lungo periodo precedente. Perché? Perché attraverso questa cessazione forzata dell'attività fisica o mentale, la natura stava lavorando meglio che poteva in certe circostanze sfavorevoli, ricostruendo un corpo consumato. E come risultato, l'uomo si è alzato con nuovi, freschi elementi nelle sue ossa, muscoli e nervi, messi lì perché la natura aveva ancora il suo corpo messo in quiete, in modo che potesse essere riparato. Se voi vorrete solo intrattenere rispettosamente questa idea della forza rinnovatrice della primavera, anche se all'inizio non potete crederci fino in fondo, riceverete molto aiuto da tale rispettoso intrattenimento. Perché se non cacciate via dalla vostra mente una verità viva quando si presenta per la prima volta, essa metterà radici e viverà lì, e si dimostrerà facendovi del bene. Gli uomini, a causa dell'incessante fatica fisica, si consumano molto prima di quanto generalmente si pensi. La tempra del marinaio resistente spesso non dura che pochi anni. Spesso è un vecchio a 45 anni. Il contadino faticoso, che lavora tutto l'anno dall'alba al tramonto e pensa che il lavoro sia la più grande virtù del mondo, è spesso un ammasso di pomi ossuti e reumatismi a 50 anni. La durata media delle vite di lavoro duro è molto inferiore a quella delle occupazioni che richiedono meno sforzi fisici, che si sforzano e che si affaticano, ora dopo ora, quando il corpo è veramente esausto. Nelle miniere della California, dove ho usato il piccone per anni e ho lavorato con gruppi di uomini, sollevando, facendo ruote e spalando, ho notato che le ultime tre ore di una giornata di lavoro di dieci e a volte dodici ore erano fatte dagli uomini, per quanto forti potessero essere, con molto meno spirito del lavoro del giorno prima. In effetti era spesso una mera finzione di lavoro, a meno che l'occhio vigile del capo fosse costantemente sui suoi uomini. Perché? Perché fisicamente non erano più in grado di lavorare. Era solo la volontà che spingeva i muscoli allo sforzo. E dei robusti e resistenti minatori, di 25 anni o giù di lì, che lavoravano in questo modo e che si ostinavano in questo lavoro faticoso, una grande maggioranza è morta. E di quelli che sono vivi oggi, quattro quinti sono uomini malandati. Nel regno della natura troviamo periodi di riposo costantemente alternati a periodi di attività. Gli alberi si riposano durante l'inverno, la circolazione della linfa è lenta, non c'è creazione di foglie, fiori o frutti. Gli uccelli e gli animali selvatici, dopo la stagione riproduttiva estiva, fanno poco salvo mangiare e dormire. Alcuni animali erettili dormono durante tutto l'inverno. Anche la terra deve riposare per portare il miglior raccolto. Dove è forzato, attraverso una costante concimazione artificiale, il prodotto è inferiore in sapore e qualità nutritiva a quello cresciuto sul terreno vergine. Malattie, però no spora e insetti distruttivi, sono sconosciuti alla vegetazione nel suo stato naturale. Quando l'uomo riconosce il fatto che non può usare il suo corpo anno dopo anno, dalla forza nascente della giovinezza fino all'età di 40 o 50 anni, sotto una così piena e incessante pressione di nervi o di forza di volontà senza un grande danno, e quando riconosce il fatto che ponendosi più spesso in stati di riposo e recettivi, come fanno gli alberi, gli uccelli e gli animali, nel loro stato naturale, allora, ricevendo molto più di questo elemento, godrà di una salute molto maggiore del corpo, elasticità dei muscoli, vigore e brillantezza della mente. Avrebbe anche altri sensi e poteri risvegliati in lui, la cui esistenza è ancora messa in dubbio dalla maggior parte delle persone. Alcune razze orientali indiane hanno in una certa misura l'uso di questi sensi e poteri, in parte a causa della loro vita più riposante e del loro vivere come alberi e animali, più in conformità all'influenza su di loro delle stagioni. Non hanno la nostra forza dominante e aggressiva che invade e conquista per un certo tempo, come l'Inghilterra ha conquistato l'India, e la nostra gente ha sottomesso e quasi esterminato gli indiani. Ma attenzione, questa forza alla fine non conquista. La forza del pensiero, che lavora di più mentre il corpo è relativamente inattivo, è veramente la più forte e alla fine prevale. È sottile, silenziosa, invisibile. Lavorando con il più alto movente, raffina e lucida le razze rozze, bellicose, conquistatrici, innestando su di esse la civiltà dei conquistati. In questo modo, l'arte e la civiltà dell'Egitto conquistato furono trasferite all'Assiro. Secoli dopo, l'Assiro conquistato trasferì questo potere alla Grecia conquistata. La Grecia cadde prima di Roma, eppure la civiltà greca si affermò a Roma. Roma cadde fisicamente prima dei goti e dei vandali, le razze ancora selvagge del nord Europa. Ma nel regno della mente è l'influenza dell'antica Italia, che è stata il grande fattore nel raffinare i goti, gli unni e i vandali di secoli fa nel moderno tedesco, francese, spagnolo e italiano. Ogni convulsione, agitazione e conquista ha fatto attecchire questo potere su un campo più vasto. Oggi la migliore mente inglese sta studiando seriamente le leggi che finalmente ha riconosciuto in India, e quella forza sta in un certo senso per sottomettere l'Inghilterra, poiché essa è già seduta ai piedi dell'India, ricevendo le sue prime lezioni nell'alfabeto delle leggi e della forza, finora del tutto misconosciute dai suoi dotti. Che potere è questo? Vi chiederete, com'è stato conquistato? Com'è sviluppato? È il potere che proviene da menti unite su un unico scopo, in perfetta concordia, e che non lo usano tutto nell'attività fisica. Perché se metti tutto il tuo pensiero o la tua forza nel lavoro delle membra del tuo corpo, nel lavorare con le tue mani, a qualsiasi chiamata giorno dopo giorno, anno dopo anno, senza alcun riguardo per gli impulsi e gli istinti dei tempi e delle stagioni, tu continui a far lavorare tutta quella forza solo sullo strumento, il corpo, e lo consumi. Tu impedisci che essa operi a distanza dal corpo. Impedisci anche l'afflusso e l'assimilazione di questa forza di recupero della primavera. Allevi l'abitudine di tenere il corpo sempre in movimento. Vi impedite di avere quell'ordine di sonno che porterebbe al vostro corpo la maggior forza per le ore di veglia. Infatti, se il corpo o la mente è affaticato giorno dopo giorno, lo stesso ordine di pensiero prevale e lo affatica di notte. Si alleva la convinzione e l'errore che non si compie nulla se non si lavora con il corpo o con il cervello. Non puoi entrare in quello stato di riposo quando il tuo potere di pensiero potrebbe lavorare a distanza e a parte del tuo corpo, e portarti nel tempo un risultato cento volte più benefico di quello che può mai essere realizzato attraverso il semplice sforzo fisico. La qualità nella foglia, nella radice o nella bacca della pianta, che quando viene presa come medicina agisce sugli organi interni, è la forza in quella pianta, liberata attraverso il processo digestivo. La forza che si ottiene dal pane o dalla carne è rafforzata dal cibo allo stesso modo. La digestione è una lenta combustione del materiale assunto nel corpo, come il carbone viene bruciato nella caldaia, e la forza liberata da tale combustione si usa per lavorare il corpo come l'ingegnere usa il calore per far funzionare il motore. Più nuovo è il germoglio, più tenera è la sua formazione materiale esteriore. Eppure quel germoglio, quando viene usato medicinalmente, contiene la forza più attiva, il principio e la qualità della pianta. Il tè più scelto e più forte è fatto dalle gemme più alte e più tenere della pianta. In California, il germoglio della quercia velenosa colpisce alcune persone anche se le stanno solo vicino. Tanto è grande la forza nociva che emette nell'aria. Le tenere gemme della primavera contengono quella forza, che più tardi farà la foglia o il ramo più solido. Nella vostra organizzazione in primavera ci sono gli stessi teneri elementi in erba. Così, se il vostro corpo è debole in primavera, è un segno che le nuove gemme, per così dire, dentro di voi, si stanno formando. Sono pieni di forza. Ma quella forza non ha avuto il tempo di agire sulla vostra organizzazione materiale e di formare le nuove ossa, i muscoli e i tendini che arriveranno in un periodo successivo, a condizione che tale gemmazione o nuova cristallizzazione non sia agitata, disturbata e possibilmente distrutta da uno sforzo eccessivo della mente o del corpo, dove lo stesso danno relativo è fatto al vostro corpo, come sarebbe fatto all'albero in germoglio da un uragano. Forse voi dite, ma come posso portare avanti i miei affari e guadagnarmi il pane se così stendo il mio corpo per le riparazioni della natura? Noi rispondiamo, le leggi degli affari dell'uomo non sono le leggi della natura. Se la natura dice riposo e l'uomo dice lavoro e lavorerà o dovrà lavorare, l'uomo avrà sempre la peggio. Quelle che la società chiama pratiche o abitudini viziose non sono le uniche agenzie che portano malattia, dolore e morte. Migliaia di persone muoiono ogni anno con una lenta agonia su letti rispettabili e nella migliore società. Consumo, cancro, pazzia, idropisia, reumatismi, scrofola, febbre, rabbia, imperversano tra le persone più corrette dal punto di vista convenzionale. Perché questo? Se ti trovi in condizioni di vita in cui al momento è impossibile concederti il riposo necessario e senti profondamente il bisogno di tale riposo, puoi contare sul fatto che il tuo desiderio persistente, la tua preghiera, la tua risposta imperiosa di avere l'opportunità di ricevere e beneficiare delle forze restauratrici della natura, ti porterà in qualche modo l'opportunità di trarne profitto. Quando un bisogno è profondamente sentito, il pensiero e il desiderio che scaturiscono da tale sentimento, sono essi stessi una preghiera, una forza che vi porterà aiuto e vi allontanerà da ambienti e modi di vita nocivi. Ripetiamo spesso questa affermazione. Ha bisogno di frequenti ripetizioni. È la molla principale di ogni crescita e avanzamento verso una vita più felice e sana. Il Cristo di Giudea incarnò questa grande legge nelle parole. Chiedete e riceverete. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Saggiamente non ha tentato di spiegare questo mistero per cui il pensiero, il desiderio o l'aspirazione umana sincera portano sempre, col tempo, alla cosa o al risultato desiderato. Perché questo e altri misteri sono inesplicabili. E non appena viene data una presunta causa per un certo risultato nel funzionamento della natura, troviamo un mistero più profondo nella causa stessa. Noi diciamo, il vento è aria in movimento. Cosa lo mette in movimento e lo mantiene in movimento? Una volta abbiamo spiegato le maree con la teoria dell'attrazione della luna. Ma a parte le maree, quale potere tiene in movimento il gigantesco sistema di correnti che attraversano gli oceani, rivelato più pienamente negli ultimi quarant'anni? Quale potere mantiene i nostri polmoni che respirano giorno e notte o il sangue che scorre in ogni parte del corpo? Non sono forse tutte queste forze del potere di Dio o dell'infinito spirito o forza del bene che opera in voi come opera in tutto ciò che vive e cresce? Solo a noi è data finalmente la conoscenza per operare questo potere in modo intelligente. Il corpo dell'albero, dell'animale e dell'uccello decade alla fine, per mancanza di tale intelligenza. Così, in passato, la parte materiale dell'uomo è decaduta? Ma non sarà sempre così. L'ultimo grande nemico da distruggere, dice Paolo, è la morte. Il che implica che, man mano che la conoscenza e la fede dell'uomo, nelle meravigliose forze che lo circondano e in lui aumentano, egli scoprirà sempre meglio come porsi nella linea del funzionamento di queste forze. E così facendo, renderà la parte mortale e immortale, attraverso un incessante rinnovamento di elementi sempre più sottili. Capitolo 11. L'immortalità nella carne Noi crediamo che l'immortalità nella carne sia una possibilità, o in altre parole, che un corpo fisico possa essere conservato finché lo spirito ne desideri l'uso, e che questi corpi, invece di diminuire in forza e vigore, con il passare degli anni, aumenteranno e la loro giovinezza sarà perpetua. Crediamo che le presunte favole delle antiche mitologie, che si riferiscono agli immortali o agli esseri in possesso di poteri diversi e più grandi dei mortali, abbiano un fondamento nei fatti. Questa possibilità deve venire in accordo con la legge che ogni richiesta o preghiera dell'umanità deve portare un'offerta. C'è ora una richiesta più seria che mai per una vita fisica più lunga e più perfetta, perché ora più menti vedono le maggiori possibilità della vita. Apprezzano più che mai il valore del vivere nel fisico. Tale richiesta prende spesso questa forma di espressione. Ho appena imparato a vivere ed è quasi ora di morire. Il corpo crescerà fino a questi risultati attraverso una serie graduale di processi spirituali, operando su e sempre cambiando, spiritualizzando e raffinando la materia. Questi processi non conservano il corpo che una persona può avere ora. Conservano un corpo e un corpo in continuo cambiamento e raffinamento. Ogni malattia, mancanza di agio fisico o malessere proviene da un processo spirituale, il cui scopo è la ricostruzione del corpo fisico, prima nella ricezione di nuovi elementi e poi nella cacciata dei vecchi. Dietro questa ricostruzione fisica, tuttavia, c'è in corso la ricostruzione molto più importante dello spirito da cui è costruito il corpo. Questi processi sono continuamente in corso con il corpo, operando attraverso la pelle, lo stomaco e altri organi, così come nei periodi di prostrazione fisica o in disposizione di cui sopra. Tutte le malattie sono uno sforzo dello spirito rinnovato da un nuovo afflusso di forza, per scacciare la materia vecchia e relativamente morta. Ma poiché questo intento non è stato riconosciuto dalla razza, il processo e lo sforzo spirituale, con il dolore e il disagio che lo accompagnano, è stato ritenuto e temuto come un segnale o l'avvicinarsi della morte. Così, senza alcuna conoscenza della legge spirituale e giudicando tutto dal materiale, la temporanea e necessaria debolezza del corpo che accompagna il processo è stata considerata un male incolmabile. Tale credenza ha solo aiutato in passato lo spirito ad accumulare su di sé sempre più credenze nella falsità, che dopo un certo periodo di anni, nessun potere o forza nell'universo poteva impedire che il corpo fisico invecchiasse, si raggrinsisse, si indebolisse e infine perisse. Il corpo cambia continuamente i suoi elementi, in accordo con la condizione della mente. In certe condizioni mentali aggiunge a se stesso elementi di decadenza, debolezza e morte fisica. In un'altra condizione mentale aggiunge a se stesso elementi di forza, vita e vita perpetua. Ciò che lo spirito assume in entrambi i casi sono pensieri o credenze. Pensieri e credenze si materializzano nella carne e nel sangue. La credenza nell'inevitabile decadenza e morte porta dallo spirito al corpo gli elementi di decadenza e morte. La fede nella possibilità di un continuo afflusso di vita allo spirito porta la vita. Se una nuova vita viene così aggiunta a voi, ci deve essere anche un accompagnamento che getta via la materia vecchia o relativamente morta del corpo. Proprio come quando un afflusso di nuova vita arriva all'albero in primavera, esso getta via le foglie morte, che possono essergli rimaste attaccate per tutto l'inverno. Attraverso un simile afflusso di nuova vita o forza, l'animale e l'uccello si liberano annualmente della vecchia pelliccia o delle piume e assumono la nuova, e cambiamenti corrispondenti hanno luogo in tutta l'organizzazione dell'uccello, dell'animale e dell'uomo. Questa legge spirituale opera in tutte le forme e organizzazioni della forma più cruda di spirito, che chiamiamo materia. Nell'essere umano questo afflusso di forza è maggiore che nelle forme di vita inferiori. Non influisce allo stesso modo in tutti gli esseri umani. Alcuni ricevono più di altri. Ma nel corso dell'avanzamento verranno uomini e donne che riceveranno tanto di questo influsso da essere obbligati a vedere queste ulteriori possibilità di esistenza e a realizzarle. Quando nuove idee o pensieri vengono ricevuti dalla nostra mente superiore o dal nostro sé, vengono combattuti dalla nostra mente inferiore o materiale. Il corpo è il campo di battaglia tra queste due forze, e quindi soffre. Man mano che le menti arrivano a confidare, anche in piccola misura, nel potere supremo, e ad avere l'idea che la malattia fisica e la morte fisica non sono necessità assolute, il potere superiore deve prevalere. Qualche vecchio errore sarà scacciato, qualche nuova idea si affermerà. Il corpo sarà migliore e più forte dopo ogni lotta successiva, e anche queste lotte diventeranno gradualmente sempre meno gravi, fino a cessare del tutto. Le persone hanno perso in passato i loro corpi fisici, perché ignorando il fatto che la malattia è un processo che permette allo spirito di liberarsi del vecchio pensiero materiale e di assumerne uno nuovo, hanno usato le loro forze nel modo sbagliato per trattenere tale pensiero. Lo vostra convinzione farà della vostra malattia un beneficio o un male per voi. Se riuscite ad avere la convinzione che si tratta di un processo spirituale per liberarsi di vecchi elementi logori, aiutate molto la mente nello svolgimento di questo processo. Se invece credete che la malattia sia interamente una condizione fisica e che da essa non derivi alcun beneficio e solo il male, state usando la forza solo per caricare lo spirito di sempre più errori, di cui la vostra carne e il vostro sangue saranno in qualità di espressione, finché alla fine il vostro spirito rifiuta il corpo che ha cercato di portare e lascia cadere il suo carico. Alla fine rigetta tutto il corpo per le stesse leggi con cui rigetta una parte di esso quando quella parte è spiritualmente morta. Se accogliete con disprezzo il pensiero che il vostro corpo fisico possa essere reso perpetuo attraverso un rinnovamento sempre più fresco della sua sostanza, chiudete a voi stessi un'entrata per la vita e ne aprite un'altra alla decadenza e alla morte. Noi non sosteniamo che voi dovreste credere in questo. Potreste essere così mentalmente costituiti da non poterlo credere ora. Ci sono molte cose future che nessuno di noi ha ora il potere di credere. Ma possiamo, se la cosa ritenuta impossibile è desiderabile, pregare o richiedere una fede che ci dia una ragione per credere, e tale fede verrà in risposta alla richiesta. Fede significa potere di credere nel vero, o la capacità della mente di ricevere pensieri veri. La fede di Colombo, nell'esistenza di un nuovo continente, era un potere in lui di intrattenere tale idea più grande di altri del suo tempo. Persone che, per usare l'espressione comune, hanno fede in se stesse, hanno anche un potere effettivo di portare a termine le loro imprese, maggiore di quelle che non hanno fede in se stesse. Quando esigete la fede in possibilità per voi stessi, che ora vi sembrano nuove e strane, esigete anche il potere e la capacità di attirare a voi la capacità di vedere o sentire ragioni per verità nuove per voi. Se chiedete persistentemente la verità e solo la verità, la otterrete, e tutta la verità significa potere di realizzare cose apparentemente impossibili. La tua fede ti ha reso integro, disse il Cristo di Giudea a un uomo che era stato guarito. Per noi questo passaggio si interpreta come se significasse che la persona guarita aveva un potere innato di credere che poteva essere guarita. Questo potere che era del suo proprio spirito, e non di Cristo, agì così sul suo corpo, da curare istantaneamente le sue infermità. Cristo era un mezzo per risvegliare questo potere nello spirito di quell'uomo, ma Cristo stesso non ha dato alla persona quel potere. Esso era latente nella persona guarita. Cristo la risvegliò in vita, e probabilmente solo una vita e un'attività temporanea, perché non sentiamo che nessuno dei casi registrati di guarigione improvvisa in quei tempi fosse permanente. Essi si ammalarono di nuovo, e alla fine persero il loro corpo. Perché? Perché la fede o il potere che attirarono su di sé per un breve periodo non rimase. Non avevano imparato ad accrescerlo continuamente, attraverso la richiesta silenziosa del potere supremo. I loro spiriti tornarono nel dominio della fede materiale. Quando quella credenza materializzò di nuovo un carico sullo spirito, difficile da portare, ed essi erano malati, nessuno era a portata di mano come il Cristo, per risvegliarlo in una fede o potenza temporanea. Nessuna persona può diventare permanentemente intera, il che implica, tra gli altri poteri, l'immortalità nella carne, e avere un'intera e permanente libertà dalla malattia, che si fidi o si appoggi a qualsiasi altro, se non al supremo, per ottenere il potere dalla fede. Da questo punto di vista, ogni mente deve stare completamente da sola. Non puoi attingere il potere supremo se dipendi sempre dall'aiuto di un altro o di altri. Se lo fai, stai solo prendendo in prestito o assorbendo la loro fede. Tale fede presa in prestito può fare miracoli per un certo tempo, ma non viene per restare. Quando quella di cui prendi in prestito viene tagliata, cadrai di nuovo nella melma dello sconforto e della malattia. In realtà, non avete mai attinto alla fonte giusta, il supremo. La nostra richiesta, o preghiera più proficua, fatta consapevolmente o inconsapevolmente, è «fa che la mia fede sia sempre più grande». Quando invertite il vostro atteggiamento mentale riguardo alla malattia e non fate altro che credere che si tratta di uno sforzo dello spirito per gettare via gli errori di pensiero, che assorbiti e ricevuti fin dalla prima infanzia si materializzano nella vostra carne, cessate gradualmente di caricarvi di errori. Cominciate anche il processo di scaricare e buttare fuori tutti i precedenti errori di pensiero. La malattia che avete avuto molti anni fa nella paura della morte ha in un certo senso impacchettato quel particolare ricordo di tale stato d'animo di paura nel vostro essere, e con esso la credenza che accompagnava tale ricordo. Quella convinzione ha lavorato contro di voi per tutti questi anni. Come tutte le convinzioni sbagliate devono lavorare contro di voi. È letteralmente una parte del vostro vero essere. Come tutti i ricordi e le esperienze individuali passate, sono una parte letterale del nostro essere. È conservato nella vostra memoria spirituale, anche se il suo ricordo materiale può essere svanito. Quel ricordo è nel pensiero una realtà, ma è il ricordo di una falsa credenza che insegna che la morte e la decadenza non possono mai essere superate. Questa credenza, l'azione e lo stato invertito della vostra mente la scaccerà. Ma questa cacciata deve avere una corrispondente espressione nella carne. Le espressioni fisiche di tutte le vostre precedenti tossi e raffreddori, febbri e altre malattie devono riapparire, all'inizio possibilmente gravi, ma gradualmente in una forma modificata. State quindi scaricando le vostre vecchie false credenze. Ma se la vostra convinzione non è invertita e continuate come prima, considerando il decadimento fisico e la morte come inevitabili, allora con ogni malattia, in tale condizione mentale, voi impacchettate un altro errore, un'altra falsità e un'altra aggiunta al carico di falsità, il cui effetto certo, aggiunto al resto, è di indebolire, schiacciare e infine causare la perdizione del corpo. Non c'è nessun periodo nella vita fisica troppo tardi per ricevere o intrattenere la verità. Non c'è un periodo troppo tardi perché tale verità inizi il suo processo di rinnovamento fisico e, anche se quella particolare vita fisica può non essere perpetuata, tuttavia lo spirito, ricevendo tale verità, riceve una forza che sarà di inestimabile valore per lui nel lato invisibile. E con il suo aiuto può essere in grado di costruire prima per sé stesso un corpo spirituale più perfetto. E il fine ultimo del corpo spirituale relativamente perfezionato è il potere di essere e vivere nei regni fisici e spirituali dell'esistenza a volontà. Se voi sostenete l'idea che gli uomini debbano sempre andare avanti come nel passato, perdendo i loro corpi, e debbano anche rimanere senza il potere di mantenere quei corpi in perfetta salute, allora mettete la vostra convinzione contro il fatto eterno che tutte le cose in questo pianeta stanno sempre andando avanti verso una maggiore raffinatezza, maggiori poteri e maggiori possibilità. La medicina e i rimedi materiali possono aiutare molto il processo di gettare. Un medico esperto e comprensivo di qualsiasi scuola può essere di grande aiuto. Tutto dipende dalla mente e dalla convinzione con cui prendete la medicina e il consiglio del medico. Se consideri entrambi come aiuti al tuo spirito nel gettare via un carico e costruire per te un nuovo corpo, tu dai in tale convinzione un grande aiuto allo spirito, così da gettare via e costruire. Ma se considerate sia la medicina che il medico come aiuto solo per il corpo e che anche un corpo che ritenete debba nel miglior dei casi indebolirsi e perire qualche volta durante i prossimi 30, 40 o 50 anni, vi caricherete di credenze nell'errore più velocemente di quanto le gettate via e il carico diventa alla fine troppo pesante per lo spirito da portare. Cosa fa sì che l'uomo o la donna siano piegati dall'età? Cosa causa le spallechine, le ginocchia indebolite e l'andatura vacillante? Perché credono solo nel terreno e nel deperibile. Lo spirito non è né terreno né deperibile, ma lo si può caricare letteralmente con una qualità terrena di pensiero che lo piegherà verso la terra con tale peso. Non è il corpo fisico dell'anziano che è piegato e inarcato, è quella parte che è la forza che muove il corpo, cioè il suo spirito, carico di pensiero materiale, che non può appropriarsi o assimilare, che diventa così piegato, inchinato e devole. Il corpo è sempre una corrispondenza esterna della vostra mente o spirito. Un corpo che si rinnova, si abbellisce, si rinfresca e si rafforza, significa una mente dietro di esso che si rinnova sempre con nuove idee, piani, speranze, scopi e aspirazioni. La vita eterna non è la vita mezza morta della vecchiaia estrema. La persona che può vedere solo il lato fisico e l'espressione temporanea della vita, che mangia e beve, credendo che solo il corpo sia influenzato da meno mangiare e bere, che crede che il corpo sia sostenuto solo dalla forza generata dentro di sé e che non sia alimentato da un elemento invisibile proveniente dal regno spirituale dell'elemento, e chi crede che non esista altro che ciò che può vedere, sentire e percepire con il senso fisico, cioè la materia che è sempre il temporaneo e il deperibile, attira a sé soprattutto quelle forze e quegli elementi che causano il temporaneo e il deperibile, e questi, agendo nel suo corpo, lo rendono temporaneo e deperibile. La morte del corpo inizia con migliaia di anni prima di essere nelle loro bare. Il viso pallido e la pelle color pergamena significano una pelle e mezza morta. Significa una porzione del corpo in cui lo spirito opera il processo di gettare l'elemento morto e di assumere il nuovo in modo molto imperfetto. Nella freschezza dell'infanzia e nella prima giovinezza, lo spirito scaccia e assume più vigorosamente. Col passare degli anni, la falsità fu assorbita da quello spirito. La sua crescita nella conoscenza fu sempre più ritardata. I cambiamenti fisici di risposta divennero sempre più lenti. Il corpo comincia a mostrare i segni dell'età, cioè a morire, perché tale spirito era sempre meno nutrito di quell'elemento che porta a un costante rinnovamento del pensiero nuovo, che è nuova vita. La convinzione e la fede nella debolezza e nella decadenza prevalgono così tanto nella razza che la saggezza è spesso allegoricamente ritratta come un vecchio, grigio, calvo, inchinato e sostenuto da un bastone. Ciò significa una saggezza che non può impedire che il suo stesso corpo vada in pezzi. In quella forma di essere che viene chiamato il bambino, uno spirito o una mente che è entrata in possesso di un nuovo corpo, c'è per un periodo una saggezza spirituale maggiore di quando il bambino è fisicamente più maturo. È la saggezza inconscia dell'intuizione. È un periodo più aperto alla verità. Per questo motivo, fino all'età di 18 o 20 anni, i processi spirituali di gettare e assumere con il corpo sono più perfettamente eseguiti. Questi cambiamenti relativamente rapidi nel fisico mantengono la fioritura e la freschezza della giovinezza. Prima o poi, però, il processo spirituale superiore cessa gradualmente di operare. Le credenze nel falso, insegnate o assorbite da altri, si materializzano nel corpo, nonostante tutta la resistenza della mente superiore espressa nel dolore e nella malattia. Il carico di credenze nel terreno e nel deperibile si accumula. Il corpo assume un aspetto in corrispondenza di tale pensiero. Alla fine, la mente superiore si rifiuta di portare un tale carico, lo getta via e lascia un corpo morto. La morte del corpo è allora il processo finale per gettare via dallo spirito l'elemento più grezzo, che esso non può più usare o appropriarsi. Ma è molto desiderabile che lo spirito possa mantenere un corpo fisico che si perfezioni come lo spirito si perfeziona. Perché in tale uguaglianza di perfezionamento tra lo spirito e il suo strumento, la nostra crescita nella felicità è molto avanzata e il relativamente perfezionato arrotondamento delle nostre forze non può essere realizzato fino a che questa unione tra spirito e corpo non sia stata effettuata. Quando il Cristo di Giudea disse agli anziani di Israele del piccolo bambino, se non diventerete come questo bambino non potrete entrare nel regno dei cieli. Intendeva dire, come ci interpreta il testo, che essi dovevano diventare aperti a quell'afflusso di forza come lo era quello spirito, il bambino, in quel periodo della sua esistenza. Se tale afflusso fosse mantenuto, la giovinezza del corpo sarebbe perpetua. Il bambino è più guidato dallo spirito della persona adulta, è più naturale, naturale. Scarta la politica, mostra apertamente chi gli piace e chi no. Spesso ha più intuizione. Non amerà un uomo o una donna cattivi quando i suoi genitori non vedono il male in quella persona. Sa, o piuttosto sente, molto di più riguardo alla vita, di quanto i suoi genitori non gli diano credito. Ma non può esprimere i suoi pensieri e parole. Eppure i pensieri sono ancora lì. Non ha imparato ad addestrarsi all'usanza bifronte del mondo, che ti sorride in faccia e sogghigna alle tue spalle. È relativamente naturale. Il suo spirito, per un certo tempo, si dà libera espressione. Quando lo spirito perde questa libertà di espressione, quando fingiamo ciò che non siamo, quando diciamo sì esteriormente e pensiamo no interiormente, quando facciamo la corte solo per ottenere un favore, quando proviamo rabbia o delusione o irritazione dentro e fingiamo contentezza e felicità fuori, diventiamo sempre più innaturali in tutti i gusti e desideri. Smussiamo e per un certo tempo distruggiamo tutti i sensi e i poteri spirituali superiori. Diventiamo incapaci di distinguere la verità dalla falsità. Non siamo in grado di sentire spiritualmente cosa significhi la fede, tantomeno di attirare a noi questo grande e indispensabile potere. E senza questo potere di attrazione, il corpo fisico deve essere abbandonato dallo spirito. Il corpo, nel morire, non abbandona il fantasma. È il fantasma, lo spirito, che rifiuta il corpo materiale. Il suo spirito, scacciando l'incredulità, diventa sempre più accessibile ai pensieri e alle cose che sono e quindi cresce a una potenza sempre maggiore. Esso opererà, agendo in tutte le parti e funzioni del corpo, il processo di scissione sempre più rapidamente, come fa nella gioventù materiale. Rifiuterà o rispingerà, attraverso i sensi fisici del tatto o del gusto, tutto ciò che potrebbe ferirlo o adulterarlo. Può raggiungere un tale potere anche un veleno attivo, se messo accidentalmente in bocca, verrebbe immediatamente individuato e respinto, o se ingoiato, verrebbe immediatamente scacciato dallo stomaco. Non è lo stomaco fisico che respinge il cibo non adatto a lui o scaccia la dose nauseabonda. È lo spirito che muove l'organo a tale azione, attraverso una coscienza propria, che la sostanza scartata non è adatta a lui. È così inadatta perché non c'è spirito né qualità nell'elemento scartato che possa assimilare e aiutare lo spirito. Man mano che il vostro spirito cresce in potenza, questa sensibilità a tutte le cose che possono fargli del male, siano esse del mondo visibile o invisibile delle cose, aumenterà. Diventa sempre più acuto all'avvicinarsi o alla presenza di tutto il male. E lo scaccia. Ti avvertirà istantaneamente della persona malvagia o che progetta. Vi dirà cosa è sicuro e adatto alla vostra associazione. Infine, scaccerà o rifiuterà di ricevere tutti i pensieri malvagi che ora potete ricevere inconsciamente e che fanno più male di qualsiasi cosa materiale, perché da essi lo spirito è avvelenato. Man mano che la fede aumenta, molti aiuti materiali saranno chiamati dallo spirito, che aiuteranno molto i processi di rinnovamento. Questi aiuti arriveranno nella selezione dei cibi, nella scelta di associazioni appropriate e in altri cambiamenti di abitudini e costumi. Ma è lo spirito che deve suggerire e dirigere questi aiuti materiali. Quando tale suggerimento arriva, sarete obbligati a seguirlo. Il cibo da evitare non potrete mangiarlo. Il vostro gusto lo rifiuterà. L'associazione dannosa per te non sarà in grado di tenere compagnia. L'abitudine da cambiare cadrà facilmente e naturalmente. Ma se fate delle regole rigide per voi stessi in queste questioni, nella speranza che tendano a spiritualizzarvi, state permettendo al sé materiale di prendere in mano la questione. La mente materiale o inferiore sta allora cercando di dare la legge e le regole e di perfezionare l'io spirituale o superiore. Lasciate che lo spirito, aumentato nella fede, faccia il lavoro. E quando arriverà il momento di rifiutare qualsiasi cibo animale o qualsiasi elemento grossolano in qualsiasi forma, il desiderio e il gusto per questi saranno spariti. Nell'affermare la nostra convinzione che l'immortalità della carne sia una possibilità, non deduciamo che sia una possibilità che chiunque ora fisicamente vivo possa realizzare, né deduciamo che sia una di quelle che non possono realizzare, né sosteniamo che le persone debbano immediatamente mettersi al lavoro in qualche senso materiale per vivere per sempre. Riteniamo solo che sia un risultato che deve venire prima o poi di quell'evoluzione dello spirito o crescita, dal più grezzo al più fine, che ha sempre operato su questo pianeta e su ogni forma di materia. La materia è lo spirito temporaneamente materializzato, in modo da essere evidente al corrispondente senso fisico. Man mano che cresciamo nella fede di questi processi spirituali per buttare fuori il vecchio e prendere il nuovo, e di conseguenza realizziamo la conseguente maggiore raffinatezza o spiritualizzazione del corpo, aiuteremo sempre di più coloro che ci sono più vicini nel lato invisibile della vita. Perché man mano che diventiamo più spiritualizzati nella carne, essi vengono aiutati a materializzare di più lo spirito. In altre parole, diventeremo fisicamente tangibili l'uno all'altro, perché nel pensiero materiale che gettiamo via esiste un elemento di cui essi possono appropriarsi per rendersi più materiali. Anche i loro corpi spirituali sono sotto le stesse leggi per quanto riguarda il processo di gettare e prendere. Ciò che essi gettano via come più grossolano per loro è il più fine e adatto per noi, questo elemento che assorbiamo spiritualmente. E per il tempo e la condizione un certo cibo e vita spirituale per noi. Per mezzo di ciò che buttano via siamo aiutati a spiritualizzare il corpo. Attraverso ciò che noi gettiamo via, loro sono aiutati a materializzare lo spirito. Capitolo 11. L'immortalità nella carne. Noi crediamo che l'immortalità nella carne sia una possibilità, o in altre parole, che un corpo fisico possa essere conservato finché lo spirito ne desideri l'uso, e che questi corpi, invece di diminuire in forza e vigore, con il passare degli anni, aumenteranno, e la loro giovinezza sarà perpetua. Crediamo che le presunte favole delle antiche mitologie, che si riferiscono agli immortali, o agli esseri in possesso di poteri diversi e più grandi dei mortali, abbiano un fondamento nei fatti. Questa possibilità deve venire in accordo con la legge che ogni richiesta o preghiera dell'umanità deve portare un'offerta. C'è ora una richiesta più seria che mai per una vita fisica più lunga e più perfetta, perché ora più menti vedono le maggiori possibilità della vita. Apprezzano più che mai il valore del vivere nel fisico. Tale richiesta prende spesso questa forma di espressione. Ho appena imparato a vivere ed è quasi ora di morire. Il corpo crescerà fino a questi risultati attraverso una serie graduale di processi spirituali, operando su e sempre cambiando, spiritualizzando e raffinando la materia. Questi processi non conservano il corpo che una persona può avere ora. Conservano un corpo, e un corpo in continuo cambiamento e raffinamento. Ogni malattia, mancanza di agio fisico o malessere proviene da un processo spirituale, il cui scopo è la ricostruzione del corpo fisico, prima nella ricezione di nuovi elementi e poi nella cacciata dei vecchi. Dietro questa ricostruzione fisica, tuttavia, c'è in corso la ricostruzione molto più importante dello spirito da cui è costruito il corpo. Questi processi sono continuamente in corso con il corpo, operando attraverso la pelle, lo stomaco e altri organi, così come nei periodi di prostrazione fisica o in disposizione di cui sopra. Tutte le malattie sono uno sforzo dello spirito rinnovato da un nuovo afflusso di forza, per scacciare la materia vecchia e relativamente morta. Ma poiché questo intento non è stato riconosciuto dalla razza, il processo e lo sforzo spirituale, con il dolore e il disagio che lo accompagnano, è stato ritenuto e temuto come un segnale o l'avvicinarsi della morte. Così, senza alcuna conoscenza della legge spirituale e giudicando tutto dal materiale, la temporanea e necessaria debolezza del corpo che accompagna il processo è stata considerata un male incolmabile. Tale credenza ha solo aiutato in passato lo spirito ad accumulare su di sé sempre più credenze nella falsità, che dopo un certo periodo di anni nessun potere o forza nell'universo poteva impedire che il corpo fisico invecchiasse, si raggrinsisse, si indebolisse e infine perisse. Il corpo cambia continuamente i suoi elementi, in accordo con la condizione della mente. In certe condizioni mentali aggiunge a se stesso elementi di decadenza, debolezza e morte fisica. In un'altra condizione mentale aggiunge a se stesso elementi di forza, vita e vita perpetua. Ciò che lo spirito assume in entrambi i casi sono pensieri o credenze. Pensieri e credenze si materializzano nella carne e nel sangue. La credenza nell'inevitabile decadenza e morte porta dallo spirito al corpo gli elementi di decadenza e morte. La fede nella possibilità di un continuo afflusso di vita allo spirito porta la vita. Se una nuova vita viene così aggiunta a voi, ci deve essere anche un accompagnamento che getta via la materia vecchia o relativamente morta del corpo. Proprio come quando un afflusso di nuova vita arriva all'albero in primavera, esso getta via le foglie morte, che possono essergli rimaste attaccate per tutto l'inverno. Attraverso un simile afflusso di nuova vita o forza, l'animale e l'uccello si liberano annualmente della vecchia pelliccia o delle piume e assumono la nuova, e cambiamenti corrispondenti hanno luogo in tutta l'organizzazione dell'uccello, dell'animale e dell'uomo. Questa legge spirituale opera in tutte le forme e organizzazioni della forma più cruda di spirito, che chiamiamo materia. Nell'essere umano questo afflusso di forza è maggiore che nelle forme di vita inferiori. Non fluisce allo stesso modo in tutti gli esseri umani. Alcuni ricevono più di altri. Ma nel corso dell'avanzamento verranno uomini e donne che riceveranno tanto di questo influsso da essere obbligati a vedere queste ulteriori possibilità di esistenza e a realizzarle. Quando nuove idee o pensieri vengono ricevuti dalla nostra mente superiore o dal nostro sé, vengono combattuti dalla nostra mente inferiore o materiale. Il corpo è il campo di battaglia tra queste due forze, e quindi soffre. Man mano che le menti arrivano a confidare, anche in piccola misura, nel potere supremo, e ad avere l'idea che la malattia fisica e la morte fisica non sono necessità assolute, il potere superiore deve prevalere. Qualche vecchio errore sarà scacciato, qualche nuova idea si affermerà. Il corpo sarà migliore e più forte dopo ogni lotta successiva, e anche queste lotte diventeranno gradualmente sempre meno gravi, fino a cessare del tutto. Le persone hanno perso in passato i loro corpi fisici, perché ignorando il fatto che la malattia è un processo che permette allo spirito di liberarsi del vecchio pensiero materiale e di assumerne uno nuovo, hanno usato le loro forze nel modo sbagliato per trattenere tale pensiero. Lo trattengono per mezzo della loro credenza. La vostra convinzione farà della vostra malattia un beneficio o un male per voi. Se riuscite ad avere la convinzione che si tratta di un processo spirituale per liberarsi di vecchi elementi logori, aiutate molto la mente nello svolgimento di questo processo. Se invece credete che la malattia sia interamente una condizione fisica, e che da essa non derivi alcun beneficio e solo il male, state usando la forza solo per caricare lo spirito di sempre più errori, di cui la vostra carne e il vostro sangue saranno in qualità di espressione, finché alla fine il vostro spirito rifiuta il corpo che ha cercato di portare e lascia cadere il suo carico. Alla fine rigetta tutto il corpo per le stesse leggi con cui rigetta una parte di esso quando quella parte è spiritualmente morta. Se accogliete con disprezzo il pensiero che il vostro corpo fisico possa essere reso perpetuo attraverso un rinnovamento sempre più fresco della sua sostanza, chiudete a voi stessi un'entrata per la vita e ne aprite un'altra alla decadenza e alla morte. Noi non sosteniamo che voi dovreste credere in questo. Potreste essere così mentalmente costituiti da non poterlo credere ora. Ci sono molte cose future che nessuno di noi ha ora il potere di credere. Ma possiamo, se la cosa ritenuta impossibile è desiderabile, pregare o richiedere una fede che ci dia una ragione per credere, e tale fede verrà in risposta alla richiesta. Fede significa potere di credere nel vero, o la capacità della mente di ricevere pensieri veri. La fede di Colombo nell'esistenza di un nuovo continente era un potere in lui di intrattenere tale idea più grande di altri del suo tempo. Persone che, per usare l'espressione comune, hanno fede in se stesse, hanno anche un potere effettivo di portare a termine le loro imprese, maggiore di quelle che non hanno fede in se stesse. Quando esigete la fede in possibilità per voi stessi, che ora vi sembrano nuove e strane, esigete anche il potere e la capacità di attirare a voi la capacità di vedere o sentire ragioni per verità nuove per voi. Se chiedete persistentemente la verità e solo la verità, la otterrete, e tutta la verità significa potere di realizzare cose apparentemente impossibili. La tua fede ti ha reso integro, disse il Cristo di Giudea a un uomo che era stato guarito. Per noi questo passaggio si interpreta come se significasse che la persona guarita aveva un potere innato di credere che poteva essere guarita. Questo potere che era del suo proprio spirito, e non di Cristo, agì così sul suo corpo, da curare istantaneamente le sue infermità. Cristo era un mezzo per risvegliare questo potere nello spirito di quell'uomo. Ma Cristo stesso non ha dato alla persona quel potere. Esso era latente nella persona guarita. Cristo la risvegliò in vita, e probabilmente solo una vita e un'attività temporanea, perché non sentiamo che nessuno dei casi registrati di guarigione improvvisa in quei tempi fosse permanente. Essi si ammalarono di nuovo, e alla fine persero il loro corpo. Perché? Perché la fede o il potere che attirarono su di sé per un breve periodo non rimase. Non avevano imparato ad accrescerlo continuamente, attraverso la richiesta silenziosa del potere supremo. I loro spiriti tornarono nel dominio della fede materiale. Quando quella credenza materializzò di nuovo un carico sullo spirito, difficile da portare, ed essi erano malati, nessuno era a portata di mano come il Cristo, per risvegliarlo in una fede o potenza temporanea. Nessuna persona può diventare permanentemente intera, il che implica, tra gli altri poteri, l'immortalità nella carne, e avere un'intera e permanente libertà dalla malattia, che si fidi o si appoggi a qualsiasi altro, se non al Supremo, per ottenere il potere dalla fede. Da questo punto di vista, ogni mente deve stare completamente da sola. Non puoi attingere il potere supremo se dipendi sempre dall'aiuto di un altro o di altri. Se lo fai, stai solo prendendo in prestito o assorbendo la loro fede. Tale fede presa in prestito può fare miracoli per un certo tempo, ma non viene per restare. Quando quella di cui prendi in prestito viene tagliata, cadrai di nuovo nella melma dello sconforto e della malattia. In realtà, non avete mai attinto alla fonte giusta, il Supremo. La nostra richiesta, o preghiera più proficua, fatta consapevolmente o inconsapevolmente, è «fa che la mia fede sia sempre più grande». Quando invertite il vostro atteggiamento mentale riguardo alla malattia e non fate altro che credere che si tratta di uno sforzo dello spirito per gettare via gli errori di pensiero, che assorbiti e ricevuti fin dalla prima infanzia si materializzano nella vostra carne, cessate gradualmente di caricarvi di errori. Cominciate anche il processo di scaricare e buttare fuori tutti i precedenti errori di pensiero. La malattia che avete avuto molti anni fa nella paura della morte ha in un certo senso impacchettato quel particolare ricordo di tale stato d'animo di paura nel vostro essere, e con esso la credenza che accompagnava tale ricordo. Quella convinzione ha lavorato contro di voi per tutti questi anni, come tutte le convinzioni sbagliate devono lavorare contro di voi. È letteralmente una parte del vostro vero essere, come tutti i ricordi e le esperienze individuali passate sono una parte letterale del nostro essere. È conservato nella vostra memoria spirituale, anche se il suo ricordo materiale può essere svanito. Quel ricordo è nel pensiero una realtà, ma è il ricordo di una falsa credenza che insegna che la morte e la decadenza non possono mai essere superate. Questa credenza, l'azione e lo stato invertito della vostra mente la scaccerà. Ma questa cacciata deve avere una corrispondente espressione nella carne. Le espressioni fisiche di tutte le vostre precedenti tossi e raffreddori, febbri e altre malattie, devono riapparire, all'inizio possibilmente gravi, ma gradualmente in una forma modificata. State quindi scaricando le vostre vecchie false credenze. Ma se la vostra convinzione non è invertita e continuate come prima, considerando il decadimento fisico e la morte come inevitabili, allora, con ogni malattia, in tale condizione mentale, voi impacchettate un altro errore, un'altra falsità e un'altra aggiunta al carico di falsità, il cui effetto certo, aggiunto al resto, è di indebolire, schiacciare e infine causare la perdizione del corpo. Non c'è nessun periodo nella vita fisica, troppo tardi, per ricevere o intrattenere la verità. Non c'è un periodo troppo tardi perché tale verità inizi il suo processo di rinnovamento fisico, e anche se quella particolare vita fisica può non essere perpetuata, tuttavia lo spirito, ricevendo tale verità, riceve una forza che sarà di inestimabile valore per lui nel lato invisibile, e con il suo aiuto può essere in grado di costruire prima per sé stesso un corpo spirituale più perfetto, e il fine ultimo del corpo spirituale relativamente perfezionato è il potere di essere e vivere nei regni fisici e spirituali dell'esistenza a volontà. Se voi sostenete l'idea che gli uomini debbano sempre andare avanti come nel passato, perdendo i loro corpi, e debbano anche rimanere senza il potere di mantenere quei corpi in perfetta salute, allora mettete la vostra convinzione contro il fatto eterno che tutte le cose in questo pianeta stanno sempre andando avanti verso una maggiore raffinatezza, maggiori poteri e maggiori possibilità. La medicina e i rimedi materiali possono aiutare molto il processo di gettare. Un medico esperto e comprensivo di qualsiasi scuola può essere di grande aiuto. Tutto dipende dalla mente e dalla convinzione con cui prendete la medicina e il consiglio del medico. Se consideri entrambi come aiuti al tuo spirito nel gettare via un carico e costruire per te un nuovo corpo, tu dà in tale convinzione un grande aiuto allo spirito, così da gettare via e costruire. Ma se considerate sia la medicina che il medico come aiuti solo per il corpo e che anche un corpo che ritenete debba nel miglior dei casi indebolirsi e perire qualche volta durante i prossimi 30, 40 o 50 anni, vi caricherete di credenze nell'errore più velocemente di quanto le gettate via e il carico diventa alla fine troppo pesante per lo spirito da portare. Cosa fa sì che l'uomo o la donna siano piegati dall'età? Cosa causa le spallechine, le ginocchia indebolite e l'andatura vacillante? Perché credono solo nel terreno e nel deperibile. Lo spirito non è né terreno né deperibile, ma lo si può caricare letteralmente con una qualità terrena di pensiero che lo piegherà verso la terra con tale peso. Non è il corpo fisico dell'anziano che è piegato e inarcato, è quella parte che è la forza che muove il corpo, cioè il suo spirito, carico di pensiero materiale, che non può appropriarsi o assimilare, che diventa così piegato, inchinato e debole. Il corpo è sempre una corrispondenza esterna della vostra mente o spirito. Un corpo che si rinnova, si abbellisce, si rinfresca e si rafforza significa una mente dietro di esso che si rinnova sempre con nuove idee, piani, speranze, scopi e aspirazioni. La vita eterna non è la vita mezza morta della vecchiaia estrema. La persona che può vedere solo il lato fisico e l'espressione temporanea della vita, che mangia e beve, credendo che solo il corpo sia influenzato da meno mangiare e bere, che crede che il corpo sia sostenuto solo dalla forza generata dentro di sé e che non sia alimentato da un elemento invisibile proveniente dal regno spirituale dell'elemento, e chi crede che non esista altro che ciò che può vedere, sentire e percepire con il senso fisico, cioè la materia che è sempre il temporaneo e il deperibile, attira a sé soprattutto quelle forze e quegli elementi che causano il temporaneo e il deperibile, e questi, agendo nel suo corpo, lo rendono temporaneo e deperibile. La morte del corpo inizia con migliaia di anni prima di essere nelle loro bare. Il viso pallido e la pelle color pergamena significano una pelle mezza morta, significa una porzione del corpo in cui lo spirito opera il processo di gettare l'elemento morto e di assumere il nuovo in modo molto imperfetto. Nella freschezza dell'infanzia e nella prima giovinezza, lo spirito scaccia e assume più vigorosamente. Col passare degli anni, la falsità fu assorbita da quello spirito. La sua crescita nella conoscenza fu sempre più ritardata. I cambiamenti fisici di risposta divennero sempre più lenti. Il corpo comincia a mostrare i segni dell'età, cioè a morire, perché tale spirito era sempre meno nutrito di quell'elemento che porta a un costante rinnovamento del pensiero nuovo, che è nuova vita. La convinzione e la fede, nella debolezza e nella decadenza, prevalgono così tanto nella razza che la saggezza è spesso allegoricamente ritratta come un vecchio, grigio, calvo, inchinato e sostenuto da un bastone. Ciò significa una saggezza che non può impedire che il suo stesso corpo vada in pezzi. In quella forma di essere che viene chiamato il bambino, uno spirito o una mente che è entrata in possesso di un nuovo corpo, c'è per un periodo una saggezza spirituale maggiore di quando il bambino è fisicamente più maturo. È la saggezza inconscia dell'intuizione. È un periodo più aperto alla verità. Per questo motivo, fino all'età di 18 o 20 anni, i processi spirituali di gettare e assumere con il corpo sono più perfettamente eseguiti. Questi cambiamenti relativamente rapidi nel fisico mantengono la fioritura e la freschezza della giovinezza. Prima o poi, però, il processo spirituale superiore cessa gradualmente di operare. Le credenze nel falso, insegnate o assorbite da altri, si materializzano nel corpo, nonostante tutta la resistenza della mente superiore, espressa nel dolore e nella malattia. Il carico di credenze nel terreno e nel deperibile si accumula. Il corpo assume un aspetto in corrispondenza di tale pensiero. Alla fine, la mente superiore si rifiuta di portare un tale carico. Lo getta via e lascia un corpo morto. La morte del corpo è allora il processo finale per gettare via dallo spirito l'elemento più grezzo, che esso non può più usare o appropriarsi. Ma è molto desiderabile che lo spirito possa mantenere un corpo fisico che si perfezioni come lo spirito si perfeziona. Perché in tale uguaglianza di perfezionamento tra lo spirito e il suo strumento, la nostra crescita nella felicità è molto avanzata e il relativamente perfezionato arrotondamento delle nostre forze non può essere realizzato fino a che questa unione tra spirito e corpo non sia stata effettuata. Quando il Cristo di Giudea disse agli anziani di Israele del piccolo bambino, se non diventerete come questo bambino non potrete entrare nel regno dei cieli. Intendeva dire, come ci interpreta il testo, che essi dovevano diventare aperti a quell'afflusso di forza come lo era quello spirito, il bambino, in quel periodo della sua esistenza. Se tale afflusso fosse mantenuto, la giovinezza del corpo sarebbe perpetua. Il bambino è più guidato dallo spirito della persona adulta. È più naturale. Scarta la politica. Mostra apertamente chi gli piace e chi no. Spesso ha più intuizione. Non amerà un uomo o una donna cattivi quando i suoi genitori non vedono il male in quella persona. Sa, o piuttosto sente, molto di più riguardo alla vita, di quanto i suoi genitori non gli diano credito. Ma non può esprimere i suoi pensieri e parole. Eppure i pensieri sono ancora lì. Non ha imparato ad addestrarsi all'usanza bifronte del mondo, che ti sorride in faccia e soghigna alle tue spalle. È relativamente naturale. Il suo spirito per un certo tempo si dà libera espressione. Quando lo spirito perde questa libertà di espressione, quando fingiamo ciò che non siamo, quando diciamo sì esteriormente e pensiamo no interiormente, quando facciamo la corte solo per ottenere un favore, quando proviamo rabbia o delusione o irritazione dentro e fingiamo contentezza e felicità fuori, diventiamo sempre più innaturali in tutti i gusti e desideri. Smussiamo e per un certo tempo distruggiamo tutti i sensi e i poteri spirituali superiori. Diventiamo incapaci di distinguere la verità dalla falsità. Non siamo in grado di sentire spiritualmente cosa significhi la fede, tantomeno di attirare a noi questo grande e indispensabile potere. E senza questo potere di attrazione, il corpo fisico deve essere abbandonato dallo spirito. Il corpo nel morire non abbandona il fantasma. È il fantasma, lo spirito, che rifiuta il corpo materiale. Il suo spirito, scacciando l'incredulità, diventa sempre più accessibile ai pensieri e alle cose che sono vere, e quindi cresce a una potenza sempre maggiore. Esso opererà, agendo in tutte le parti e funzioni del corpo, il processo di scissione sempre più rapidamente, come fa nella gioventù materiale. Rifiuterà o rispingerà, attraverso i sensi fisici del tatto o del gusto, tutto ciò che potrebbe ferirlo o adulterarlo. Può raggiungere un tale potere anche un veleno attivo, se messo accidentalmente in bocca. Verrebbe immediatamente individuato e respinto. O se ingoiato, verrebbe immediatamente scacciato dallo stomaco. Non è lo stomaco fisico che respinge il cibo non adatto a lui, o scaccia la dose nauseabonda. È lo spirito che muove l'organo a tale azione, attraverso una coscienza propria, che la sostanza scartata non è adatta a lui. È così inadatta perché non c'è spirito né qualità nell'elemento scartato che possa assimilare e aiutare lo spirito. Man mano che il vostro spirito cresce in potenza, questa sensibilità a tutte le cose che possono fargli del male, siano esse del mondo visibile o invisibile delle cose, aumenterà. Diventa sempre più acuto all'avvicinarsi o alla presenza di tutto il male. E lo scaccia. Ti avvertirà istantaneamente della persona malvagia o che progetta. Vi dirà cosa è sicuro e adatto alla vostra associazione. Infine, scaccerà o rifiuterà di ricevere tutti i pensieri malvagi che ora potete ricevere inconsciamente e che fanno più male di qualsiasi cosa materiale, perché da essi lo spirito è avvelenato. Man mano che la fede aumenta, molti aiuti materiali saranno chiamati dallo spirito, che aiuteranno molto i processi di rinnovamento. Questi aiuti arriveranno nella selezione dei cibi, nella scelta di associazioni appropriate e in altri cambiamenti di abitudini e costumi. Ma è lo spirito che deve suggerire e dirigere questi aiuti materiali. Quando tale suggerimento arriva, sarete obbligati a seguirlo. Il cibo da evitare non potrete mangiarlo. Il vostro gusto lo rifiuterà. L'associazione dannosa per te non sarà in grado di tenere compagnia. L'abitudine da cambiare cadrà facilmente e naturalmente. Ma se fate delle regole rigide per voi stessi in queste questioni, nella speranza che tendano a spiritualizzarvi, state permettendo al sé materiale di prendere in mano la questione. La mente materiale o inferiore sta allora cercando di dare la legge e le regole e di perfezionare l'io spirituale o superiore. Lasciate che lo spirito, aumentato nella fede, faccia il lavoro. E quando arriverà il momento di rifiutare qualsiasi cibo animale o qualsiasi elemento grossolano in qualsiasi forma, il desiderio e il gusto per questi saranno spariti. Nell'affermare la nostra convinzione che l'immortalità della carne sia una possibilità, non deduciamo che sia una possibilità che chiunque ora, fisicamente vivo, possa realizzare. Né deduciamo che sia una di quelle che non possono realizzare. Né sosteniamo che le persone debbano immediatamente mettersi al lavoro in qualche senso materiale per vivere per sempre. Riteniamo solo che sia un risultato che deve venire prima o poi di quell'evoluzione dello spirito o crescita, dal più grezzo al più fine, che ha sempre operato su questo pianeta e su ogni forma di materia. La materia è lo spirito temporaneamente materializzato, in modo da essere evidente al corrispondente senso fisico. Man mano che cresciamo nella fede di questi processi spirituali per buttare fuori il vecchio e prendere il nuovo, e di conseguenza realizziamo la conseguente maggiore raffinatezza o spiritualizzazione del corpo, aiuteremo sempre di più coloro che ci sono più vicini nel lato invisibile della vita. Perché man mano che diventiamo più spiritualizzati nella carne, essi vengono aiutati a materializzare di più lo spirito. In altre parole, diventeremo fisicamente tangibili l'uno all'altro, perché nel pensiero materiale che gettiamo via esiste un elemento di cui essi possono appropriarsi per rendersi più materiali. Anche i loro corpi spirituali sono sotto le stesse leggi per quanto riguarda il processo di gettare e prendere. Ciò che essi gettano via come più grossolano per loro è il più fine e adatto per noi, questo elemento che assorbiamo spiritualmente. È per il tempo e la condizione un certo cibo e vita spirituale per noi. Per mezzo di ciò che buttano via, siamo aiutati a spiritualizzare il corpo. Attraverso ciò che noi gettiamo via, loro sono aiutati a materializzare lo spirito. Hai ascoltato I pensieri sono cose Come utilizzarli per creare la vita che desideri Di Prentice Malford Traduzione dall'inglese ed edizione audiolibro 2021 a cura di David De Angelis Narrato da Vita Wolf Tutti i diritti sono riservati Dimamente La seconda Grazie a tutti Melbourne